Buongiorno a tutti, benvenuti a tutti i relatori, i moderatori, i scritti, i numerosi studenti. Questo convegno, vecchie e nuove sfide in cardiologia dello sport, io sono il professor Romano, sono il docente di cardiologia di questa università. Ora, questo convegno si pone, come vedete, dalla scritta nell'ambito del percorso formativo dell'Università dell'Aquila, che è diventata da quest'anno Provide RCM, e nell'ambito del percorso formativo del Master di secondo livello di cardiologia dello sport, è a cavallo tra l'edizione di quest'anno e l'edizione dell'anno precedente, ed è a cavallo tra il ruolo di coordinatore della professoressa Maria Penco che ho qui accanto a me e il mio ruolo di coordinatore di quest'anno. È un argomento interessante, è un argomento di punta su tanti aspetti, saranno affrontate tante tematiche interessanti. Abbiamo elaborato il programma insieme al professor Sciarra e, ripeto, insomma, avremo anche l'esperienza di alcuni dei studenti, dei medici che si sono diplomati nel Master di quest'anno previsto appunto nel programma. Quindi vi do il benvenuto, do il benvenuto anche da parte delle autorità accademiche per problemi legati al Covid, alcuni non possono essere qui presenti, ma mi hanno pregato di portare i saluti il magnifico Rettore, il Direttore del Dipartimento e il Presidente dell'Ordine dei Medici, tutte istituzioni che, come vedete, hanno dato il patrocinio a questo convegno. C'è una parola per un saluto al professor Sciarra e poi per un po' un tradugnonna alla professoressa Penco. Prego Luigi. Sì, io sono benissimo e per me è veramente un piacere, oltre che un onore, essere qua stamattina. Abbiamo molto a cuore le tematiche riguardanti la cardiologia dello sport, stiamo cercando di convincere e abbiamo avviato un percorso, stiamo cercando di proseguire un percorso avviato da maestri veri e propri che abbiamo l'onore di avere qua con noi stamattina, il professor Paolo Zeppilli, la professoressa Penco, sarà collegato il professor Domenico Corrado, che come vedete hanno fatto veramente la storia della cardiologia dello sport italiano. Per cui è una particolare soddisfazione che vi vedo così numerosi e sono sicuro che questa giornata sarà un motivo di arricchimento, di condivisione in un clima che cerchiamo di tenere anche colloquiale per poterci scambiare fra noi delle opinioni. Ecco, vedo il nostro magnifico lettore che invito qui al palco per dare un suo saluto accademico. No, no, siamo precisi, ma noi siamo... Sei entrato con una puntualità da prima donna, guarda. Siete ultra precisi o sbagliato orario, magari era il 7 e mezza. Vabbè, comunque, grazie magnifico per l'attività. Ce l'ha fatta, sono contento di averci l'ha fatta. Come si usa in queste circostanze, do il saluto del padrone di casa. Qui siete nell'aula Clementi del Dipartimento di Scienze Umane, che è il polo centrale della nostra università. È uno di quelli più nuovi, che ha resistito meglio, diciamo, agli eventi avversi che ci hanno colpito. Per cui qui l'attività non si è mai interrotta e è diventata un pochino il luogo preferenziale di incontri, perché la posizione è ideale. Oggi è una giornata bella. Ringrazio gli organizzatori, la professoressa Penco, i suoi colleghi, per questo evento importante, che va a toccare tematiche veramente di elevato profilo, nel senso che, vabbè, la cardiologia, l'importanza della cardiologia, l'importanza dell'impatto delle patologie cardiovascolari è arcinoto. Io la prima lezione che faccio nel mio corso di laurea, interrogo gli studenti, sapete qual è la prima causa di morte nella popolazione? Tutti sbagliano, perché non sono medici, perché sono biotecnologi, però spiego loro, Luigi, che in realtà si tratta di patologie relative al cuore. E lo sport è, vedo la professoressa Vinci Weber, schierata in prima fida, e anche Marco De Angeli. E' un'altra cosa molto importante, perché con una umanità che si sposta, diciamo, da un punto di vista dell'età, verso l'età più avanzata, dove a volte i farmaci possono poco, soprattutto in virtù della tipologia, delle patologie degenerative che colpiscono gli individui, a volte l'intervento sportivo somministrato in maniera adeguata, in maniera corretta, e qui cito due cose che abbiamo approvato ieri in consigli di amministrazione, i progetti palestre in salute e palestre sicure, che mirano proprio a questa attività, utilizzare lo sport come presidio per alcune patologie che da esso possono trarre il beneficio a patto che le cose siano fatte bene. Quindi una giornata bella, una giornata in cui emergeranno tutti i saperi degli illustri partecipanti e dei miei colleghi dell'Università dell'Aquila. Io vi auguro veramente, e lo auguro agli studenti, che possano portare a casa tante informazioni utili per il loro futuro. Io non mi posso fermare qui molto, sarò due minuti, poi devo andare altrove. Però ecco, vi ringrazio per l'invito, ci tenevo molto ad esserci, perdonatemi per il lieve ritardo, la prossima volta che i cardiologi organizzeranno un evento sarò con dieci minuti in anticipo, quindi eviterò la brutta figura. Grazie, buon lavoro. Grazie, grazie Patitico per il saluto, per la presenza, per l'affetto che hai sempre dimostrato per la cardiologia e per la cardiologia dello sport. Vorrei invitare il Presidente dell'Ordine di Merce della provincia dell'Aquila a fare anche lui il suo saluto, veramente grazie Maurizio. Grazie a voi per avermi invitato. È un piacere questi giorni vedere tanti eventi, quindi si sta risvegliando l'Aquila in tutto e per tutto. Abbiamo avuto due anni di sopore e quindi questo risveglio è molto piacevole. L'argomento che trattate è molto interessante e lo vediamo tutti i giorni, lo leggiamo sui giornali. Chiaramente lo sport deve essere qualcosa di piacevole, non deve essere mai portato al limite e deve essere fatto in modo migliore e che la cardiologia sia importante. Abbiamo visto ultimamente un giocatore di Serie A famoso, il quale è andato in arresto durante una partita e adesso ha ripreso a giocare, quindi vuol dire che ha avuto un'ottima riabilitazione. Ringrazio il Professor Romano e la Professoressa Penco con cui ho di piacere anche di lavorare assieme. Per alcuni anni io sono un otorino ringoiatra e lei ovviamente è una cardiologa, ma lavoravamo nella stessa struttura. Cosa dire dello sport? All'inizio della mia professione ho fatto anch'io un po' di medicina dello sport, medico dello sport. Per guadagnare qualcosa andavamo a fare l'assistenza. Ho fatto assistenza all'Aquila Reggae, ho fatto assistenza a vari tipi di sport e abbiamo fatto anche qualche pubblicazione che purtroppo è andata nel dimenticatoio. Ricordo una pubblicazione molto interessante, ci fu richiesta in campo internazionale fatta con il Professor Leonardis, di cui voi non sapete nulla, ma il Professor Leonardis è stato un capo scuola dell'anestesia e rianimazione internazionale. L'Aquila è stata la prima città dove è stata fatta la peridurale come anestesia in Italia e forse tra le prime d'Europa. Studiamo i calciatori vedendo se c'erano dei disturbi dell'equilibrio dopo una partita e scoprimmo che allora esisteva lo stopper, che era quello che dopo una partita aveva problemi di equilibrio per i colpi di testa che dava. E furono fatti dei lavori molto belli, calcolando la velocità della palla, la velocità di impatto dei calciatori e anche la superficie di impatto della palla, perché ovviamente fortunatamente non è rigida ma elastica. Si sono fatte tante cose e si sono perse, quindi è bene approfondire questo perché lo sport si sta allargando fortunatamente, però con tutte le attenzioni che si devono porre specialmente a livello cardiologico. Io vi auguro una buona giornata e buon lavoro sicuramente. Rimarrei però perché è scritto all'ordine di Aquila, sa che oggi abbiamo l'assemblea degli iscritti, quindi purtroppo vi dovrò lasciare e andare a preparare l'assemblea che ci sarà al mezzogiorno qui all'Aquila. Grazie, buon lavoro, grazie ancora al professor Romano, alla professoressa Penco, grazie a tutti voi e buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie. Prego, alla professoressa Penco che dà un saluto e poi inizia la prima sessione. Vorrei dare qualcosa di più di un saluto Silvio, perché l'ultima volta che ho messo piede in quest'Aula, che come ricordava il Rettore è una delle poche strutture didattiche che si è salvata dal terremoto e qui ci siamo visti in tutte quante le occasioni. L'ultima per me, perlomeno, anche perché poi sono cominciate le occasioni online, abbiamo cominciato la nostra vita dietro i computer, è stata proprio a gennaio del 2020, invitata da Carmine Marini, c'era l'assessore Verì all'epoca, a cui rivolsi l'accorata preghiera della cardiologia degli ultimi 30 anni, il Rettore sa bene di che cosa si tratta, chi conosce la cardiologia e le persone che sono qui vicino. Oggi essere qui dopo tutte le vicissitudini passate dal gennaio del 2020 a oggi, guardo il Rettore in particolare, non devo guardare né Luigi né Silvio, guardo il Rettore in particolare perché sono successe molte cose, ed essere qui oggi, io adesso sono una FR o una ARR, non saprei come poter dire, sono nel frattempo a riposo, diciamo così, anche se non mi riposo e mi fa piacere essere qui perché di fatto questo è l'evento conclusivo del Master di cardiologia dello sport. Farlo con Silvio che ha sempre vissuto la cardiologia dello sport e farlo con Luigi che è il neo associato di cardiologia dell'università, che è presidente della società di cardiologia dello sport e per me ha un significato davanti a questa platea, davanti a tutte le persone e mi rivolgo in particolare al gruppone degli studenti che sono sopra è, come dire, rinnovare una tradizione culturale che correrà nell'arco di tutta questa giornata, che è la cardiologia dello sport, avete sottolineato come importante come tema. Culturalmente la cardiologia dello sport nasce tantissimi anni fa e io in qualche modo ho avuto l'onore di seguire anche con persone che oggi non ci sono più, ma Paolo Zeppilli è qui a testimoniare la sua amicizia nei confronti dell'università. Mi ricordo il primo Master di cardiologia dello sport, che è stato il primo in Italia finanziato con fondi europei fatto dall'Università dell'Aquila, in cui con le tematiche chieste dall'Europa noi facemmo venire qui i massimi esperti a livello italiano e Paolo se lo ricorderà perché era un evento in presenza, erano tutti quanti medici dello sport ma anche cardiologi e fu il primo a cui poi sono seguiti anche altre università che con molto ritardo l'hanno fatto. Quindi la sollecitazione di alcuni anni fa, devo riconoscere, la sollecitazione di Luigi Sciarra nell'attivare di nuovo un Master di cardiologia dello sport all'Aquila è stata raccolta molto piacere da parte mia perché parliamo del 2008 se non sbaglio, quindi nel 2008 c'è stato un Master e tutti i medici dello sport abruzzesi, perché sono stati veramente abruzzesi, hanno preso il Master di cardiologia dello sport, ne sanno qualcosa di più di cardiologia e di cardiologia dello sport che è una disciplina in qualche modo collegata ma con le sue leggi particolari e quindi ho introdotto la cardiologia dello sport quando ho fatto il Presidente del corso di laurea in medicina nell'ordinamento didattico perché la cardiologia dello sport gli studenti la debbono conoscere perché non è la cardiologia, è qualcosa di diverso, attualmente la insegna se non sbaglio la polisociale, no, infatti molti studenti pensano che è colpa tua quindi questa cosa. Mi potete ringraziare perché ricevete sicuramente degli ottimi insegnamenti, quindi per me oggi concludere questo percorso del nuovo Master dove ci sono degli iscritti che sono qui presenti ma ci sono anche gli specializzanti ha un significato di un percorso iniziato tanti anni fa, iniziato anche quando ancora ero docente a Roma e diciamo che non ritengo concluso perché la cultura non va in pensione per fortuna, vanno in pensione le persone perché è giusto che ci siano delle persone più giovani con energie più intatte e con un numero spero per loro inferiore di ferite perché insomma qui all'Aquila di ferite non me ne sono mancate insomma ecco quindi, ma no, io guardo te mica perché me l'hai fatta te, sappiamo bene vabbè, è chiuso perché insomma questa cosa poi alla fine, com'era che dicono i cinesi che le ferite vanno diciamo sottolineate con loro perché vanno contenute sono dei valori, quindi io ce l'ho tutte quante indorate, spero per voi che non ne abbiate altre tante, comunque se ci saranno saranno indorate, finisco, vi ringrazio della presenza mi fa molto piacere salutare Donato e salutare Maurizio, lui ha ricordato la nostra comune militanza, chiamiamola così perché era quasi una militanza quella, è coraggiosa anche come militanza, in anni in cui eravamo più giovani ma anche è stata una collaborazione profigua nella clinica Sanatrix che ora giace lì praticamente sotto i colpi inferti dal tempo e dagli uomini insomma e quindi questo è un peccato, detto questo mi taccio perché ho detto quello che dovevo dire e forse anche qualcosa di più, ringrazio tutte le persone che sono intervenute, le autorità ma anche tutti quelli che parteciperanno, poi tra l'altro le cose, siccome modero cercherò di essere moderata dando la parola al Dottor Manofi di non parlare di più. Grazie, tu ringrazio ma siamo noi che ti ringraziamo perché questo momento di oggi è possibile per il percorso che hai iniziato e costruito. Te lo ricordi che si faceva nel refettorio di Collemaggio? Sì, sì, come no. Bene, iniziamo la prima sessione quindi cedo la parola ai due moderatori per la prima sessione. Io ho detto abbastanza, prego Dottor Manofi, le passo la parola. Buongiorno a tutti, felicissimo di essere tornato nella mia città. Io direi di iniziare subito con il primo relatore, Dottor Cavarretta, che ci parlerà del prolasso mitralico nello sportivo, condizioni innocente o predittore di morte improvvisa. Credo che le condizioni ci siano tutti per partire con frizzi e lazzi. Buongiorno a tutti, ringrazio la professoressa Penco, il professor Romano e il professor Sciorra per il cortese invito. È veramente un piacere essere qui con voi oggi. Devo solo capire com'è. Eccolo. E vi parlerò di quella che è la valvolopatia più diagnosticata nel mondo industriale. Non è detto che sia in assoluto la più frequente, però sicuramente è quella che inizialmente è stata overdiagnosticata e distribuita un pochino a pioggia nei pazienti, dovuta a un'assunzione che poi si è rivelata errata, ma ci sono volute tecniche di imaging più avanzata, c'è voluto l'apporto del tridimensionale, per dimostrare che in realtà quella che era inizialmente overdiagnosi era dovuta proprio all'aspetto a sella, quindi non a un anello mitralico su due dimensioni assolutamente rigido, ma a questo aspetto assolutamente arcuato e a seconda del punto in cui viene tagliato può generare una certa confusione. E questo ha portato ovviamente a un'iniziale prevalenza estremamente alta del prolasso della mitrale, che adesso si è assestato intorno a un 2-3%, ma nonostante questo il prolasso della mitrale, la conosciamo come malattia, in realtà è uno spettro di patologie che passa da una forma che è quella più conosciuta in assoluto, dominata dall'eccesso di tessuto, tipica del Barlow che vedete alla destra, in cui ci sono questi lembi estremamente ridondanti, quasi esagerati, alla forma invece completamente opposta che è quella della deficienza fibroelastica, che ha delle caratteristiche completamente diverse, con dei lembi quasi assottigliati, quasi traslucidi in alcuni punti. E queste differenze macroscopiche sono presenti anche a livello microscopico, anche a livello strutturale, c'è proprio una differente composizione della matrice extracellulare, sia nella componente fibrosa che nella componente spongiosa. E anche a livello di caratteristiche cardiografiche, la deficienza fibroelastica presenta dei lembi che possono apparire quasi assottigliati, quasi sottili, quasi normali o addirittura più sottili del normale, che però ovviamente presentano questo movimento esagerato che risale al di sopra del piano dell'anulus e che può andare in contradottura di corda, tanto quanto la malattia di Barlow, che come vedete proprio anche nel confronto delle immagini presenta questo importante allargamento dell'anulus, questo aspetto del lembo quasi mammellonato con queste piccole indentature dovute proprio all'accesso di tessuto tipico della patologia. E parto con un primo caso clinico che di solito vale più di altre mille parole. Questo è un triatleta di 30 anni che sa di avere un progresso della mitrale da più di 10 anni, non ha sintomi particolari, non ha una storia familiare, portatore di un soffio e ha un elettrocardiogramma tipico dell'atleta di endurance quale lui è, dominato da una bradicardia sinusale piuttosto marcata con una ripolarizzazione precoce e assenza di altre caratteristiche maligne. Il suo ecocardiogramma presenta un prolasso prevalentemente del lembo posteriore, uno su due, eccolo, e parte anche il secondo con un'insufficienza centrale che origina tra A2 e P2, la vena contracta non è particolarmente significativa, le dimensioni del ventricolo sono sicuramente aumentate ma compatibili con la disciplina che lui pratica e quindi anche se quando vengono indicizzate comunque per il suo BSA risultano assolutamente compatibili con un cuore d'atleta di un triatleta più che legato alla caratteristica della sua insufficienza mitralica che appare di grado lieve e moderato con insufficienza telesistolica come vedete al continuo, ma una normale frazione di iniezione. Alla prova da sforzo non ha aritmie, non ha alterazioni particolari e se andiamo a vedere quelle che sono le caratteristiche di malignità del prolasso della mitrale, ovvero quelle caratteristiche che devono un pochino porre l'attenzione indipendentemente dal grado di insufficienza valvolare ma soltanto dalla presenza della tipologia di tessuto, vedete che in questo caso la maggior parte di queste caratteristiche di malignità sono assolutamente assenti, lui ha un prolasso biliflet da Barlov con un tessuto non particolarmente eccessivo però per ovvi motivi non ha fatto la risonanza. E qual è la storia naturale del prolasso della mitrale? Il prolasso della mitrale è associato a una bassa percentuale di eventi e associato comunque a una mortalità, ma i fattori di rischio associati a problematiche legate al prolasso della mitrale, diciamo a tutto il range di prolasso della mitrale, sono prevalentemente legati a una riduzione della frazione di iniezione che dimostra un danno ventricolare sinistro e la presenza di un'insufficienza mitralica almeno moderato. Altri fattori di rischio legati al prolasso sono l'effetto emodinamico dovuto all'insufficienza mitralica, quindi tendenzialmente la presenza di un ingrandimento atreale sinistro, la presenza di fibrillazione atreale e la tipologia di flail, quindi quando nel prolasso della mitrale avviene la lettura di corta che comporta un'insufficienza mitralica severa ad insorgenza acuta. E appunto la storia naturale del prolasso, come vedete, soltanto in presenza di quello che è uno dei fattori di rischio primari ha effettivamente un'incidenza di eventi correlati alla presenza di prolasso molto alto, mentre nelle altre categorie ha una prognosi assolutamente benigna. E a livello proprio di evoluzione, di storia naturale del prolasso, le prime anomalie sono anomalie anulari, dilatazione anulare e il movimento sistolico tipico dei lembi a cui si può associare almeno la disjunzione mitroanulare. In una seconda fase c'è un rimodellamento delle lembi e delle corde che determina poi la comparsa dell'insufficienza mitralica e che poi può progredire anche in modo molto rapido quando non soltanto c'è l'estremo allungamento delle corde, ma può avvenire appunto il fenomeno improvviso della rottura di corda. E come queste caratteristiche hanno un impatto a livello prognostico? In questo studio molto recente in realtà sono state divise le tipologie di pazienti a seconda del tipologia di coinvolgimento se ventricolare, atriale oppure sullo ventricolo destro. E come vedete quando vi è un coinvolgimento da parte del ventricolo destro peggiora la sopravvivenza nel gruppo perché ovviamente c'è una progressione di malattia particolarmente evidente. Ma vorrei focalizzarmi sui primi due gruppi che sono quelli che nell'atleta in qualche modo si riguardano più da vicino. Uno perché l'atleta a un certo punto potrebbe essere bloccato nella sua attività proprio a causa della progressione di patologia e due perché l'ingrandimento ventricolare e l'ingrandimento atriale sono anche delle caratteristiche non soltanto tipiche della valvulopatia mitralica ma anche del cuore d'atleta e in particolare dell'atleta di endurance. Quindi a volte può essere difficile discriminare con assoluta certezza il grado di modificazione indotta dall'allenamento intenso e quanto invece è attribuibile alla valvulopatia presente. Ovviamente nell'atleta non c'è soltanto la progressione della valvulopatia con le caratteristiche che questo comporta negli atleti e nei pazienti, c'è anche la componente legata all'esercizio fisico e quindi quella componente adrenergica legata anche alla tipologia di attività che può in qualche modo contribuire allo sviluppo o a un peggioramento dello rimodellamento indotto da entrambi le componenti. Ma non finisce qui perché in realtà già dagli anni 70 si sa che ci sono stati dei casi di morte improvvisa in cui l'unico doeperto cardiaco riscontrato è quello della presenza di un prolasso e questo ancora prima del 2015 che è un po' l'anno di cambiamento. Infatti già nel 2013 hanno stati identificati nei soggetti sopravvissuti a un arresto cardiaco alcune caratteristiche associate alla presenza di un prolasso della mitrale di fenotipo maligno perché era presente in questi soggetti già a etmie ventricolari complesse e polimorfe. Tant'è vero che hanno già state identificate delle caratteristiche come il sesso femminile, la malattia di Varlov con prolasso di entrambi i lembi, le ectopie ventricolari e delle alterazioni alle CG a riposo indipendentemente dal grado di insufficienza valvolare determinato dal prolasso. E sono proprio queste le caratteristiche che sono più importanti per quello che poi ha creato un po' di scalpore nel mondo della cardiologia e dello sport e più che altro ha portato una preoccupazione legata alla presenza del prolasso della mitrale. Infatti nel 2015 un importante lavoro di Cristina Basso ha messo in evidenza come non soltanto nella casistica autottica ma anche nella casistica dei pazienti, i casi andati incontro a morte improvvisa in presenza di prolasso della mitrale presentavano una fibrosi a livello della parete posteriore del ventricolo sinistro presente sia a livello macroscopico che a livello istologico-ultrastrutturale, un'importante fibrosi la cui posizione correlava non solo con la morfologia delle aritmie ventricolari e io e la tecnologia non siamo troppo amici ma anche con l'imaging in vivo alla risonanza magnetica della presenza di fibrosi di late enhancement al gadolinio evidenziato proprio nel luogo identificato dalla aritmia. e qui vi voglio presentare un altro caso clinico di un atleta con prolasso della mitrale in questo caso è un atleta più grande, sicuramente non di aronato, lui è uno sciatore però è master di 45 anni, sa di avere un prolasso della mitrale anche lui da diverso tempo non ha storia familiare, almeno non riferisce a storia familiare, non riferisce a sintomi però il suo tracciato di base è completamente diverso perché è un tracciato che è già eritmico e presenta delle eritmie ventricolari già a riposo e anche a livello di imaging vediamo un quadro nuovamente un barlow ma decisamente avanzato rispetto al caso precedente in cui la dilatazione anulare e la volumetria atreale sinistra sono estremamente aumentati e non possono essere certo attribuibili alla tipologia, al grado di attività ma piuttosto a questo importante prolasso da allungamento di corda del segmento P3 che vedete evidenziato dalla freccia e se andiamo a vedere i volumi ventricolari anche lui presenta dei diametri e dei volumi aumentati numericamente sovrapponibili all'atleta di prima ma con caratteristiche che non ci pongono anche il dubbio che questo sia un modellamento dovuto alla presenza di insufficienza mitralica severa piuttosto che alla tipologia di allenamento e appunto la tipologia di aritmie, la loro morfologia la presenza di blocco di branca destra, asse superiore ci in qualche modo non soltanto preoccupa il riposo ma all'oltre ci mostra anche la presenza di forme complesse infatti l'analisi, riscontrare un'aritmia ventricolare o alcune aritmie ventricolari in un atleta può essere non una cosa così anomala ma è la morfologia che deve essere analizzata per poter inquadrare correttamente se è un'extesistolia ventricolare degna di ulteriori valutazioni o meno e questo è uno screening decisamente importante nel proasso della mitrale nel sospetto di un dato aritmico in questo atleta se andiamo a vedere quali sono i campanelli d'allarme che ci devono far sospettare una forma aritmica come vedete ci sono già diverse tipologie che ci mettono in allarme e quindi questo è un atleta decisamente candidato non soltanto alla risonanza ma anche alla riparazione del proasso della mitrale e proprio insieme al professor Scharr abbiamo voluto sistematizzare un pochino la valutazione dell'atleta con una flowchart che prenda in considerazione non soltanto la tipologia di proasso della mitrale e il grado di insufficienza ma appunto la presenza di aritmie o altre caratteristiche ad alto rischio come vedete però alla fine di questa flowchart ci sono diversi punti interrogativi ovvero non c'è ad oggi un approccio univoco sicuramente è molto importante discutere questi casi non c'è un'indicazione specifica né alla chirurgia né all'ablazione però è importante identificarli per poterli in qualche modo indirizzare a un'attività fisica prescritta e non esporli a ulteriore rischio ma il punto fondamentale delle valvulopatie è a mio avviso come ci ha evidenziato anche il lavoro delle mitralie aritmiche di spostare l'attenzione non soltanto al grado e alla morfologia e alla tipologia di valvulopatia ma al miocardio perché il rischio della morte improvvisa è legato proprio alle modificazioni ultrastrutturali e alla presenza di fibrosi che si vengono a creare in condizioni di sovraccarico di pressione e di volume croniche e quindi il punto fondamentale è nel follow up di questi pazienti nel seguirli da un punto di vista di parametri ecocardiografici ovvio che la risonanza ci dà tante informazioni importanti ma non può diventare un esame di follow up a cui possiamo sottoporre il paziente quindi ci aiuta sicuramente a identificare l'alto rischio ma poi dobbiamo seguirli con dei parametri che possono essere riproducibili su tutto il territorio e quindi il punto fondamentale a mio avviso viene proprio nell'identificare quando il danno ventricolare non si è ancora presentato è estremamente iniziale perché quelli sono i pazienti che devono essere trattati sulla MAD mi soffermo molto velocemente perché in realtà è qualcosa che è diventato molto di moda adesso la disjunzione mitronulare ma che in realtà è molto poca definita come vedete in questo studio sulla prevalenza della MAD a seconda di come si venga definita la MAD se la presenza di una distanza tra l'anulse e il miocardio ventricolare di 2, 4, 6 mm a seconda di come vogliamo definirla cambia completamente la prevalenza di questa chiamiamola condizione perché definire la patologia ancora non è assolutamente stabilita come tale ma quale sia la modalità con cui scegliamo di valutarla come vedete cambia completamente la prevalenza dal 17 al 42% detto ciò in letteratura in realtà ci sono diversi lavori che iniziano ad imputare la disjunzione mitronulare come causa di morte improvvisa per sé addirittura in qualche modo scollegata dalla presenza o meno di progresso della mitrale tipo Barlov associate ad altre caratteristiche di malignità e come vedete la MAD si vede bene all'eco ma sicuramente si vede molto bene si può definire alla risonanza magnetica come la separazione che si crea tra la giunzione anulare e la parete atriale rispetto alla parete postero basale del ventricolo sinistro e anche qui anche in ecocardiografia come vedete in una revisione sistematica della letteratura tutti gli studi non sono assolutamente concordi né nel grado di definizione né nel grado di problematicità legato alla MAD quello che è certo è che nel determinare la componente di rischio legata alla presenza di un progresso della mitrale non dobbiamo soltanto considerare la problematica miocardica la problematica valvolare le caratteristiche morfologiche ed eventualmente ritmiche ma anche quelle che possono essere i fattori intrinseci e estrinseci legati alla pratica dell'attività sportiva e in conclusione non tutti i progresso della mitrale sono uguali e per lo più non sono pericolosi per il rischio di morte improvvisa ma sicuramente è necessaria una valutazione morfo funzionale che deve quantificare non solo il grado di insufficienza ma soprattutto l'impatto emodinamico sul ventricolo sinistro la cardioisonanza è sicuramente utile è sicuramente importante solo in presenza di caratteristiche di alto rischio e di aritmie ventricolari complesse ma non è assolutamente necessaria in un atleta con caratteristiche benigne di un progresso della mitrale e la disjunzione anulare mitralica deve essere ancora correttamente definita e valutata perché può essere considerata ad alcune una condizione aritmogenica di per sé ma questo deve essere ancora dimostrato e con questo vi ringrazio per la vostra attenzione e vi lascio all'interessante bene ragazzi perché faremo la discussione alla fine perché altrimenti rischiamo poi di sforare tanto grazie per avere descritto il vecchio e il nuovo voglio dire perché il prolasso è una delle prime conoscenze della ecocardiografia ai tempi del monodimensionale ma è evoluta come conoscenza è una malattia valvolare ma non è solo una malattia valvolare è una malattia benigna ma non è solo una malattia benigna perché può esserci quindi l'impegno da parte del medico dello sport del cardiologo e del cardiologo dello sport e poi andare a identificare quelli che sono i cosiddetti prolassi tu hai evitato mi sembra il prolasso maligno però insomma ci sono anche queste definizioni do la parola a Luigi Sciarra che credo di avere già abbondantemente presentato presidente della società di cardiologia che ci presenterà la relazione complessa di una condizione ritmica come la fibrillazione atriale e l'attività sportiva anche questo un argomento estremamente attuale alla luce del numero crescente di soggetti di età come dire non più giovanissima che si avvicinano magari con questa patologia prego Luigi grazie professoressa grazie a tutti quanti voi ancora una volta per essere presenti qua perché parliamo di fibrillazione atriale e sport e perché il titolo è una relazione complessa beh intanto diciamo che non siamo soli in questa nostra come dire in questo nostro obiettivo la società europea questa nelle non recentissime linee guida di guida addirittura affida un'entità nosologica individua come entità nosologica a sé stante la fibrillazione atriale negli atleti questo interesse in questa patologia in questo binomio che sembrerebbe un binomio a rischio non so cosa sia successo che non si vede più qui sullo schermo va bene la fai con la sì allora posso fare ma anche da seduto non è un problema e comunque io vedo benissimo ma non c'è problema è questa domanda che è una domanda anche un po' inquietante ma lo sport se ne è parlato già stamattina nella presentazione l'ha accennato anche il nostro lettore ma che è un mezzo per prevenire delle malattie cardiovascolari per far star meglio il cuore addirittura provoca fibrillazione atriale o meno e vedremo scientificamente questo è un paradigma che secondo me è molto utile anche per gli studenti che vedo qua numerosissimi per capire come scientificamente si possano come dire indirizzare i pensieri di una comunità scientifica verso un filone o verso un altro filone e quindi mantenere un'equidistanza di pensiero è sempre importantissimo certamente quando noi abbiamo a che fare con uno sportivo innanzitutto dobbiamo porci una domanda di base che tipo di soggetto abbiamo davanti a noi oggi si definisce sportivo anche chi fa una partitella a tennis la domenica mattina ben diverso è un soggetto che si allena in maniera sistematica sei volte a settimana anche con doppi tripli allenamenti per mantenere un livello di performance adeguato tralascio o metto tutto quel mondo che possiamo immaginare disommerso sia nel mondo agonistico dello sport che nel mondo del dilettantismo perché diciamo il mondo del doping soprattutto nel dilettantismo è un orizzonte ancora in parte da scoprire e molti dubbi circa quello che vi dirò stamattina derivano anche da questi lavori che addirittura pongono lo sport come uno dei mezzi migliori per prevenire non solo le mattie cartivascolai ma anche la fibrillazione naturale stessa ma come allora noi ci chiediamo se lo sport genera fibrillazione naturale ma qui qualcuno dice che addirittura lo sport previene la fibrillazione naturale a chi dobbiamo credere allora intanto cerchiamo di analizzare questi lavori e questi hanno generato una corrente di pensiero secondo alcuni miei nostri colleghi per la quale chi fa un certo tipo di attività fisica è quasi sicuro che quando sarà un po' più in là con gli anni se continua a fare un certo tipo di sport avrà fibrillazione adriale quasi come se lo sport di per sé fosse la causa dell'aritmia e diciamo questa meta-analisi che ha messo insieme un po' di lavori sembra andare proprio in questa direzione vedete una serie di studi che dicono sì in effetti certi tipi di attività hanno un rischio aumentato ma una prima critica che possiamo fare a un'analisi globale di molti di questi lavori è che noi dobbiamo sempre porci quando facciamo studi epidemiologici una domanda qual è il nostro punto di osservazione se io faccio un'analisi relativa all'incidenza di fibrillazione creare nello sportivo partendo dal mio ambulatorio di terzo livello alla di Lorenzo d'Avezzano dove vedo i pazienti che già voi e già i cardiologi mi selezionano perché me li mandano ovviamente creo un bias di selezione in effetti gli studi migliori sono quelli prospettici longitudinali che mancano in Italia mancano in molte parti del mondo quelli forse più bravi a farli sono i nord europei che hanno questa capacità sistematica di raccogliere prospetticamente il dato e in effetti in questi studi vedete questi sono più di 52 mila sciatori di fondo di resistenza addirittura notavano che proprio quelli più allenati proprio quelli più performanti erano quelli che nel follow up avevano un po' più di fibrillazione adriale ci sono dei meccanismi fisiopatologici che possono spiegarci questo binomio sì ci sono io ne ho messi solo alcuni ma possiamo smizzarrirci l'ingrendimento adriale lo streccio di paese sul latro l'infiammazione l'ipertono simpatico questo chi viene da me a lezione sa quanto insisto su questo cioè la modalità di insorgenza dell'aritmia ci sono alcuni sportivi sono la minoranza che fanno aritmie solo durante la performance ce ne sono tanti altri che fanno le aritmie solo a riposo di notte proprio per effetto dell'ipertono vagale e quindi una dinamica di insorgenza dell'aritmia diametralmente opposta possiamo immaginare i disturbi elettrolitici dove c'è un cattivo reintegro possiamo immaginare altro certamente il nostro dubbio è un dubbio che è venuto agli onori della cronaca questo è un prestigiosissimo editoriale fatto dalla che è su circulation che addirittura diceva a patto che lo sport possa determinare un po' più di aritmie comunque riduce la mortalità e quindi lo sport questi autori dovevano dire dobbiamo comunque incentivarlo ma quali possono essere se vogliamo invece analizzare un po' più criticamente questi dati che vi ho fatto vedere di fare un po' l'avvocato del diavolo è tutto vero quello che noi abbiamo letto fino adesso beh innanzitutto possiamo dire che ci potrebbe essere un bias di selezione come dice appunto il teorema di bias cioè che la probabilità che noi troviamo un evento è strettamente influenzata dal campione che stiamo esaminando cioè dalla probabilità pretesta c'è un numero ecco hanno ripristinato quindi posso spostarmi qua che parlo meglio in piedi ok e l'altra considerazione che possiamo fare è che c'è un numero veramente crescente chi si occupa di medicina dello sport sul territorio lo sa di atleti che a buona ragione si chiamano atleti agonisti che sono soggetti master che magari sono settantenni ottantenni che fanno la maratona e in questa popolazione di per sé la fibrillazione arteriale ha un'alta prevalenza noi sappiamo che nella popolazione generale la fibrillazione arteriale c'è nel 10% dei soggetti sopra gli 80 anni e quindi queste sono popolazioni che di per sé hanno un'alta prevalenza di fibrillazione arteriale può anche essere tra l'altro che noi scopriamo più fibrillazione negli atleti perché li studiamo meglio perché gli atleti ad oggi sono quelli che fanno una visita ogni anno quindi noi possiamo scoprire delle fibrillazioni arteriali asintomatiche perché li studiamo di più ma può anche essere come è capitato a qualche mio paziente atleta che si è accorto di essere fibrillante non perché aveva le palpitazioni ma perché andando a correre al campo mentre faceva gli allenamenti di corsa improvvisamente veniva superato da persone da amici diceva che lui distanziava di chilometri e quindi diceva ma che mi sta succedendo è andato a farsi visitare e abbiamo scoperto che aveva della fibrillazione arteriale la verità è che è molto difficile come vi ho già prospettato prima disegnare degli studi prospettici longitudinali perché ci sono tanti problemi ma studi che quasi mai vengono riportati da chi parla scusate sia un'altra volta spostare che non vengono quasi mai prospettati quando si parla di fibrillazione arteriale e sport ad esempio ce n'è questo che è uno studio pubblicato sull'European Junior Operative Cardiology che ha seguito prospetticamente una popolazione per ben 12 anni di follow up pensate uno studio di 12 anni di follow up che ha diviso questa popolazione in terzili in base all'attività fisica il sorprendente risultato che nel terzile dei soggetti che facevano più attività fisica non c'era nessuna aumentata incidenza di fibrillazione arteriale e se andiamo a vedere questa straordinaria metanalisi anch'essa un po' dimenticata fatta dagli epidemiologi che hanno messo insieme un milione e novecentomila partecipanti un milione e novecentomila persone seguiti prospetticamente ebbene questi dicevano che non c'era nessuna correlazione tra lo sport e l'incidenza di fibrillazione arteriale addirittura nel sesso femminile lo sport anche di endurance è protettivo mentre nel sesso maschile sembra che ci sia un po' più di fibrillazione arteriale e questo mi dà un effetto neutro sulla popolazione generale sono contento perché qualche volta diciamo le nostre idee già pubblicate nel 2005 abbiamo avuto modo di confermarle e diciamo in quasi vent'anni non abbiamo cambiato idea cosa stiamo perdendo e questo mi fa piacere che ci sia il professor seppilli in aula che adesso è distratto perché sta rivedendo la sua presentazione distratto da professoressa Penco mi piace sempre mettere una di positiva degli ultimi casi capitati noi stiamo smettendo di ragionare sull'ateleta con fibrillazione arteriale ci sono dei contesti in cui la fibrillazione arteriale è un dramma questo è solo un esempio ne abbiamo parlato ieri a lezione con chi era con me a lezione questa è una fibrillazione arteriale di un paziente che aveva un wall parkinson white e diventa un'emergenza ritmica in cui una fibrillazione arteriale può diventare quasi una fibrillazione ventricolare o quando la fibrillazione arteriale è soltanto lo specchietto per le allodole di qualcos'altro questo è un soggetto di 19 anni che esordisce un giocatore di pallacanestro che esordisce con una fibrillazione arteriale normofrequente persistente aritmia che siamo abituati a vedere in soggetti molto più anziani di 80 anni perché perché lui aveva un deficit genetico sottostante che era responsabile anche del suo quadro clinico con una effiglia ovviamente depressa e quindi era un malato non era uno sportivo che aveva fibrillazione arteriale certamente nello sportivo i problemi ci sono anche problemi relativi al trattamento una popolazione di soggetti che fanno attività atletica importante ad esempio poco tollerano terapie farmacologiche che sappiamo essere inficiate anche da tanti effetti collaterali ma perlomeno quando scegliamo un farmaco nei nostri atleti consideriamo il meccanismo di innesco vi ho detto se noi abbiamo una fibrillazione arteriale in un atleta prevalente innesco vagale e a questo soggetto diamo un beta bloccante è probabile che noi peggiorariamo la sua aritmia se invece abbiamo un soggetto che ha una fibrillazione durante performance magari il beta bloccante potrebbe essere efficace e l'ultima parte della mia relazione è dedicata a questa domanda perché io mi occupo di questo ma se noi abbiamo un mezzo che può eliminare efficacemente la fibrillazione arteriale quale l'ablazione perché non la disponiamo in ampia misura a tutti gli atleti li guariamo sono tutti idonei ecco ovviamente questo ragionamento non tiene e voglio dimostrarvi perché sicuramente l'ablazione nell'atleta funziona funziona molto bene funziona come nel monatleta questo studio fatto dal professor Furlanello che è un altro dei nostri padri della cardiologia dello sport italiana ce lo dice già nel 2008 però abbiamo qualche difficoltà quando dobbiamo andare a giustificare una terapia su ampio spettro quando alcuni studi come questi ci dicono che le percentuali sono un po' lontane dal 100% di successo questo è uno studio fatto per confrontare due tecniche una tecnica a caldo una tecnica a freddo e ci fa vedere che in effetti noi non sterminiamo la fibrillazione quindi se un soggetto viene da noi e ci dice dottore mi hanno fatto non idoneo perché ho la fibrillazione mi fa l'abrazione così divento idoneo no non è un approccio che la nostra società scientifica anzi la nostra società osteggia anche perché non è giustificato scientificamente e allora come ci dobbiamo muovere dobbiamo innanzitutto ragionare sul meccanismo della fibrillazione nel simbolo soggetto che nell'atleta può essere determinante cioè non dobbiamo ragionare mettendo al centro delle nostre scelte la procedura noi non stiamo giustificando una procedura negli atleti stiamo giustificando una cura che possiamo predisporre per il nostro atleta è ovvio che la tecnologia oggi ci consente di curare meglio moltissime persone di eliminare la fibrillazione in molti soggetti con percentuali di successo sempre in aumento e complicanze sempre in decremento questo è un dato di fatto incontrovertibile il modo in cui lavoriamo nelle sale di elettrofisiologia oggi non è nemmeno paragonabile a quello che soltanto diventa anni fa ma anche su questo secondo me stiamo perdendo del terreno chi lavora con me lo sa insistiamo molto nel ricostruire quell'aritmia in quel dato paziente l'aritmia non è lo stesso contenitore in ogni soggetto ma è diversa da soggetto a soggetto e ci sono tre attori fondamentali che intervengono che sono i trigger che accendono l'aritmia questo è vero per qualsiasi aritmia un substrato che tiene l'aritmia accesa e dei fattori modulanti che sono proprio quelli che vi dicevo prima un sistema vagale un ipertono simpatico e questi tre attori non sono equamente distribuiti in tutti gli atleti questa è un atleta di 26 anni che è stata guarita dalla fibrillazione perché aveva un unico focolaio che induceva fibrillazione atriale quest'altro è un altro atleta guarito a questo veramente gli possiamo dire se dopo tre mesi lei non ha episodi ritorni a fare agonismo perché aveva un attacchi cardia parossistica che innescava la fibrillazione atriale chi critica il nostro appoccio ci dice questo è un altro atleta siciliano chi critica il nostro appoccio dice che noi che noi diciamo curiamo poche persone non è vero perché sono circa il 10% della popolazione che viene inviata alle sale di elettrofisiologia e che descrivono un sottogruppo che spesso riguarda giovani e riguarda soggetti in cuore sano gli atleti guarda caso quindi se c'è un atleta con un cuore sano che va in fibrillazione atriale non pensiamo che è lo sport che gliel'ha provocata ma pensiamo a qual è il meccanismo della sua aritmia e così forse se lo curiamo lo curiamo anche meglio come questa pallabolista che è stata curata da un'ablazione puntiforme perché avevamo capito in realtà qual era il meccanismo dell'aritmia che non era un'aritmia da fibrillazione atriale ma era un'aritmia di altro tipo sostanzialmente quello che noi proponiamo sembra banale ma dobbiamo ripuntualizzarlo con forza in un mondo che sta un po' perdendo l'abitudine nel ragionamento clinico è questo ragioniamo prima sul singolo malato e cerchiamo di mettere in piedi per ogni paziente una strategia ritagliata sull'individuo se perdiamo un po' di tempo non succede niente perché un'altra cosa che viene costantemente detta ai congressi ma che non ha sufficiente supporto scientifico è che tutte le fibrillazioni atriali dobbiamo curarle presto perché diventano improvvisamente persistenti o permanenti ecco questo approccio scientifico non è vero perlomeno non è giustificato scientificamente su ampia scala perché è vero soltanto per il 25% dei pazienti un quarto significa che in tre quarti noi abbiamo tutto il tempo di aspettare e di capire qual è il meccanismo dell'aritmia abbiamo anche dei mezzi tecnologici ne abbiamo studiato abbiamo pubblicato la professoressa Cavarretta un lavoro di recente abbiamo dei dispositivi che ci consentono anche di studiare l'aritmia in vivo nell'atleta oggi anche molto semplici come questo loop recorder esterno che in soggetti che hanno sintomi sono particolarmente utili o come anche loop recorder impiantabili che per tre anni registrano i battiti vedete in questo caso un atleta che ha un episodio di fibrillazione laterale guardate durante una pausa notturna vagale guardate una lunga pausa fase di grande attirazione vagale e vedete che si innesca la fibrillazione laterale cioè abbiamo registrato quello che vi ho fatto vedere prima e allora in questi casi magari un approccio minimale che va a modificare semplicemente la reazione dei gangli con un'ablazione molto semplice molto poco invasiva ci può consentire di risolvere un grosso problema sapete che c'è in questo momento in lavorazione il nuovo Cochis già il vecchio Cochis aveva un'impostazione devo dire molto cauta e soprattutto sottolineo questo diceva che non era giustificato sottoporre un atleta ad ablazione solo per tra virgolette rendere i doni del soggetto e già vi anticipo che questa impostazione sarà mantenuta anche nel nuovo Cochis e quindi vado a concludere dicendo che ad oggi come ho cercato di dimostrarvi non vi è sufficiente documentazione scientifica per affermare che lo sport di per sé provochi fibrillazione laterale lo sport abbiamo visto è un mezzo straordinario per ridurre l'incidenza delle malattie cardiovascolari e non solo perciò va incentivato senza sé senza ma è però ragionevole ritenere che certi tipi di attività soprattutto di resistenza prolungati in soggetti predisposti possa essere correlata a una maggiore incidenza di fibrillazione laterale abbiamo visto che secondo il vecchio Cochis molti soggetti con fibrillazione laterale possono comunque essere considerati doni allo sport abbiamo visto anche che l'abbrazione è un mezzo straordinario leggiamo bene l'elettrocardiogramma ricostruiamo il meccanismo e concediamoci tutto il tempo per poter ragionare con la nostra testa cioè rimettiamo il paziente e non altro non le procedure e non altro al centro delle nostre scelte cliniche vi ringrazio per l'attenzione bene ringraziamo il professor Sciarra per il suo ottimo contributo e anche per le spiccate qualità didattiche nonostante gli hacker informatici lo abbiano costretto a saltare da un computer all'altro e con altrettanto piacere introduco Silvio Romano non credo che ci sia bisogno di aggiungere altro conosciuto da tutti qui presenti che ci parlerà dell'attività fisica e fattori di rischio cardiovascolare tra idoneità agonistica e prescrizione dell'esercizio fisico grazie 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 Mario buongiorno a tutti di nuovo abbiamo questo piccolo problema ma il sistema è stato appena introdotto quindi evidentemente non è stato ancora collaudato e comunque consente un minimo di attività fisica anche durante la relazione perché ti sei alzato un po' di adrenalina un po' di attività fisica allora attività fisica è fattore di rischio cardiovascolare tra idoneità agonistica e prescrizione dell'esercizio fisico parto con gli aspetti legati all'idoneità che sono sostanzialmente legati a un'attività agonistica in condizioni di sicurezza il ruolo e l'importanza dei fattori di rischio cardiovascolare prevalentemente nei soggetti master quindi di età superiore a 35 anni e come vedete da tempo da tempo notevole è noto come la morte improvvisa in questi soggetti avviene prevalentemente per malattia coronarica e quindi per la presenza di fattori di rischio per la cardiopatia ischemica questo che è uno studio più recente che ha documentato proprio le caratteristiche dei soggetti che avevano morte improvvisa durante sport in età e in middle age quindi al di sopra dei 35 anni fino ai 60 anni ha documentato come vedete la presenza di cardiopatia ischemica quindi coronaropatia acuta coronaropatia non acuta ha una distribuzione importante sia nei soggetti che l'hanno durante l'attività fisica sia nei soggetti che l'hanno allontana dall'attività fisica ma andando per vedere il fulcro della mia relazione la incidenza dei fattori di rischio vedete come soggetti che avevano morte cardiaca improvvisa associata allo sport avevano una importante prevalenza di un singolo fattore di rischio in un numero più limitato di casi ma in un numero molto importante di casi molto più di un fattore di rischio quindi sicuramente la presenza dei fattori di rischio cardiovascolare va approfondita deve essere un criterio per definire il profilo di rischio del soggetto perché vedete una presenza possibile per tutti i noti fattori di rischio dal diabete la dislipidemia l'ipertensione l'obesità e il fumo e qui vediamo appunto come può essere fatta questa valutazione innanzitutto definire l'entità del rischio questa è una ripresa dalle linee guida europee le ultime del 2021 sulla prevenzione cardiovascolare che definiscono come sono distribuite le popolazioni europee e nordafricane in rapporto al rischio l'Italia si situa non più come un paese a basso rischio ma come un paese a rischio moderato e questo sulla base della incidenza di eventi fatali e non fatali che sono identificati nelle cosiddette carte del rischio questa è appunto quella del 2021 che cambia un po' quelle precedenti che sarà poi non penso di spoilerare più di tanto utilizzata anche nella definizione del nuovo COCIS per definire il profilo del rischio in cui vedete viene introdotta una possibilità di valutazione anche per i soggetti più anziani OP sta per old people e in cui viene differenziata anche la probabilità di eventi e da questa linea guida si parla di eventi fatali e non fatali e non solo di eventi fatali distribuiti in maniera diversa a seconda dell'età con un rischio più elevato per percentuali più elevate nei soggetti più anziani sulla base di queste probabilità di queste valutazioni epidemiologiche vedete che i soggetti possono essere identificati come a rischio molto alto sono quelli in rosso a rischio elevato a rischio intermedio o a basso rischio e valutando l'entità dell'ipertensione della disepidemia il sesso il fumo e ovviamente l'età accanto a questo le linee guida identificano come possibilità di valutazione del rischio anche la presenza di altre condizioni questo riguarda soprattutto la popolazione di cui stiamo parlando cioè soggetti apparentemente sani in cui il rischio è crescente il rapporto ai fattori che abbiamo detto ma poi possono essere considerati e questo riguarda molti dei soggetti che possiamo vedere i soggetti che hanno una malattia definita quindi una malattia aterosclerotica o coronarica documentata da eventi o documentata dalla presenza di placche diagnosticate per esempio all'attacca coronarica o la presenza di malattia aterosclerotica in altri distretti in questo panorama rientrano appunto le questioni relative all'idoneità quindi primo punto nei soggetti senza una cardiopatia ischemica nota parliamo soprattutto di questi la definizione del profilo di rischio e in ambito idoneativo poi la valutazione conseguente quindi il COCIS attuale propone per i soggetti a profilo di rischio basso o moderato o intermedio una idoneità assoluta per i soggetti che hanno la valutazione di screening focalizzata sul test ergometrico massimale per tutti gli sport laddove invece la valutazione di screening indichi un dubbio di cardiopatia ischemica o un alterazioni fortemente suggestive soprattutto a livello elettrocardiografico di cardiopatia ischemica un test di secondo livello e vedete come è messa molto in evidenza l'attacca coronarica perché nei lavori del 2017 la professoressa Penco dirigeva il gruppo di lavoro proprio per l'idoneità alla cardiopatia ischemica e ne facevo parte è stata introdotta in maniera più significativa all'uso dell'attacca coronarica rispetto ai test all'ecostress o la scientifica e da sforzo e questo probabilmente sarà una linea di lavoro e una linea di lavoro su cui si sta lavorando nello sviluppo del nuovo COCIS per i soggetti a profilo di rischio elevato o molto elevato la negatività comunque limitava l'idoneità agli sporti di destrezza proprio per l'elevata possibilità che per la presenza di molti fattori di rischio ci fosse una malattia coronarica e negli altri casi un po' il percorso simile a quello che abbiamo visto prima quindi con un'indicazione all'attacca coronarica o ai test di secondo livello e conseguentemente nel caso in cui appunto in conseguenza di documentazione di patologia coronarica non si potesse concedere l'idoneità la indirizzo a una valutazione cardiologica specialistica in questo caso per gestire quello che non è più un atleta ma è diventato un paziente un paziente che deve essere definito il rischio e la strategia terapeutica in questa ottica in questa strategia quindi abbiamo c'è la volontà di far fare attività agonistica in maniera sicura nello stesso tempo però non deve esserci la negazione di un'attività invece a livello non agonistico che quindi passiamo all'altro aspetto tra l'idoneità agonistica e la prescrizione dell'esercizio fisico perché l'esercizio fisico e l'attività fisica sono assolutamente un fattore assolutamente positivo su tanti aspetti vedete qui riuniate molti degli effetti quello su cui concentriamo l'attenzione è appunto la correzione dei fattori di rischio cardiovascolare sono enormi le evidenze scientifiche che ci dicono come l'esercizio cardiovascolare l'esercizio fisico ha un effetto protettivo sui fattori di rischio cardiovascolare quindi un miglioramento del profilo sia nel profilo glicemico sia nel correggere i valori di colesterolo in particolare addirittura un incremento dei valori di colesterolo LDL via via anche su ripertensione fumo e obesità e molte sono le documentazioni epidemiologiche non solo nei termini di correzione di un fattore di rischio ma anche di riduzione di eventi molti di questi studi sono stati fatti su popolazioni omogenee ex alunni di università come in questo caso questo ci documenta come c'è un rapporto una correlazione significativa tra l'entità di attività fisica svolta come questa era una valutazione settimanale e la riduzione del rischio cardiovascolare a distanza di molti anni quindi un'attività fisica regolare consente una riduzione di eventi questo è uno studio dell'Arva di University questo è lo del Nurse Health Study quindi sulle infermiere che ci documenta in questo caso proprio l'effetto sulla correzione dei fattori di rischio e sulla riduzione di eventi anche qui riduzione del rischio relativo la vedete progressiva in questo caso sono i quintili di attività fisica quindi il quinto quintile è quello di maggiore attività fisica riduzione del rischio di eventi e riduzione del rischio di eventi che si manifesta in questo caso documentato nei soggetti con la presenza di un fattore di rischio in questo caso il fumo in questo caso il body mass index è aumentato e in questo caso la familiarità quindi sicuramente un effetto di riduzione del rischio tant'è che queste sono di nuovo le linee guida europee sulla prevenzione sottolineano l'importanza e danno anche un'indicazione dal punto di vista di che tipologia e soprattutto che durata di attività fisica ha un effetto protettivo consigliando un'attività fisica e un esercizio fisico per almeno due ore e mezzo fino a cinque ore a settimana di intensità moderata oppure in termini minori dal punto di vista temporale per un'intensità maggiore di esercizio fisico e documentando poi declinando quali possono essere le caratteristiche di un'intensità lieve di un'intensità moderata con degli esempi con una modalità di possibile autovalutazione il cosiddetto talk test cioè quanto si riesce a parlare mentre si svolge l'attività fisica ma l'esercizio fisico implica anche alcuni dubbi alcuni punti interrogativi innanzitutto da punto di vista del metodo qui siamo in un ambito in cui ci sono anche specialisti dell'esercizio fisico medici dello sport direttori di scuola della medicina dello sport che si chiama medicina dello sport e dell'esercizio fisico e studenti prossimi laureati in scienze motorie delle specialistiche quindi che parla proprio di esercizio fisico in particolare categoria di soggetti e quindi un sasso nello stagno chi deve prescrivere il medico medicina generale il cardiologo il medico dello sport il pediatra o ancora altre figure professionali in questo va sottolineato come la prescrizione dell'esercizio fisico sia una cosa non semplicistica non un semplice invito a fare un po' di attività fisica che comunque è sicuramente positivo ma la prescrizione dell'esercizio è sicuramente una cosa più complessa questa è la versione italiana delle linee guida dell'American College in cui ho contribuito alla traduzione all'elaborazione di uno dei capitoli proprio sui fattori di rischio cardiovascolare solo per darvi un esempio di come le raccomandazioni nei vari soggetti con fattori di rischio implicano una precisa indicazione in rapporto ad alcuni parametri come la frequenza l'intensità la durata la tipologia di esercizio e distinguendo negli esercizi aerobici in esercizi controesistenza in esercizi di flessibilità non entro nel merito dei singoli aspetti ma per darvi un'idea di come sia una questione complessa importante che deve avere un aspetto tecnico e un aspetto educativo questa è la tabella per la disepidemia questa è la tabella con l'ipertensione ma è solo per darvi un'idea quindi il cosa prescrivere è una prescrizione personalizzata che deve prendere in esame appunto questi parametri modalità intensità frequenza durata dell'esercizio fisico e poi c'è un altro aspetto molto importante che è quello dell'aderenza molti sono gli studi che hanno documentato vi ho fatto vedere prima qualche esempio l'efficacia di un'attività fisica nel correggere il fattore di rischio questi sono uno studio pubblicato ormai molti anni fa che documenta appunto un studio di intervento vedete che l'intensità dell'attività fisica raggiunge l'acme nel periodo massimo di intervento quindi di inizio dello studio ma poi abbiamo una riduzione quindi una riduzione di aderenza all'esercizio prescritto nel che va progressivamente riducendosi negli anni e a questa riduzione di aderenza corrisponde poi una riduzione di efficacia nel tempo su uno dei parametri più semplici che è quello del peso corporeo vedete che così come abbiamo una riduzione abbiamo visto prima la riduzione di intensità dell'attività fisica e di durata abbiamo una ripresa del fattore di rischio quindi un incremento del peso corporeo e questo aspetto della riduzione dell'aderenza è un aspetto molto importante qui voglio riportare appunto una recente review che ha preso in considerazione i determinanti dell'aderenza all'esercizio fisico in particolare nei soggetti con un fattore di rischio che è l'ipertensione e vedete che ne abbiamo di vari tipi alcuni propri della persona alcuni interpersonali che riguardano i rapporti con la famiglia la tipologia di rapporto sociale il rapporto molto importante con il medico alcuni però anche socio-economici e ambientali e logistici quindi dal punto di vista anche come dicevo prima educazionale dal punto di vista logistico anche dal punto di vista dell'organizzazione cioè in che maniera viene proposto e poi somministrato la modalità di esercizio fisico e su questo faccio un'introduzione o sentiremo poi tra poco qual è il programma che viene svolto qui all'Aquila l'ha citato prima anche il Rettore sulle palestre sicure e palestre della salute perché è una delle modalità con cui effettivamente si può somministrare seguire e avere migliori risultati ma lo ascolteremo tra poco dalla professoressa Vinci Guerra ultime due considerazioni questa è una diapositiva che riporto sempre quando parlo di attività fisica e controllo dei fattori di rischio perché riporta un lavoro ormai che è data da 16 anni comune delle società interessate delle società scientifiche dei cardiologi dei riabilitatori medico sportivi cardiologia cardiologia dello sport sulla prescrizione dell'esercizio fisico in ambito cardiologico la riporto sia perché è un documento che ci dice quanto si sia effettivamente di scientifico e non di improvvisato nella prescrizione dell'esercizio fisico ma anche per un altro motivo perché rappresenta una forma di lavoro in team in questo caso a livello societario c'è le varie figure professionali che intervengono in questa tematica per migliorare la salute del cittadino del cardiopatico del soggetto appunto con rischio cardiovascolare e può essere esemplificativa anche di un lavoro in team che deve essere fatto sul territorio cioè da parte di queste figure professionali che partono dal medico e dalla medicina generale e qui abbiamo illustri rappresentanti anche dell'ordine del consiglio dell'ordine proprio per dire il punto di partenza la prima sentinella che valuta la presenza del fattore di rischio cardiovascolare dal medico dello sport fino ad arrivare agli soggetti che possono collaborare nella prescrizione e nell'attuazione dell'esercizio fisico quindi anche al ruolo del laureato in scienze motorie del laureato specialista in scienze motorie e inoltre un altro spunto è che è arrivato probabilmente il momento per riprendere questo tipo di collaborazione scientifica e quindi produrre un nuovo documento che porti all'elaborazione di un testo multisocitario sulla prescrizione dell'esercizio fisico in ambito cardiologico anche perché sono cambiate tante condizioni anche tante normative è prevista una votazione idoneativa anche all'attività fisica non agonistica e che bene che sia normata che abbia un contributo scientifico da parte di tutti gli esperti nel campo per arrivare poi in fondo a questo risultato questa è una diapositiva che chiudo sempre in cui vedere l'esercizio fisico in questo parere prescritto ancora meglio consente chi ha il fattore di rischio nel tempo di ridurre i propri fattori di rischio avere una buona performance e quindi un miglioramento da molti punti di vista rispetto a chi rimane sedentario che nel tempo non vede non solo aumentare il peso corporeo ma anche necessariamente il consumo di farmaci e vi ringrazio per l'attenzione silvio grazie per questa presentazione mentre tu scorrivi le depositive cercavo di identificare ormai c'è una commistione di anni decenni voglio dire di riflessioni comuni voglio dire comuni su documenti e mi fa piacere introdurre la professoressa Vinci Guerra perché diciamo è una naturale evoluzione di questa di questi documenti che le società cardiologiche hanno elaborato e che ha presentato il professore romano mi ricordo che abbiamo anche noi presentato un progetto a livello regionale sulla prescrizione e sulla indicazione all'esercizio fisico negli anziani questo è andato finalmente in porto e io mi auguro siccome non credo che tutte le regioni abbiano un progetto finanziato di questo genere che questo sia una come dire una un fissuto dell'occhiello che può mettere la regione Abruzzo dove collaborano sotto il coordinamento dei responsabili e dell'Università di Chiedi dell'Annunzio di Chiedi e dell'Università dell'Aquila per organizzare questo progetto palestre della salute e palestre sicure dove collaboriamo un po' tutti insomma ma adesso lo dirà la professoressa di Ciguerra lo stato di avanzamento del protocollo e lo stato di ralzamento della pregazione prego grazie professoressa io la ringrazio e la saluto con la stima e l'affetto che ho per lei da sempre ringrazio in particolare il professor Romano e il professor Sciarra per l'invito graditissimo e soprattutto utilissimo soprattutto per gli studenti di Scienze Materie e per me presentare questo progetto è veramente un momento per me di grosso orgoglio intanto perché ieri sono passate delle convenzioni utilissime per poter procedere e perché comunque un lavoro che parte da lontano parte dal 2018 quando appunto sul piano della prevenzione nazionale pertanto regionale venivano indicate delle linee riguardanti proprio la necessità di attuare una forma di tutela su tutti coloro che approcciano l'attività fisica nelle palestre e che a volte insomma non trovano come dire proprio quella grande professionalità dovuta pertanto nella delibera di giunta regionale sono state approvate delle linee guida regionale per la promozione dell'esercizio fisico a seguito di una già avviata collaborazione interinstituzionale grazie con l'università appunto dell'Aquila degli studi dell'Aquila e l'università d'annunzio di Chieti ecco una cosa che mi preme dire è che non ci può essere progressione non ci può essere progresso quando non c'è sinergia quando non c'è team per cui questa sinergia che è nata qui nella nostra regione ha dato la possibilità a questo progetto di sì con fatica di venire alla luce ma comunque di essere oggi una realtà una realtà concreta nel febbraio 2018 ci fu istituito il primo tavolo di lavoro nel quale erano presenti praticamente tutti i rappresentanti più diciamo giusti per l'avvio del progetto per cui il servizio di igiene e sanità pubblica la medicina dello sport delle quattro asla burzesi i corsi di laurea in scienze motorie i referenti dei corsi di laurea in scienze motorie delle attività sportive la L22 nel senso della triennale e in particolare la LM67 che è la preventiva adattata di tutte e due le università quindi l'Aquila e Chiedi Pescara nonché i rappresentanti del comitato italiano delle scienze motorie del CISM devo dire che li cito per ultimi ma in effetti loro sono stati primi tanti anni fa nel 2017 a darmi un campanello d'allarme su questa fonte del piano della prevenzione infatti vennero a parlare con me miei ex studenti io lì per lì non fui tanto contenta di ricevere un ulteriore lavoro da fare da svolgere poi però capì che era una cosa molto interessante leggendo proprio il piano della prevenzione nel 2017 ricordo perfettamente anche la data il 17 novembre in questa aula facemmo un convegno dal titolo attività fisica come farmaco punto interrogativo e parteciparono le università diverse rappresentanze dei medici dello sport dei medici di base e quindi ci fu questo confronto aperto che diede poi veramente il via al progetto infatti nel febbraio 2018 immediatamente si istituì questo tavolo chiamiamo chiaramente anche la politica regionale di riferimento e fumo insomma un po' a fatica però creduti sulla fattibilità di questo progetto le linee guida si articolano in due diverse linee di azione la prima è funzionale alla creazione di una rete di palestre della salute volte alla prevenzione primaria delle patologie croniche non trasmissibili sensibili all'esercizio fisico prima il professor Romano diceva bene sport ed esercizio fisico in effetti sono due cose che vanno come dire trattate in maniera completamente differente lo sport ha dei criteri ha delle skills particolari l'esercizio fisico invece è per tutti da 0 a 150 anni per cui noi in questo progetto trattiamo prevalentemente l'esercizio fisico l'attività fisica adattata l'attività motoria la seconda invece come linea guida è rivolta alla creazione di una rete di palestre sicure dedicate al trattamento delle più comuni patologie croniche non trasmissibili sensibili all'esercizio fisico la differenza tra queste due linee guida sostanziale è che la prima è riferita a una popolazione molto più vasta che diciamo è in prevenzione primaria anche se prevenzione primaria è una parola un po' grossa nel senso che io dico sempre agli studenti trovatemi una persona che sta bene e che va in palestra semplicemente perché già sta bene si va in palestra solitamente perché intanto si ha magari si ha la cultura di star bene e mantenersi in forma anche attraverso il movimento anche e soprattutto attraverso il movimento ma solitamente si arriva in palestra quando cominciano ad esserci dei piccoli problemi ed è proprio il medico che indirizza all'attività fisica per fortuna però ripeto parlare di prevenzione primaria è un po' difficile comunque è questo il significato di massimo è questo mentre invece la seconda è rivolta al paziente che ha già una diciamo patologia in essere e deve essere in qualche modo recuperato quindi c'è un team di persone che lavora intorno a questo paziente e per diciamo ultimi perché di meno importanza arriva l'attività motoria che è quella che ricostruisce un po' la rieducazione che dura un po' poi tutta la vita quindi la parte clinica la parte riabilitativa la parte rieducativa quindi questo team dovrebbe essere vincente secondo me secondo il mio modesto parete anche perché l'ho visto fare e l'ho fatto anch'io anni passati in altre occasioni programma 4 quindi dell'azione del piano regionale di prevenzione l'azione 9 e la promozione appunto dell'esercizio fisico attraverso la creazione di reti territoriali di palestre scusate di una rete di palestre territoriali cioè la realizzazione di un percorso di collaborazione tra l'ospedale e il territorio attraverso i quali soggetti con patologie croniche degenerative sempre non trasmissibili quindi diabete ipertensione obesità osteoporose eccetera eccetera malattie oncologiche respiratorie eccetera possano essere accompagnati in maniera adeguata in un programma di esercizio fisico con il supporto di qualificati professionisti dell'esercizio in palestre certificate cioè che significa che ci sarà un bando che chiamerà le palestre a volersi certificare da che cosa chiaramente per potersi certificare queste palestre dovranno avere dei requisiti fondamentali requisiti fondamentali saranno primo tra tutti avere all'interno un laureato in scienze motorie L22 che è un professionista diciamo di primo livello o un laureato LM67 quindi attività motoria preventiva adattata fisica motoria preventiva adattata specialista proprio dell'attività fisica adattata ad esercizio fisico adattato questa è una condizione siniqua nonna altrimenti la palestra non verrà mai certificata ma questi laureati fine a se stesso verranno tra l'altro ulteriormente specializzati con dei corsi che la regione mette a disposizione proprio per la specializzazione che vedremo un pochino più avanti e che noi abbiamo già tenuto qui ci sono studenti che già hanno fatto parte di questi corsi e che stiamo attualmente ultimando col secondo livello con le ore di tirocinio che poi vedremo che cosa significa per cui le palestre certificate saranno quelle virtuose al cui interno al di là di tutte le attività giuste per carità che nessuno vuole togliere a cui nessuno vuole togliere importanza ci mancherebbe però hanno quella diciamo parte professionale che si dedica in particolare alla salute delle persone e non solo alla ricreatività diciamo così le palestre sicure i professionisti del movimento saranno formati appunto per programmare l'esercizio fisico consigliato dal medico specialista in base alla terapia farmacologica assunta e questo lo diceva prima anche il professor Romano individuare le eventuali controindicazioni all'esercizio fisico perché non è detto che tutti possano fare tutto anzi assolutamente no io dico sempre ai miei studenti che l'attività fisica si adatta a tutte le età noi non faremo mai un esercizio fisico per un bambino di 4 anni così come lo faremo per un ragazzino di 8 per un adolescente di 16 per un adulto per un anziano un grande anziano e così via adatteremo sempre anche lo stesso esercizio a seconda della natura e della predisposizione dei soggetti che avremo di fronte pertanto gestire una situazione di emergenza in piena sicurezza quindi essere capaci anche di ragionare su un'emergenza il progetto ha come finalità quella di migliorare su tutti i gradi di prevenzione delle più comuni patologie croniche non trasmissibili e sensibili all'esercizio fisico attraverso la creazione di una filiera certificata quello che vi dicevo prima che ottimizzerà la comunicazione tra i professionisti e che provvederà alla certificazione specifica dei laureati in scienze motorie gli L22 per il primo livello e gli LM67 per il secondo livello nonché a quella delle palestre che possiedono requisiti strutturali e di personale stabiliti dal tavolo di lavoro chiaramente il tavolo di lavoro di cui abbiamo parlato nella precedente slide del 2018 ha lavorato tanto e confrontandosi dibattendo anche moltissimo su quelli che devono essere requisiti fondamentali delle palestre dei laureati specializzati in tutto questo eccetera per cui insomma non è stata una passeggiata ma ad oggi siamo molto fieri e contenti di quello che abbiamo raggiunto questa è per esempio la filiera del primo livello delle palestre della salute come vedete c'è un circolo un loop che si articola dove comunque il soggetto che va in palestra deve sempre essere seguito da un medico quindi può essere il medico di base che poi lo invita ad andare da uno specialista qualora ci sia una patologia in essere che può essere il cardiologo può essere il diabetologo può essere l'oncologo o chiunque a seconda della patologia poi il medico sportivo che ne certifica in qualche modo la possibilità di svolgere un'attività fisica che ci dà delle indicazioni utili affinché il paziente faccia effettivamente quello che è realmente utile per la sua patologia e poi arriva in palestra oppure arriva in palestra e noi gli facciamo fare il giro inverso cioè bene vuoi fare questo però prima ti devi fare questa visita io devo sapere come mi devo comportare con te che cosa ti devo fare ti devo far fare quanto ti devo far fare di questo esercizio piuttosto di un altro e così via questa è la palestra certificata cioè la palestra dove nulla è lasciato al caso non è la palestra che mercifica l'attività motoria o che fa il libera tutti sì signora si accomodi salti pure non c'è problema no assolutamente no noi siamo attenzionatissimi al paziente e alla persona per il suo benessere per la sua salute in primis stessa cosa vale per la filiera del secondo livello delle paese sicure la stessa cosa ci sarà sempre questo aspetto assolutamente di giro di professionisti che si occuperanno del paziente che arriverà in palestra attenzionato e con un programma già definito che noi metteremo in atto sul quale chiaramente convergeremo su eventuali variazioni o variabili che si potranno avere nel tempo e durante il corso degli allenamenti o delle sedute di attività fisica adattata sempre e comunque con gli specialisti le palestre già esistenti o che apriranno in futuro potranno ottenere questo bollino cosiddetto che non sostituisce l'attuale legislazione in essere sull'apertura e funzionamento delle palestre attenzione è una certificazione a parte la rete regionale delle palestre della salute sarà certificata per la prevenzione primaria come vi dicevo prima delle più comuni patologie croniche non trasmessibili e sensibili al movimento la rete regionale delle palestre sicure sarà certificata per gli altri gradi di prevenzione delle stesse come vi dicevo prima prevenzione secondaria e terziale il progetto si integra con la recente legge dello sport che riconosce le figure del professionista delle scienze motorie e definito anche kinesiologo nelle sue degnazioni di base cioè nelle attività motorie preventive adattate e sportive per cui il progetto non è sulla dal contesto proprio della reale formazione di laureato in scienze motorie scusate allora questo è il dunque il comitato ordinatore del progetto dunque al di là di tutto chiaramente le province si occupano o meglio alle università sono state date delle indicazioni e anche dei fondi per poter svolgere questo progetto per cui ogni università poi ha creato un suo comitato ordinatore noi siamo stati appunto nominati dal rettore all'inizio c'era la professoressa Penco con noi che poi però siccome è andata in pensione è stata sostituita dal professor romano e quindi il comitato ordinatore dell'Aquila è preseduto da me come diciamo referente del progetto dalla professoressa Fabiani e dal professor Silvio Romano e poi abbiamo la dottoressa Ciarallo e la dottoressa Vita Colonna che si occupano tutta la parte amministrativa vi assicuro che non è proprio una passeggiata abbiamo diverse difficoltà soprattutto perché comunque è un corso nuovo che esiste in altre realtà ma che comunque converge con le realtà geografiche di altre poche regioni in Italia per cui ci siamo dovuti veramente fare da soli però per fortuna insomma sembrerebbe che reggiamo il corso di primo livello delle palestre della salute si è già tenuto e qui ci sono degli studenti che hanno partecipato ed è stato un corso finalizzato alla preparazione del professionista certificato di primo livello i contenuti del corso di primo livello sono stati prevalentemente sui comportamenti sedentari attività fisica ed esercizio fisico per la salute nell'adulto di età compresa tra i 18 e i 65 anni la revisione della letteratura e le linee guida internazionali poi abbiamo ideato dei programmi di allenamento per l'adulto non affetto da malattie croniche non trasmissibili e poi il mantenimento della qualifica del professionista del certificato di primo livello avverrà mediante la partecipazione a corsi di aggiornamento specifici da svolgersi ogni due anni cioè questo che significa significa che il laureato non si ferma qui non fa un corso e poi è specialista basta e finita no no ogni due anni deve ripercorrere un percorso di ulteriore formazione anche perché per esempio quest'anno abbiamo iniziato il progetto occupandoci prevalentemente delle malattie dell'ipertensione in particolare e del diabete quindi abbiamo diciamo toccato soltanto due delle tante patologie in essere ogni anno ci sarà un avvicinamento delle diverse patologie i corsi sono organizzati chiaramente in collaborazione con la regione Abruzzo il dipartimento di sanità e le due università secondo livello al primo livello possono accedere i laureati con la laurea triennale quindi L22 al secondo livello invece possono accedere ambe due chiaramente no scusatemi ambe due no assolutamente no al primo possono accedere ambe due al secondo livello solo esclusivamente gli LM67 il corso è finalizzato alla preparazione del professionista certificato di secondo livello i contenuti del corso avvertono più o meno sulle stesse linee del precedente però sono linee operative regionali dell'attività fisica sempre per il trattamento delle patologie croniche non trasmissibili e sensibili all'esercizio fisico e sui comportamenti sedentari attività fisica ed esercizio fisico per la salute dell'adulto revisione della letteratura e linee guida internazionali poi pro contro avvertenze specifiche dalla pratica dell'esercizio fisico nell'ambito sempre le mattie croniche non trasmissibili e sensibili all'esercizio fisico poi questo è fondamentale 32 ore almeno nel nostro corso di tirocinio presso uno dei centri di riferimento da svolgersi sotto la supervisione degli aterei chiaramente preposti quindi di Chieti Pescara e dell'Aquila e dei servizi asle di igiene e sanità pubblica e medicina dello sport oggi finalmente il progetto ha preso forma e la regione Abruzzo si allinea a quelle regioni definite virtuose come produttive come l'Emilia Romagna il Veneto e la Lombardia e si sta affilando sotto la diciamo si stanno affilando anche altre regioni ma come noi stanno trovando tante difficoltà perché chiaramente poi tutti entriamo in un tunnel che è comune e questo link certifica proprio e conferma il grande risultato che abbiamo ottenuto in regione dopo tutti questi anni di lavoro di tavolo di confronto anche di frizioni però hanno portato alla fine a un buon risultato e ripeto io sono ovviamente ringata di tutto questo con molto orgoglio e con molto piacere sono stata qui a presentarvi questa novità questo fiore all'occhiello dell'Abruzzo che si pone veramente tra quelle regioni migliori d'Italia proprio per questo progetto e credo come vi ho detto prima nella grande energia tra tutte le professionalità per raggiungere dei grandissimi obiettivi e una finalità unica che è quella del benessere delle persone e l'Ateneo in questo diciamo ambito si muove moltissimo noi abbiamo un progetto all'interno dell'Ateneo sotto diciamo il cappello della prevenzione del dipartimento di prevenzione che è il progetto di Ateneo in salute e movimento e a differenza di tanti diciamo di tante aziende che producono soltanto un vantaggio di counseling o di diciamo teoria del movimento noi mettiamo in campo le nostre professionalità con gli studenti scienze motorie soprattutto che devono svolgere 320 ore di tirocinio al secondo anno e portiamo tutto l'Ateneo gratis assolutamente gratis solo per la voglia di coinvolgere le persone al movimento e di far capire quanto il movimento possa effettivamente cambiare le cose e far stare meglio così come è stato detto anche prima in tre lezioni settimanali che ricominceremo il progetto è già al suo quinto anno di vita e produrrà anche se vogliamo degli aspetti scientifici abbastanza rilevanti sui quali stiamo lavorando io vi ringrazio per l'attenzione vi ringrazio per questa opportunità e ho finito grazie ringraziamo la professoressa Vinci Guerra le dico subito che poi in discussione spero di avere il piacere di poter condividere qualcosa anche da parte mia introduco il professor Brancati di cui ho avuto già il piacere di seguire un suo magistrale contributo in altro convegno e sicuramente ci dirà delle cose molto interessanti in particolare il suo intervento e cosa chiede alla genetica in cardiologia dello sport e perché tanta roba prego professore grazie ringrazio moderatori saluto la professoressa Penco con la quale abbiamo inaugurato questa stagione va bene da qua non c'ero quando è successo devo ok non c'è alternativa lo sapeva e appunto allora ringrazio invece per l'invito gli amici e colleghi il professor Sciarra e il professor Romano per questa collaborazione che abbiamo inaugurato qualche anno fa e mi fa piacere portare avanti con questi ragionamenti per questi 15 minuti che testimoniano la collaborazione attiva che abbiamo con l'Aquila e gli amici cardiologi per questa domanda difficile quindi la risposta la lascio a voi e proverò in questo frullato a darvi degli elementi per rispondere quindi si direbbe bella domanda cosa chiedere alla genetica in cardiologia dello sport io ho contestualizzato intanto si vede anche in alto il titolo quella che è insomma la cardiogenetica questo è l'argomento di cui parliamo anche nell'atleta in cardiologia dello sport nel senso che direbbe la professoressa Cavarretta mi ha insegnato questo termine di zona grigia che mi piace il grigio è venuto malino ma si vede al centro ovvero collochiamo l'ambito nel quale dobbiamo muoverci e ho provato a fare questa slide nell'ambito di qualcosa di più ovvio in cui il test genetico ha un'indicazione diciamo piuttosto evidente quando ovvero abbiamo una patologia con nome e cognome quindi abbiamo degli elementi dalla clinica che ci dicono di cosa stiamo parlando dalle cardiopatie alle canalopatie insomma abbiamo un indirizzo abbastanza chiaro partendo invece da quello che è lo screening noi non possiamo fare test genetico per screening poi vi comincerò nell'ambito dei 15 minuti spero ma di fatto la complessità di questo argomento che lo testimonierà che non possiamo come dire sequenziare genoma tutti quanti a priori però qualcuno va sicuro che diciamo anche in zona propone l'argomento per cui è il primato diciamo dello screening anamnestico strumentale cioè di quello che fate voi regolarmente anche nell'ambito appunto della cardiologia dello sport con i parametri e tutto quello che conoscete bene cosa c'è in mezzo quello che definirei endofenotipo senza che significhi nulla se non diciamo quello che tutti proveremo invece a definire nell'ambito visto e imparato in un altro talk del professor Zeppilli esistono endofenotipi anatomici di cui sentirete discutere in dettaglio l'anomalia delle coronarie quello certamente non è un aspetto puramente genetico ma altri fenotipi anatomici per esempio invece possono essere geneticamente determinati ma anche endofenotipi più sfumati cioè quelle caratteristiche sulle quali ovviamente una persona sana che viene a fare una visita questa è la differenza per cui è un ambito molto interessante sia nella clinica che nella ricerca questo della genetica in cardiologia dello sport vengono a fare una visita sono sani ma hanno delle caratteristiche nell'ambito delle quali noi dobbiamo far emergere una possibile suscettibilità genetica cioè un substrato nell'ambito di un fenotipo un endofenotipo che tende a dire che quella cosa può essere genetica e può dar luogo ad incidenti cardiovascolari quindi endofenotipi che è la caccia dei quali siamo noi collochiamo questo atto nostro della genetica medica che è una disciplina una professione almeno credo perché ho studiato medicina ho fatto la specializzazione tutto regolare diciamo dal punto di vista di un atto medico che si può naturalmente nei confronti di un dialogo molto serrato con lo specialista come proverò a dimostrarvi in questo caso e con tutti voi specialisti innanzitutto nell'ambito di un atto che è quello di essere interlocutori ovvero cuscinetto diciamo per capirci tra il laboratorio che esegue un test genetico cioè esegue una risposta scritta e lo specialista in questo caso cardiologo sport cardiologo ovvero dal punto di vista pratico noi per esempio non diamo referti di genetica molecolare come sa chi lavora con noi alle persone ma forniamo una lettera di consulenza che incorpora il dato di laboratorio nell'ambito del fatto che è molto difficile fare un cortocircuito tra specialista clinico e laboratorio per cui il dialogo rischia di non essere appunto per l'indicazione al test genetico innanzitutto per decidere quale test genetico eseguire che è un aspetto che vedremo un attimo in dettaglio e poi soprattutto per l'interpretazione di quel risultato perché non diamo risultato di laboratorio ma facciamo una lettera di consulenza perché interpretare il risultato di genetica non è sempre ovvio non è sempre ovvio questo soprattutto perché il test genetico non è un'analisi di laboratorio anche se potrebbe essere novità vi assicuro non lo è almeno confronto nel gergo di questi anni con i colleghi perché perché inzitutto si esegue appunto in consulenza genetica quindi vediamo di solito pazienti oltre alle provette ma soprattutto perché rispetto di un numero cioè un valore preciso che esce da una macchina in test di laboratorio noi abbiamo diversi test con diverse macchine diversi strumenti diverse tecniche per analizzare magari la stessa patologia cioè pensate alla dicotomia tra l'esame del cariotipo cioè vedere i cromosomi e vedere una mutazione in un gene malattia questi sono entrambi test genetici e quindi questa distanza fa sì che noi dobbiamo scegliere il giusto test genetico anche perché se no il disastro è che ce lo chiedono gli altri amministrativi o comunque la politica ad ufficio quindi se non vogliamo arrivare appunto come in Toscana la proposta dello stewardship che ci dice cosa fare che non è preferibile rispetto alla professione soprattutto per aspetti naturalmente economici un test genetico costa in media 1000-2000 euro rispetto ai pannelli MGS attuali e naturalmente quindi c'è un termine di sostenibilità rispetto all'appropriatezza prescrittiva questo ci hanno insegnato a rispettare e quindi dobbiamo fare queste considerazioni tra noi nel merito di queste considerazioni entrando nel merito direi che rispetto alla tematica specifica molte cose le ho trovate scritte nella letteratura quindi tante cose sono scritte molto chiare nella letteratura del vostro settore e sono stato molto contento di vedere che c'è un primato questo vuol dire della clinica o dell'analisi strumentali in mano a voi quindi questo è il primato della clinica rispetto come dire alla testologia cioè andare su il test genetico piuttosto che il test anche di laboratorio per tutte le condizioni che pongono a rischio diciamo in questa tematica le persone da avere eventi avversi dal cotillungo alla cateconomia energica alla displasia rimogena piuttosto che all'ipertrofica vedete che non è evidente avere solo una sfia iniziale della patologia per dire facciamo il test genetico ma bisogna studiare bisogna approfondire non è colpa mia rispetto come dire a non avere un singolo elemento per cui il test genetico ti dà la soluzione ovvero ti risolve il problema e vedremo poi perché è così ma bisogna andare ad approfondire quindi creare delle specificità per arrivare all'indicazione propria del test genetico e questo si fa naturalmente col confronto cioè parlando con i colleghi oggi 5 minuti con un collega mi è fatto piacere confrontarci rispetto quindi a dimostrare che non è una cosa così complicata ma purché ci si confronta e si arriva di solito ad una soluzione abbastanza efficace sull'indicazione del test poi c'è un altro aspetto una volta che il test generico pure fosse indicato è l'utilità del test generico cioè dobbiamo testare tutti non faccio qua l'esempio naturalmente delle malattie degenerative perché non è il luogo ma il confronto con i neurologi non è troppo diverso rispetto a come dire perché testare rispetto all'utilità di un test genetico nel campo vostro ho trovato appunto cose molto pertinenti rispetto all'utilità diagnostica prognostica terapeutica ma soprattutto l'impatto su le guida all'esercizio cioè le raccomandazioni per lo sport non sono sempre ovvie in tutte le patologie vedete mentre è particolarmente rilevante nel cutillumo quindi andremo a testare perché ha una rilevanza anche un impatto grande dal punto di vista vostro non è detto che questo sia sempre così rilevante come utilità dal punto di vista di altre patologie nelle quali possiamo identificare una base genetica quindi non è necessariamente diciamo indicato il test genetico dal punto di vista dell'utilità poi per l'esercizio quando parliamo di test genetico abbiamo detto già che abbiamo una pletora di situazioni ma naturalmente oggi potreste dirmi ovviamente abbiamo il next generation sequencing quindi abbiamo risolto tutti i problemi vi dirò che naturalmente è una meraviglia utilizzare una macchina che ci può dare l'esoma cioè quindi vuol dire più o meno i 160 esoni che codificano le nostre proteine ovvero 30 megabasi perché oggi si parla diciamo a megabasi a gigabasi e i giovani sono praticamente sensibili all'argomento in 30 megabasi noi abbiamo circa l'1% del nostro genoma codificante per tutte le proteine sequenziare questa roba in un pomeriggio è certamente la più grande o tra le più grandi conquiste degli ultimi anni ma naturalmente non basta perché dopo che abbiamo visto un esoma abbiamo ancora da vedere per esempio l'anomali cariotipo le anomalie come la disognoni parentale insomma non dico cose diciamo di nicchia o difficili ma di fatto vi assicuro che il next generation sequencing non vede tutte le anomalie genetiche cioè lascia fuori con altri test genetici mirati da fare fior d'altri approfondimenti nella professione ma l'altro aspetto interessante è che dopo che abbiamo sequenziato tutti i geni ammesso che sequenziato tutti i geni che conosciamo non abbiamo una sensibilità completa nei confronti di titoli importanti come la cardiomepatia aritmogena all'ipertrofica o il cutillungo cioè tiriamo via guardate i percentuali importanti se sequenziamo tutti i geni ma guardate le percentuali che rimangono fuori sono a volte molto molto rilevanti e questo va tenuto in considerazione prima di tutto nell'informazione alla persona cioè come dire in una parola facile a negatività del test genetico non è detto che tu ancora abbia quella patologia quindi attenzione a messaggi così elementari ma importantissimi nell'ambito del processo comunicativo che spesso riguarda la consulenza naturalmente noi usiamo il next generation sequencing bisogna invece usarlo ma imparare ad usarlo in maniera appropriata quindi il tema secondo noi è quello di scegliere i pannelli di next generation sequencing vuol dire mettere i geni giusti in questi pannelli e soprattutto per quali persone testare ma adesso siamo sui geni e vedete che esiste una variabilità che testimonia che il pannello giusto non esiste lo dico subito e se alcuni testano 327 geni piuttosto che l'esoma se gli date in pasto un campione per un quesito X ci sono poi i pannelli più raffinati su morte improvvisa aritmogene che cosa fare di fronte a questa variabilità ma intanto ragionare sempre come ci ha raccontato Shara anche sulle sue tematiche è uguale dal punto di vista pratico pensare e non avere fretta rispetto a mettere intanto un'etichetta dal punto di vista clinico strumentale che possa indirizzare il problema ma vedete che ammesso che facciamo questo poi esistono pannelli per esempio nell'ipertrofica che tirano via tutta una serie di geni che non hanno evidenza scientifica o comunque non hanno un risvolto nella pratica clinica genetica di effetto a livello poi di diagnosi cioè occorre mirare diciamo dal punto di vista pratico i geni che hanno un impatto riconosciuto nella clinica e quindi tentare di circostanziare il test genetico ai geni che hanno un evidente nesso di causa effetto rispetto alla patologia questo perché l'interpretazione del risultato poi rischia di diventare veramente la tomba del genetista o comunque di chi ha prescritto il test perché vedete questo è nei principali geni quindi nelle principali patologie di vostra pertinenza da cotillungo all'ipertrofica all'isplasia all'immogena c'è un'importante anche qui grigia regione che questa volta al di là delle varianti che identifichiamo che hanno un correlato clinico si chiama VUS ed è appunto risolto il problema per il biologo di laboratorio perché naturalmente fa referto ci scrive che è una VUS ed è una variante che praticamente ci facciamo niente perché ce la diamo in fronte non sappiamo visto che si tratta di una variante ad incerto significato quindi ce la consegna e abbiamo fatto peggio che non fare nulla direste voi avete ragione perché in realtà miravamo miravamo questo non so cos'è però io non sono Melissa ok però si vede diciamo e miravamo a cercare l'agono il pagliaio e è la mutazione malattia ok siamo però fatti di una variabilità genetica infinita anche qua non è colpa mia quindi facciamo prima a farci i conti a saperlo piuttosto che a infilarci in una situazione più grossa di noi cioè i famosi polimorfismi a singolo nucleotide lettere che cambiano tra noi cioè sono circa 3 milioni tra uno e l'altro e fanno la nostra differenza naturalmente in termini di caratteristiche in mezzo c'è appunto l'impossibilità in queste varianti di predire se sono causa di malattia o no quindi non è sempre rosso o verde ma in mezzo c'è una pletora di bus che vanno interpretate e questo veramente è il motivo per cui stiamo facendo questo ragionamento lasciateci fare anche un'attività appunto se è vero che una visita genetica la fa un medico specialista clinica nell'ambito di un piccolo esempio vi porto anch'io una famiglia piacerebbe come le connective tissue disorders a chi ama questo gruppo di patologia perché questa ragazza dopo aver fatto la sua visita gli hanno fatto la domanda giusta quindi anche solo l'anamnesi che non costa molto ma fa un valore enorme nell'ambito del percorso che vediamo perché la domanda giusta era appunto se c'era qualcosa in famiglia e questa ragazza ha raccontato nella sua visita in cardiologia dello sport che il papà era massacrato a livello dell'orta da successivi interventi che l'avevano però salvato in varie occasioni quindi questo è il quadro Ernesto di Cesare perché è una famiglia di qua va dato queste splendide immagini come le quali abbiamo appunto convocato poi il papà in consulenza l'abbiamo intanto guardato in faccia adesso vedrete perché ve lo dico e tra l'altro le assomiglia molto come insomma quando è il papà assomiglia alla famiglia però in una caratteristica particolare oltre al fatto che aveva un rafo mediano dell'ugola quindi un aspetto che diciamo ai fichetti della dismorfologia clinica come noi piace fare evoca una condizione una ereditary connective tissue disorder a componente vascolare che non è la sindrome di Marfa ma si pone in diagnosi differenziale rispetto ad avere un ipertelorismo significa avere gli occhi distanti non è che se avete l'ipertelorismo avete la sindrome ma è una delle caratteristiche insieme all'ugola bifida anche questa ce l'ha il 2% della popolazione ma non fa la sindrome la milia anche in questo caso può essere presente e l'aneurisma tendenzialmente inizialmente dell'arco della orta cioè del bulbo ortico dell'arco ma che poi si può localizzare in qualsiasi distretto vascolare ed è la differenza con la sindrome di Marfa per chi conosce questa è una l'OSDIETS a livello clinico e facendo il test molecolare quindi appropriatezza prescrittiva in chi lo facciamo nella ragazza assolutamente no ma in chi ha il fenotipo il genitore e nell'ambito dell'identificazione della mutazione in questo uno dei 5 geni causativi di l'OSDIETS di GFBR1 poi andiamo a fare lo screening a cascata della specifica mut variante nella figlia e purtroppo aveva ereditato la mutazione tanto è vero che ha uno spiccato di ipertilorismo Lugola non ce l'ho ma era bifida anche in lei quindi da questo punto di vista si accende definizione della prognosi e prevenzione salva vita perché naturalmente non so ma questo è il vostro mestiere se avreste dato un certificato di donità in questa ragazza ovvero se poi la storia avrebbe potuto essere diversa mancando quella domanda e vi ringrazio per l'attenzione grazie Francesco perché come dire quello che agli occhi di un cardiologo clinico inesperto di genetica può sembrare una cosa semplice romando faccio il test genetico perché questa è stata la narrazione per molti anni tu sei sempre stato un genetista che ha detto tranquilli qui ci stanno le zone grigie e hai ripetuto tutte le cose ce le siamo scambiate talmente tante volte che poi alla fine non ci si può aspettare tutto e ogni risposta dalla genetica ma solamente da un'interazione paziente cardiologo ma ti ringrazio perché insomma credo che sicuramente ce ne siamo giovanili tutti ti ringrazio io perché è proprio il fatto che voi abbiate in questo modo a procurare la genetica ma consentito e non è comune grazie bene grazie Francesco prego allora apriamo la discussione e inviterei allora l'intervento Petroni e Gallotti Petroni eccoci prego diciamo che è stata una una mattinata molto intensa quindi in realtà ne avrei tantissime domande ma selezioniamo io volevo fare una domanda alla professoressa Vinci Guerra che ha presentato un progetto interessantissimo per fortuna già ero entrata in questo progetto e ho visto l'importanza quello che mi chiedo all'interno di questo progetto essendo in Italia già presente delle strutture di prevenzione secondaria io parlo delle palestre sicure che sono le strutture riabilitative sappiamo bene che queste strutture riabilitative vengono sottoutilizzate perché c'è una diciamo soprattutto nella parte estensiva perché nel paziente acuto chiaramente la struttura riabilitativa è importantissima nella fase estensiva il paziente utilizza molto meno le strutture quando in realtà sappiamo quanto sia importante nel paziente con cardiopatia ischemica e nel paziente con scompenso cardiaco quanto riduca la mortalità a lungo termine lo sport nel vostro progetto c'è un'inclusione di queste strutture riabilitative oppure sono tenute fuori cioè si può includere tutto in modo tale da sfruttare meglio quelle che sono già le risorse esistenti quest'è la domanda e lavorare su quello che c'è e farlo funzionare è un obiettivo assolutamente prioritario e non è facilissimo nel senso che bisogna mettere insieme un po' di pezzi io guardo Silvio perché sappiamo bene quante insomma reticenze è un progetto è un progetto talmente articolato nella sua semplicità che però prevede insomma come dire l'interazione di diverse figure che a volte rimangono anche un attimo così di fronte a questa chiamiamola novità che novità non dovrebbe essere però sì assolutamente sì perché sarebbe interessante collaborare anche con il conflitto il mio lavoro è una struttura anche riabilitativa quindi mi farebbe piacere poi confrontarci su questo argomento ma noi come Scienze Motore abbiamo fatto questa esperienza a Sulmona a San Raffaele si può chiamare questa struttura tanti anni fa e abbiamo lavorato così bene con i riabilitatori insieme in questa struttura dove c'era questa enorme palestra eccetera che veramente i risultati sono ottimali perché c'è già un'equipe multidisciplinare che lavora per lo stesso obiettivo per quello sempre della prevenzione secondaria esatto ma infatti io volevo anche in qualche modo interagire con i fisioterapisti proprio perché c'è questo collegamento strettissimo e deve essere una come dire una sinergia non un sovrapporto nella maniera più assoluta sono due lavori assolutamente diversi di grande responsabilità l'uno e poi l'altro ma non sovrapponibili assolutamente benissimo grazie grazie a lei poi volevo fare una domanda al professor Sciarra che ci ha fatto un'interessantissima diciamo lezione sulla fibrillazione atriale nello sportivo anche se comunque da quello che almeno ho percepito io rimane un grosso punto interrogativo il paziente che cioè il paziente in realtà non sono pazienti sono sportivi quindi sono persone comuni in cui noi rileviamo una fibrillazione atriale avendo visto dei casi clinici in cui c'è possibilità di una completa risoluzione di questa problematica quando è che inviamo il nostro paziente a uno studio elettrofisiologico siamo troppo invasivi se lo inviamo subito oppure cosa dobbiamo fare grazie grazie per la domanda che mi permette anche di precisare alcuni pensieri io non voglio far pensare che io sia contro l'invasività o contro mi occupo di questo e ancora in parte percepiscono stipendio per questo quindi ho un conflitto di interesse però volevo dire sicuramente pensiamo all'atto invasivo sia diagnostico cioè pensiamo all'atto invasivo diagnostico quando è finalizzato un atto terapeutico cioè nella fibrillazione atriale chiaramente nel momento in cui mandiamo un paziente a fare uno studio elettrofisiologico è perché abbiamo in mente poi dopo di avere anche un atto terapeutico un'ablazione anche perché da un punto di vista prognostico invece lo studio elettrofisiologico purtroppo segna il passo in molti contesti e qui parlo per quanto riguarda lo studio ventricolare chiaramente diciamo facendo sempre un salto sulla clinica e mi piace moltissimo aver ascoltato quello che Francesco ha detto al professor Brancati noi ci confrontiamo spesso e alla fine qual è il punto comune il punto comune è il ragionamento clinico cioè se io ho un paziente che ha fibrillazione non gli appiccichiamo un'etichetta addosso cerchiamo magari anche di capire se quella ritmia è insorta cioè ma lei quando ha avuto il ritmo a mitraglia aveva prima un ritmo invece regolare ecco magari questi piccoli dettagli che ci fanno capire che è nata una fibrillazione sotto forma di una tachicardia parossistica che succede spesso e che noi troppo poco spesso lo chiediamo ai pazienti ci può fare identificare un soggetto che magari più precocemente arriviamo a un percorso ablativo perché quel paziente potrebbe avere un substrato una tachicardia parossistica che è molto meno rara di quanto uno pensa che poi innesca la fibrillazione arteriale quindi rimane il concetto che l'anamnesi è sempre la parte più importante nell'approccio clinico al nostro paziente invece mi chiedevo un'altra cosa per il professor Brancati questa volta quel paziente con la sospetta cardiopatia ritmogena che poi manda allo studio del genetico nel 48% dei casi mi viene fuori negativo poi che faccio ce l'ha o non ce l'ha la cardiopatia ritmogena se l'ho mandato qualcosa avrò sospettato infatti ma resta una buonissima domanda e lo tratterei come una possibile diagnosi rispetto ho letto recentissimamente io studio da voi e le recentissime linee guida rispetto alla diagnosi di cardiopatia ritmogena se ce l'ha ce l'ha e punto è chiaro che può essere una fenocopia ovvero essere qualcosa che è identico alla genetica ma non è genetico ed esistono per questo argomento almeno io ho letto molte fenocopie e quindi non possiamo ulteriormente stratificare il rischio mi dispiace ma accontentiamoci e dal punto di vista pratico lo tratterei però dal punto di vista vostro come se avesse quella diagnosi e quindi tutto quello che ne deriva dal punto di vista della prevenzione non si può fare personalizzazione medicina molecolare ma ci arriveremo ogni forse adesso molto di meno ma diciamo c'era un periodo in cui ogni due mesi usciva un gene nuovo potenzialmente o comunque una singola famiglia che aveva una mutazione in un gene di questa roba quindi aspettiamoci molte novità ma diciamo l'epoca forse dei geni di malattia è quasi esaurita quindi stiamo andando a cercare nell'altro 99% del genoma altri meccanismi anche perché non è solo codificante tutto il resto non è junk DNA e quindi ci saranno meccanismi di regolazione genica eccetera che spiegheranno forse una parte di quel 40% ancora non diagnosticato io li tratterei come se avessero il fenotipo il problema sarà convincere il paziente se ha uno sportivo che di fronte a un test genetico negativo bravissima ma questo è l'aspetto che dicevo ovvero non riporre tutte le aspettative lì ma quelli che vengono per esempio da te sono ben vaccinati non hanno non hanno quelle richieste che vengono da diciamo da altri da altri amici va bene non so se c'è qualcun altro che vuole fare una domanda non vorrei bene c'è qualcuno dell'auditorio che vuole fare quindi posso andare una mangiata e le mani al centro di cui vuole fare una domanda prego io se c'è nessun altro allora no mi presento sono Domenico Mbarbati un medico di medicina generale e coordinatore del corso di formazione in medicina generale che dovrebbe essere la specializzazione poi faccio io una domanda rimaniamo d'accordo ringrazio il professor Romano per avermi invitato non credevo la cosa così importante soprattutto anche per noi medici di medicina generale che siamo chiamati a certificare l'attività sportiva non agonistica non avendo nessuna linea guida e questo purtroppo per noi è un guaio perché spesso non ci rendiamo conto che quella certificazione deve essere fatta secondo delle norme ben precise e volevo ringraziare anche la professoressa Vinci Guerra che mi ha fatto capire una prestazione della regione Abruzzo di cui noi medici di medicina generale purtroppo ne siamo come molte altre cose sempre fuori non conosciamo non l'avevamo mai conosciuta mi permetta di dire che io faccio il medico da 35 anni di medicina generale e quindi mi fa piacere anche avrei piacere che anche lei venisse al corso di formazione a fare questa relazione come già il professor Romano sa ecco io volevo incentrare questo la medicina generale la medicina generale come voi sapete è il primo accesso del sistema sanitario nazionale dell'utente e oltretutto è capillare io dico sempre nei miei interventi che i medici di medicina generale arrivano all'ultima frazione dell'ultimo comune dove non arrivano i carabinieri quindi noi abbiamo il polso della situazione socio-sanitaria di tutti quanti il paese conosciamo bene questa realtà ma ci preme soprattutto i cronici voi qui avete portato esempio del diabetico e dell'iperteso sarebbe interessantissimo fare degli studi nei nostri studi vi mettiamo a disposizione il nostro personale di studio proprio per fare questo ero soltanto per dire che noi medici di medicina generale siamo pronti ad affrontare queste sfide nuove per noi non molto nuove ma certamente molto interessanti e entusiasmanti perché farebbero sì che queste tematiche che voi avete qui posto siano proprio alla portata di tutti i nostri pazienti noi siamo quelli che gestiamo la maggior parte tutta la cronicità presente sul territorio quindi ecco era un invito perché ci fa piacere collaborare soprattutto all'Università dell'Aquila dove io ho studiato e mi sono specializzato grazie professore poi se andremo fare la domanda io sono qui per rispondere c'è il professor Romano che forse vorrebbe anche lui si deve regolare che ho una domandina per il professor Romano sembra se il maestro Zeppilli me lo consente visto che è prossima la sua lezione magistrale una domanda per il professor Brancati che ringrazio perché la collaborazione le consulenze cardiogenetiche è fondamentale però in ambito specifico di medicina dello sport probabilmente i problemi maggiori che avremo saranno per gli atleti che sono fenotipo negativi e genotipo positivi in cui abbiamo fatto un'indagine perché magari c'è un caso in famiglia e quindi è una domanda sul come comportarsi se ha un'idea e poi può essere molto probabile che troviamo gli atleti che hanno un'indicazione a fare un'indagine delle varianti di incerto significato la variante di incerto significato a mio parere dovrebbe essere considerata dal punto di vista dell'idea sportiva ma questa è una palla per il lavoro del COCIS come un soggetto negativo se non ha un significato certo forse non è un motivo adeguato però anche in base alla tua esperienza di quanto poi di queste varianti di incerto significato possono diventare o in che maniera capire che futuro hanno capire anche dare un messaggio importante per i medici dello sport perché si corre il rischio che per aver scritto mutazione si vada da mutazione a non idoneità senza passare per il reale significato ti ringrazio appunto della domanda che c'entra pienamente intervento sembrava sapessi che ho tolto la diciassettesima diapositiva perché avrei sforato ed era quella della riclass parto dall'ultima domanda la riclass il tasso di riclassificazione delle bus nell'arco degli anni perché ormai possiamo fare pure questi grafici qua esiste la possibilità di riclassificare le bus nel tempo quindi l'indicazione a trovare una bus è quella di aggiornare il follow up ad un anno o due anni rispetto a riclassificare quella variante vi dico la verità non è così comune riclassificarla ma di benigne che diventano patogenetiche ne abbiamo viste o di bus che diventano benigne o viceversa patogenetiche quindi il senso è trovata una variante va fatta una consulenza negli anni per capire se quella variante è stata riclassificata dopodiché avere una variante non può assolutamente proprio per il tasso io c'erano i cubetti ma diciamo se fai un cutillungo con 50 geni hai 30 probabilità su 100 di trovare una bus mi dispiace che non ho enfatizzato ma è un disastro completo ok quindi praticamente metteremmo a casa credo una palestra di gente e quindi la domanda è assolutamente appropriata ma non ho minimamente la soluzione se non fare una lettera di consulenza scrivo che quella bus non è patogenetica dalle evidenze attuali quindi poi la gestione è chiaramente la palla aspetto a voi e dal punto di vista pratico c'era l'altra domanda che era come gestiresti quando hai una mutazione in una malattia che verrà con una probabilità che è la penetranza di quella patologia per età cioè quella ragazza avrà un OSD scusa l'esempio pratico perché se no è troppo vasto quella ragazza avrà un enorisma non è detto solo dell'aorta però per cui una delle complicanze dell'OSD per esempio è al parto la rottura delle ovariche ti faccio un esempio sapete che c'è la danos vascolare abbiamo fatto un esempio ci stanno 42 connective tissue disorder vascolari diciamo che costano migliorno a questa roba e che sono cipressi quando c'è un fattore scatenante quindi dal punto di vista pratico dipende dalla patologia che diagnostichi sicuramente dal mio punto di vista mettere in mano questa notizia non per dare la palla agli altri ma finisce il mio lavoro e comincia quello degli altri quindi io vi dico qual è la patologia ve la provo a scrivere in un modesto italiano nella lettera poi se voi ritenete che quella persona faccio un esempio nell'OSD o nel Marfan ancora di più abbiamo fatti trial con l'Osartan preventivi rispetto al non dilatare non hanno funzionato granché ma non credo che queste persone che hanno una mutazione e malattia credo possano fare lo sport in maniera e agonismo però questo lo dite voi ovviamente altrimenti io faccio oltre il mio mestiere no posso aggiungere a quello che ha detto Francesco che mi ha colpito per la saggezza non è sempre così è una cosa importante secondo me dobbiamo insegnare a tutti quanti che se uno ha chiaramente un quadro di malattia il test genetico può essere utile per modificare la prognosi per avere un'idea per studiare la famiglia perché se io ho una malattia aritmogena francamente evidente non è che sapere qual è la placofilina mi cambia la diagnosi mi può cambiare un po' la prognosi a volte ma non è detto così lo stesso vale per il cutillumo quindi secondo me lui ha fatto un'ottima relazione proprio per questo motivo perché l'idea che si è sviluppata spesso a me capita quasi settimanalmente che se io sono negativo alla genetica non ho malattia e non è vero mi veniva da ridere a me mi ha detto uno ha detto sono una malattia ma è veramente all'idea che gli ardili le trigolari spontanee ripetute e ogni tanto va in sincope dicessi però genericamente è negativo siamo tranquilli siamo tranquilli allora la mia risposta è fatta certificato fattelo fare da chi è convinto di questo ma io voglio soltanto aggiungere a questa chiacchierata questo scambio quando uno cerca di portarlo anche ai livelli più alti diciamo questi sono mondi che si sono parlati poco il professor Zeppilli sa la professoressa sa bene a cosa mi riferisco per la prima volta nella società che ho l'onore di rappresentare in questo momento è uscito un position paper congiunto tra cardiologi cardiologi dello sport e genetisti che sottolinea il ruolo della genetica in cardiologia dello sport e quindi abbiamo provato con molte difficoltà sicuramente un lavoro perfettibile a mettere nero su bianco quello che state sentendo oggi e che può essere letto da tutti quanti per chi ne ha voglia credo che quanto hai detto è importante ed è importante il position paper e magari qualcosa anche nel cocis perché il position paper magari viene non proprio assorbito dal medio dello sport il quale deve avere la regola qual è la regola? il genotipo negativo fenotipo positivo fenotipo positivo genotipo negativo cioè bisogna un po' superare queste categorie e mentre parlava Francesco mi veniva in mente esattamente quel caso che abbiamo discusso poco fa lo porterai nella prossima presentazione insomma perché quello forse merita un commento come quello che ha fatto adesso dice sono negativa geneticamente e quindi posso avere le idoneità sincopi facendo corsi in montagna insomma quindi voglio dire insomma il fatto che poi alla fine non si sia trovato il dottor Manolfi voleva concludere con una sua intervento non ci sono altre domande allora avviandoci alla conclusione perché avete già assaporato il tenore di quello che ci potrà dire il professor Zeppili e quindi sottrarre tempo è quasi un delitto noi parliamo così nella polizia di stato io sono un dirigente cardiologo della polizia di stato attualmente con un ruolo ispettivo vi dico questo perché c'è un problema che almeno io me ne sto occupando da nove anni e ancora non ho visto belle cose sul territorio e quindi c'è un collega stamattina c'era il presidente anche del mio ordine dei medici però non se ne viene un po' fuori Romano ha gettato il primo sassolino la vinci guerra se ne si sta probabilmente già misurando con questo problema che io rappresento come il vaiond che è quello della certificazione medica alla pratica sportiva vi do solo due informazioni che i più sanno però credo che ci siano anche molti studenti e comunque credo che sia la sede idonea se si può avere un piccolo aiuto nel merito che è tutto normativo e che è tutto italiano quindi lasciando stare la certificazione per l'attività sportiva agonistica dove ci sono dei professionisti che sanno bene il loro lavoro e molto spesso si poi ovviamente affiancano a cardiologi dello sport a genetisti comunque è una certificazione che è un vando della cultura tutta italiana per cui è inutile parlarne poi c'era la certificazione per l'attività non agonistica il precedente certificato non esiste più è stato abrogato e si sono create decreto balduzzi del settembre del 2013 un non certificato e un certificato il non certificato è quello che non va affatto per l'attività sportiva ludico motoria non va affatto vuol dire c'è una legge del 18 agosto del 2013 che dice espressamente per non creare ulteriori onerose certificazioni per quanto riguarda l'attività di cui è l'articolo 2 non è prevista la certificazione ben diverso è che un paziente che vada dal suo medico curante piuttosto che dal professor Zeppilli o la professoressa Penca Penca e dica per cortesia mi faccia una bella visita medica perché io voglio andare nella palestra della salute e lì lo richiederei obbligatoriamente non perché hai 5 anelli coni perché si va nella palestra della salute che se ho ben capito si fa terapia e prevenzione secondaria ok se il paziente si vuole fare una bella visita si fa una bella visita perché è un paziente evidentemente molto intelligente e sa come disse un lontanissimo professore lo sport forse fa male al cuore ma sicuramente fa bene alla salute il professore Dalmonte è forse un paradosso più che evidente ma stare a casa a letto piuttosto che andare sempre in bici mi risulta che il ciclismo abbia un'alta incidenza di morte improvvisa dove sta il paradosso che essere sedentari ci si ammalerà di altre cose il professor Romano ce l'ha appena detto l'attività certificativa per sport non agonistico limitarlo alle palestre certificate dalla federazione sportiva nazionale con soggetto tesserato e in qualche maniera i più per motivi assicurativi rimesso nella disponibilità della medicina generale io sono un medico di medicina generale oltre che un cardiologo per l'amor di Dio nobilissimo però mi sembra molto lontana la pratica quotidiana da tutte queste cose che noi abbiamo sentito e secondo me è proprio nello sport praticato fuori dell'attività agonistica che è quello che riserva mi sono occupato di molti anni di morte improvvisa che abbiamo ancora questi 60 mila morti l'anno e su cui possiamo fare quello che possiamo fare quindi io invito nelle sedi poi opportune io lo sto facendo ovviamente su quella amministrativa pubblica e soprattutto politica però è davvero passato il tempo del decreto Balduzzi che ha creato una grossa confusione nel merito i medici di medicina generale sono in difficoltà anche se non tutti sono della stessa pasta diciamo così c'è chi ha un'attività certificativa retribuita che in qualche maniera che ben venga ma ci sono molti professionisti che invece si trovano in difficoltà quasi spaventati l'elettrocardiogramma sotto i 40 anni no sopra i 40 anni sì lascia il tempo che trova lei si faccia un elettrocardiogramma il cardiologo scrive nei limiti della norma il medico curante certifica e andiamo tutti alla palestra ecco se è possibile soprattutto quelle che saranno le generazioni future questo a mio modo di vedere è uno spaccato a cui bisogna dare tanta attenzione tanta attenzione perché poi parte tutto da lì nessuno ha il coraggio di bloccare una persona magari uno uno sportivo agonista ecco qua ci si pensa mille volte prima di stroncare una carriera però per quanto riguarda diciamo le attività sportive all'interno dei palestri della salute e via dicendo bisogna un po' vedere tutti insieme se possiamo rivedere un pochettino quel tipo di indirizzo perché molti molti anche medici dello sport molti un cardiologo non può certificare io non posso certificare me ne occupo da tanti anni non posso certificare se lo va beh ma dottor ma le lo faccia azzardo sarebbe un reato ok quindi un vero non si non si può fare non si deve fare chi lo fa secondo me ha dei limiti e laddove non è richiesto bisognerebbe informare il paziente che poi è certificato comprese le palestre lasciamo stare i marchettari che sono all'interno delle palestre io li chiamo volgarmente così ma mi assumo le mie responsabilità ok quindi nel momento in cui si sta facendo questo notevole salto di qualità perché anche il progetto della professoressa vinci guerra che ovviamente ha anche dobbiamo chiudere no dottor Manoscia hai aperto una finestra quel delitto è nei confronti una cosa estremamente importante quelle che non ho capito io sono appartemente preoccupato perché sono un ciclista si va in bici si dimagrisce si fa attività sportiva per andare in bici non si va in bici per dimagrire detto tutto tutto questo chi lo deve dire a quella persona che fa attività scusa vorrei concludere perché insomma indubbiamente il ruolo del moderatore è il moderatore quindi io ti modero come tu che sei il moderatore hai esposto un problema quello della Balduzzi che è assolutamente confuso chiama in causa i medici di medicina generale i medici dello sport ma non i cardiologi quindi è un problema aperto parliamo una platea che però deve capire quali sono le leggi che stanno dietro questa cosa quindi fondamentalmente abbiamo aperto anche questa finestra abbiamo aperto le finestre delle patologie cardiovascolari a questo punto chiudiamo le finestre che se no ci raffreddiamo un accidente oltretutto io sto con il cappotto perché qui il riscaldamento la crisi ebbe la crisi energetica qui all'Aquila era già acceso l'iscaldamento in tempi non di crisi energetica a questo punto io mi ringrazio tutti e chiudo questa questione e a questo punto mi do pure la parola perché non so adesso per questi strani casi del programma io devo introdurre il professor Zeppilli e allora siccome il professor Zeppilli potrebbe indurre a qualcosa di retorico prendo prestito alcune sue diapositive di cui lo ringrazio perché dietro il professor scusate scusate sto introducendo il professor Zeppilli quindi il professor Zeppilli è un po' della storia della cardiologia dello sport la incarna e quindi vorrei ricordare una serie di persone ripercorrere insieme a voi a molti di voi che magari non conoscono come si è arrivati ad avere queste competenze che avete ascoltato oggi perché non è che nasce per caso la cardiologia dello sport non c'è una stranezza della professoressa Penco che la mette nel corso di studi di medicina e chirurgia e dovrebbero farlo tutto ci sono dei nomi qui che qualcuno di cui conosci qualcuno no ma sicuramente c'è quello del professor Zeppilli c'è anche quello del professor Pelliccia magari chi si interessa di queste cose li ha già conosciuti c'è anche il nome di quello che è il mio maestro e il professor D'Aggianti ci sono Vincenzo persone che forse voi non avete conosciuto ma persone e maestri di un'altra epoca che nel 1981 si sono messi insieme per costituire la società di cardiologia dello sport il 1981 è lontano ed è più o meno coincidente anzi l'anno dopo nasceva la legge che oggi governa la medicina dello sport la governa e gli dà il senso dell'esistenza della certificazione per l'idoneità dell'attività agonistica parliamo quindi di un gruppo di illuminati e tra questi veramente io e il professor Venerando ce lo metterei perché fosse stato il più illuminato di tutti insomma perché perché sopra Antonio Venerando ci scrive e vabbè appunto io ribadivo quanto quanto tu avevi detto detto questo partendo da questa da questa da questo lontano 1981 qualcuno di voi forse c'era insomma voglio dire tutta cioè tre quarti della sala non era nemmeno nata però proprio perché non era nata io lo voglio ricordare che le cose partono da lontano e crescono e arrivano alla vostra conoscenza e questi sono alcune fotografie per dire che questa società una volta che è nata è stata poi diciamo ha avuto una serie di congressi nazionali di cui siamo arrivati diciamo all'ultimo lo scorso settembre questo è Antonio Venerando e questo è il il professor Lubic nel 1985 sono persone che noi abbiamo conosciuto sono stati presidenti della società hanno organizzato i vari congressi nazionali non sto qui a diciamo più di tanto a dirlo questo di Venezia me lo ricordo per tanti motivi sia perché in quella occasione è stato eletto presidente della società dell'area di cardiologia sia perché io al settimo mese di gravidanza andavo a Venezia a tenere una relazione non mi volevano far salire sull'aereo al ritorno mi volevano a tenere a Venezia quindi un ricordo e per quello caricato al professor D'Aggianti che è il mio maestro il mio mentore se volete riporto questa osservazione di Zeppilli che era il segretario generale perché ho vissuto praticamente una mediazione porto questa depositiva non per autocelebrarmi ma per dire che devo assolutamente cambiare per rucchiere perché ho sto panettore in testa che non si fa proprio guardare comunque il ringraziamento che Zeppilli mi ha voluto rivolgere nella sua presentazione perché spesso mi è servito di fare un cuscinetto tra due personalità piuttosto esuberanti e poi ancora statuto regolamento il professor Zeppilli presidenza strideria generale il compianto il professor D'Andrea è un'altra delle persone che hanno fatto grande la cardiologia come anche il professor Furrarello l'aritmologo di fama che ha organizzato una serie di congressi e che ha avuto poi una serie di allievi il professor Carù nomi e visi probabilmente sconosciuti ma per chi ha qualche anno forse qualcosa vogliono dire quindi volevo fare questa carrellata il professor Guiducci sicuramente la professoressa Vinciguerra il professor Guiducci ha sentito parlare perché a Reggio Emilia hanno fatto una serie di sperimentazioni con i laureati in scienze motorie qui stiamo parlando del 1999 parliamo di più di vent'anni fa e allora si diciamo nell'ambito riabilitativo hanno trovato una collocazione e si arriva ai venti anni si arriva ai venti anni con il professor Zeppilli che faceva diciamo organizzato come presidente il congresso a Ostia nel 2003 Guiducci nel 2005 Delise nel 2006 l'ha già citato il professor Romano quindi posso procedere cioè questo è un volume di cultura della cardiologia dello sport e di uomini che hanno fatto la cardiologia dello sport e qui compare qualche viso un po' più giovane come quello di un po' più giovane perché manco tanto insomma di Sandro Biffi che l'ha organizzato diciamo che ha diventato presidente nel 2007 e che poi ha organizzato il il congresso del ventennale e sbagliato il professor Corrado che ascolteremo più tardi vado veloce gli anni scorrono i visi sono i visi del questo è il professor Inama che è allievo del professor Furlanelli e qui arriviamo al professor Pelliccia che nel 2017 diciamo ha organizzato il congresso da cui poi di fatto il professor Berrettini nel 2019 mosso nel 2021 e oggi abbiamo il non c'è la fotografia tua comunque ci sei tu ci sei tu sei in carica e di fatto mentre questi uomini facevano la cardiologia dello sport la cardiologia faceva dei passi da gigante cioè io personalmente ma credo quelli di tutte le persone della mia generazione ma anche qualcuno dopo ha vissuto una era esaltante la cardiologia è partita da questi ecografi forse molti di voi hanno visto nella mia stanza c'è un ecografo un ecografo storico bisognerà trovargli una collocazione comunque all'interno della nella mia ex stanza voglio dire perché non lo è più ma siamo siamo partiti da queste immagini è da qui che è cominciata a partire la cardiologia dello sport non c'era l'elaborazione delle tacche coronariche o delle indagini sofisticate ma le osservazioni fatte dal professor Zeppilli fatte dalle persone che ho appena detto si basavano su questo tipo di conoscenze e nel 1978 questa è una fotografia che a me piace moltissimo perché riporta la prima conferenza internazionale di che devo generare lo sport dove c'è il professor venerando e c'è un giovane professor Zeppilli questa fotografia e questa sua espressione mi ha sempre dato l'impressione della sua passione nell'approccio a queste problematiche passione che ha mantenuto inalterata che si è concretizzata poi nei famosi testi di cardiologia dello sport che hanno fatto crescere molti cardiologi dello sport che si è riversata in questi famosi rimpicentini rossi che avete già visti il primo è del 1989 ripercorriamo le date nell'82 la legge nell'81 la costituzione della società e poi nell'89 i primi protocolli cardiologici fatti dalle società cardiologiche per i medici dello sport delle piccole bibbie forse utilizzate forse un po' troppo come bibbie ma che sono cresciute mentre la bibbia è immutabile e le regole del COCIS sono variate dall'89 al 95 al 2003 al 2009 nel 2017 che è stato diciamo più volte citato e che poi ha trovato ormai eravamo entrati nell'era degli impact factor quindi non si può non essere sulla letteratura internazionale e abbiamo diciamo trasformato i protocolli cardiologici in una pubblicazione su rivista impattata e per concludere per concludere che cosa voglio dire alla fine di tutto questo che no scusate voglio dire che il professor Zeppilli ha voluto ripercorrere una storia della cardiologia dello sport perché Zeppilli c'è dentro l'ha fatta in prima persona da quel 1978 con la sua come dire aria intenta io l'ho conosciuto poco dopo però qui stiamo dando un po' di dati anagrafici che imbarazzanti insomma ma di fatto mi ha sempre come dire appassionato la sua passione mi sono divertita moltissimo a fare il segretario generale della società di cardiologia dello sport poi sono arrivata fino al livello di vicepresidente poi essendo una donna qui donne non ce ne stavano quindi ho detto no non voglio essere la prima donna presidente di una società perché porta pure male tra le altre cose visto che ci sono state anche altre presidenze ma comunque ho seguito ci sono stata ho partecipato ancora oggi partecipo perché mi hanno fatto appassionare queste cose e quindi oggi con passione visto che qui stiamo a fare un master di radiologia dello sport c'è una platea di giovani e io credo che i giovani la storia la debbano conoscere perché se non si sa da dove si viene veramente poi alla fine non sappiamo di che stiamo parlando si avete sentito parlare di legge Balduzzi ma ovviamente se non vi diciamo che cosa è la legge Balduzzi è la concessione dell'editorialità non agonistica giusto qualcosa di autobiografico vi può dire ma di fatto io adesso devo dare la parola al professor Zeppilli stavo vedendo se riuscivo a passare l'ultima diapositiva di se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee o se non valgono nulla o non vale niente lui ora Zeppilli perché dico perché ho messo questa diapositiva che poi mi piace molto insomma perché è anche un grande uomo che l'ha scritta Zeppilli ha portato all'attenzione della cardiologia italiana non solo della cardiologia dello sport le problematiche che oggi esporrà sulle le azioni che lui resenterà e sulle anomalie coronariche sulle anomalie congelite delle arterie coronarie tutto tutto quello che c'è da sapere non ci sono le anomalie congelite delle arterie coronarie erano una curiosità degli emodinamisti fino a un certo punto ma negli anni di cui vi sto discorrendo e degli anni di cui vi parlerà il professor Zeppilli di fatto nemmeno si conoscevano quello che lui ha portato avanti è stato poi emulato nella letteratura internazionale e il suo grande merito è quello di aver insistito fino alla morte su questa cosa e oggi le anomalie congelite della coronarie fino alla morte lo direi quello ciclista mi ha detto che c'è la morte improvviso tu hai insistito fino alla morte oggi mi sento ragazzi abbiate pazienza un applauso insomma questo è per dirvi chi è il professor Zeppilli che cos'è la cardiologia dello sport in Italia no non lascio mai il posto facilmente lo so lo so cioè che cos'è la cardiologia dello sport e quindi ascolterete una lettura magistrale su un argomento che dovete assolutamente ricordare e conoscere che esista ed è un problema clinico anche questo mi dicono avevo detto di mettere la diapositiva sarò breve adesso è finito non è finito quindi io non ho finito però hai raccontato una storia e quella questa storia che hai raccontato va benissimo con quello che andremo a dire che cos'è che non gli piace lì ormai c'è un office open xml io non toccherei niente sì infatti però no allora la parte diciamo saltata la parte un po' sfortunata che del ciclista che che diciamo ha un'alta prevalenza di morte improvvisa e la parte sfortunata che ha lottato fino alla morte vorrei fondamentalmente dire una frase che consegno ai giovani perché questa relazione la consegno ai giovani che la diceva sempre un certo Albert Einstein uno che insomma qualcosa capiva diceva è meglio essere ottimisti di avere torto che essere pessimisti e avere ragione ricordatevelo le anomalie con generale coronale tutto quello che c'è da sapere io aggiungo subito quasi tutto quello che c'è da sapere perché è impossibile dirvi tutto non so se va avanti questa cosa come va avanti funziona questa no col mouse ah con questo anche col mouse ah perfetto allora questa questa relazione la dedico a un giovane al mio allievo prediletto si chiama Salvatore si chiamava Salvatore Salvo che ha condiviso questa passione per questa tematica per me per troppo poco tempo che è morto improvvisamente a 35 anni e quindi vorrei ricordarlo gli iscritti a questo master lo hanno conosciuto perché hanno avuto delle lezioni anche se non di persona online quindi sanno salvo non c'è più le anomalie delle coronarie è stata salvo non c'è più ma come se ci fosse perché vi parlo di questo Paolo Angelini che è un italiano è un italiano che vive a Houston col quale parlo perché parla molto volentieri ogni tanto l'italiano nel 2007 quindi 15 anni fa diceva che queste anomalie coronariche in realtà non erano ben definite però diceva una cosa importante che per saper gestire i portatori di queste anomalie in ambito sportivo o militare i cardiologi dovrebbero sottoporsi a un training specifico cercherò di spiegarvi perché dovrebbero sottoporsi a un training specifico nel 2003 Domenico Corrado il professor Corrado che ascolterete dopo ha consegnato alla letteratura questo lavoro molto importante in cui dimostrava che lo sport aumenta il rischio di morte improvvisa nei giovani atleti però attenzione solo i giovani atleti con malattie del cuore misconosciute cioè non conosciute o non diagnosticate però dimostrava tre anni dopo una cosa molto importante che se facciamo data al decreto del 1982 cui faceva cenno la professoressa Penco la percentuale di morte in incidenza di morte improvvisa negli atleti nella regione veneto ma direi in generale in Italia in 22 anni si è ridotta praticamente dell'89% sfortunatamente nonostante questa dimostrazione di efficacia il fatto che questa legge in qualche maniera ha limitato i casi di morte improvvisa non li ha del tutto esclusi ci sono giovani e giovanissimi sportivi che hanno continuato a morire sui campi di gioco questa è Benedetta Benedetta io ho conosciuto i genitori è morta durante una partita di basket anzi non è morta durante una partita di basket andando in arresto cardiaco hanno tentato in tutti i modi rianimare l'hanno portata in pronto soccorso l'hanno portata in ospedale ma dopo una lunga battaglia è deceduta 13 anni la causa dice il giornale è una miocardite batterica fulminante del tutto sbagliato non esiste in realtà Benedetta è morta per un'origine anomala della coronaria sinistra del seno di Val Salva Destro se voi guardate questa è la coronaria destra la coronaria sinistra dovrebbe stare di qua in realtà sta vicino alla coronaria destra ma questo caso è ancora più importante questo ragazzo nel 2019 in Abruzzo qui in Abruzzo è morto improvvisamente sul campo ma vorrei cogliere la vostra attenzione su una cosa molto importante che poco prima cioè alcuni mesi prima aveva avuto un altro malessere gli avevano fatto degli esami e nessuno nessuno si era accorto di niente andava tutto bene l'anatomo patologo senza fare nomi ha trovato un'origine anomala della coronaria se tornate un attimo indietro dice che la asle di Chieti suggerisce poi la asle è un muro non si sa chi l'ha detto che si sarebbe potuto vivere in sé con una coronarografia che voi sapete che è un esame invasivo io non credo che servisse una coronarografia non credo vedrete perché di sicuro c'è che queste anomalie cardiache sono a rischio ma tutti pensavano che fosse un mio divertimento ma in realtà non è vero se voi prendete la casistica americana di Berrimera 2016 è la seconda causa di morte improvvisa nei giovani atleti negli Stati Uniti se noi togliamo la cardiopatia ipertrofica cardiopatia ipertrofica che in Italia è praticamente sconosciuta come causa di morte improvvisa è la prima causa tant'è vero che in Italia vedete che è la terza causa di morte improvvisa ma quello che vi colpisce è un'altra cosa che il rischio di questi giovani di morire da sport da sforzo è 79 volte maggiore di quello dei sedentari cioè in altri termini questi giovani morono esclusivamente durante attività fisica intensa attività sportiva ma perché morono quasi esclusivamente durante la pratica sportiva perché queste anomalie possono causare un'ischemia cronica o meglio non è corretto il termine possono causare ripetute pusse di ischemia da sforzo questo è uno dei casi di un ragazzo di 15 anni descritto da Cristina Basso che se ne è occupata tantissimo di questo che aveva più volte sveniva sul campo e nessuno aveva trovato la causa di questi svenimenti quando si è andati a fare un'autopsia hanno visto che aveva una necrosi cioè una morte delle cellule con una fibrosi con delle cicatrici che sostituivano le cellule morte nel cuore quali sono i meccanismi responsabili di schemi allora si pensava a tante cose che l'arteria venisse schiacciata tra orto e polmonare ma ancora una volta Paolo Angelini ha sottolineato il ruolo di una cosa molto importante il ruolo del decorso intramurale cosa vuol dire? vuol dire che l'arteria non capisco qui non parte ovviamente va bene vi faccio vedere questa immagine quello era un video molto carino l'arteria che corre dentro la orta quando la orta si espande perché aumenta la quantità di sangue si schiaccia si schiaccia ovviamente e non ci passa sangue qua dentro quindi il soggetto per un certo periodo per tutto il periodo in cui la sua frequenza cardiaca è alta perché è sotto sforzo non riceve sufficiente quantità di sangue secondo quesito importante sono anomalie congenite rare o talmente rare che noi possiamo ignorarle anche qui ci viene in soccorso Paolo Angelini che ha fatto uno studio finanziato da un magnate americano da uno che aveva i soldi e ha scrinato ha studiato oltre 5.000 studenti delle scuole superiori e vedete che le anomalie coronariche che ha fatto anche la risonanza magnetica sono lo 0,45% di tutte le cause potenzialmente a rischio di morte quindi di 1,47% di cause di morte improvvisa lo 0,45% hanno anomalie coronariche mi sono preso la briga visto che faccio il medico della federazione degli agio calcio di fare un piccolo paragone se noi prendiamo i giocatori tesserati nel 2020 prima del covid e ci mettiamo una prevalenza dello 0,45% abbiamo 4.562 direttanti ma soprattutto 2.943 giovani con età inferiore a 16 anni che sono potenziali portatori di queste anomalie quindi sono rare ma non rarissime e quindi identificare questi soggetti in vita prima che muoiono improvvisamente è difficile sicuramente ma non è impossibile io ho cominciato nell'87 quando col primo eco bidimensionale sonda meccanica mi sono accorto che gli atleti si vedevano le coronarie vedete che qui si vede la coronaria a sinistra la circonflessa la discendente qui la coronaria a destra allora ho detto ma perché visto che si vedono non proviamo a vedere le coronarie anche nei giovani ci ho studiato per 10 anni ho mandato il lavoro negli Stati Uniti me l'hanno clamorosamente bucciato se vedete che era troppo avanti nel tempo mi hanno anche detto anche preso in giro cioè dice ma che è sta roba delle coronarie l'anno dopo però sono riuscito a pubblicare i primi tre casi nel 98 e la la vita in particolare il tempo è un galantuomo anche se a volte ci mette un po' di tempo a mettere a posto le cose è un po' lento ma diciamo che a fine ottobre 2022 l'idea che si possono vedere le coronarie nei giovani comincia a circolare con meno scetticismo questa è una coronaria destra questa è una coronaria sinistra questa è una circonflessa oramai molti sanno trovare le coronarie nei giovani vedete quanti lavori sono venuti fuori con lo screening delle coronarie come si fa a trovare un giovane che ha le coronarie anomale qualcuno mi ha dato grande soddisfazione questo è il professor Berardo Sorubbi che è uno che si considera un mio allievo su questo campo e gli anziani hanno molti allievi questo ragazzino alla prima partita di calcio è andato in arresto cardiaco sul campo fortunatamente c'era il defibrillatore sono riusciti a defibrillarlo 13 anni la vedete sul giornale la nuova sfida di Alessandro salvato dal defibrillatore va in ospedale e decidono che non trovano nessuna nessuna causa di questa morte di questa fibrillazione ventricolare decidono di mettergli un defibrillatore impiantabile un ACD si chiama ma il professor Sorubbi che viene interpellato dice ma scusate fate pazienza ma dove ha avuto l'arresto mentre giocava a calcio ma gli avete guardato le coronarie no e allora dice un attimo è andato lì e gli ha trovato un'origine anomala della coronaria sinistra come benedetta come benedetta quella del basket e invece gli mette in un defibrillatore e l'ha consegnato al cardiochirurgo che gli ha rimesso apposta la sua coronaria quindi l'eco è importantissimo ma le nuove tecniche particolarmente la coro tc sono diventate decisive anche la cardioresonanza con determinati programmi ma la nuova la coro tc è disuntata decisiva perché come vedete ci fa vedere perfettamente le coronarie ci fa vedere la coronaria d'est la coronaria sinistra in questo caso strano ha una coronaria discendente anteriore dual cioè due discendenti anteriori cosa è cambiato tantissimo questo è il mio primo caso del 1988 che però l'eco non era fatto male si vedeva la coronaria d'est e la coronaria sinistra guardate sei anni dopo fa l'attacca di controllo come si vedono bene le due coronarie che nascono praticamente dallo stesso osseo ma si vede già che questo signore comincia a sviluppare una terosclerosi oggi con la coro tc si possono fare tantissime cose questa è la scuola la nostra scuola radiologica a cui io ho insegnato ho fatto vedere tutti i miei casi che vi può dire come nasce la coronaria qual è l'angolo se la coronaria è stretta se c'è una deformazione ovalare che è quella che poi noi vediamo se andiamo a fare l'aivus cioè l'ultrasuono all'interno della coronaria 35 anni di esperienza però guardate è una cosa particolare nei primi 30 anni ho raccolto 23 atleti di origine anomala dal seno sbagliato 6 di origine anomala della coronaria sinistra da destra che è la più pericolosa e 17 della destra da sinistra nella seconda serie in 5 anni ne abbiamo raccolti 27 enormemente un numero enormemente maggiore perché molti oramai lo sanno e ce li mandano guardate questa è un'origine alta della coronaria destra molto anomala fuori della orta si vede anche con l'ecotridimensionale ma i casi clinici sono quelli che ci insegnano più di tutti inizio con quello con cui sono più affezionato questo ragazzino alla prima partita sul campo ha una sincope più di una sincope perché è stato un minuto praticamente senza coscienza ha un ecg perfettamente normale ha una prova di sforzo perfettamente normale ma aveva avuto una sincope io che ero appassionato sono andato subito a guardare allora le coronarie e ho trovato che la coronaria sinistra nasceva vicino alla coronaria destra aveva un decorso all'interno della orta facendo una coronarografia allora e il professor Figgiola Alessandro Figgiola da me detto Santo Alessandro ha preso la coronaria sinistra e gliela è appiccicata nel posto giusto cioè ha fatto un intervento che si chiama di arrufing ha aperto la coronaria finché ha creato un nuovo ossio questo vedete è l'eco dopo l'intervento Roberto a dicembre 2021 mi ha scritto che voleva fare un controllo lui lavorava all'estero 17 anni dopo la correzione chirurgica giocava un po' a calcetto faceva un po' di sport un po' calcio a 5 completamente negativo la coronaria è perfettamente in ordine questa ragazzina allenata dal padre ogni tanto sveniva durante gli allenamenti intensi la mamma non era d'accordo che era emotiva ma aveva ragione perché aveva un'origine anomala della coronaria sinistra molto molto brutta il padre minimizzava diceva che la ragazzina era emotiva ma sta ragazzina si sentiva male questa è la coronaria sinistra che dovrebbe nascere qui e invece nasce di qua è tutta appiccicata la orta e come vedete il primo tratto della coronaria è estremamente sottile qui il sangue non ci passa ci è passato dopo quando il professor Alessandro Figgiola Santo Alessandro Figgiola gli ha rifatto questo bellissimo nuovo ostio nel seno sinistro questo è ancora più educativo perché questo è il padre di un giovane colciatore preoccupato che chiede una seconda opinione calcio giovanile di alto livello nell'ultimo anno ha tre episodi di malessere in partita con pallore diventa pallido ricordate ragazzi che voi state sul campo diventa pallido comincia a sudare freddo si sente male si deve mettere per terra fa due consulenze cardiologiche tutte e due negative gli fanno un eco un eccizio da sforzo negativo e il medico lo sport poverino rassicurato dai cardiologi gli dà un certificato a un anno ma questo ragazzo continua a sentirsi male e allora il padre chiede una seconda opinione la prova sforza è negativa di base all'acme e nel recupero l'eco è negativo l'eco standard è negativo ma io la prima cosa che ho pensato non è che ha un'origine anoma della coronaria e infatti gli abbiamo fatto un eco più mirato e la coronaria destra anziché nascere qui nasce a sinistra anzi per essere precisi nasce dal tronco comune della coronaria sinistra quando facevo vedere queste cose mi dicevano tutti che era un visionario cara Elena ma poi l'angelo d'acca mi ha dato ragione perché effettivamente come l'ho vista io nasce dal tronco sinistro passa lungo la orta dentro la orta ma la prima parte della coronaria è praticamente estremamente sottile è sempre santo Alessandro Rigiola è riuscito a fargli questo bellissimo nuovo ostio e questo ragazzo è 5 anni che gioca ed è perfettamente normale vado verso la fine perché vi ho annoiato le sincopi tagliaritmi che caro presidente della SIC Sport mi raccomando è distratto il professor Sciarra è distratto ma adesso gli richiamo l'attenzione è una donna che distrae eh lo so le sincopi tagliaritmi non sono sempre dovute solo a tagliaritmi questo ragazzino ho 14 anni e gioca a basket a livello agonistico si alza di notte per bere ha una tacchieritmia si sente il cuore che va velocissimo comincia a sudare freddo e stramazza per terra la madre se ne accorge perché sente il botto poi c'è altri allenamenti arrivo altri episodi simili simili o in allenamento ma nel recupero dopo sforzo intenso ha di nuovo un altro episodio di palpitazione con senso di oppressione toracica ovviamente va in ospedale non vi dico qual'ospedale non vi dico nemmeno la regione gli trovano qualche strasistra gli trovano questa piccola salva di tacchiardia ventricolare e quindi gli fanno un test alla emalina non si sa perché negativo gli fanno uno studio elettrofisiologico endocavitario negativo gli mettono anche un loop recorder come ha detto il professor Sciarra giustamente per vedere perché gli venivano le tacchiardie dopo due mesi loop recorder negativo per la ritmologo il ragazzo è sano ma il ragazzo sarà pure sano dice lui ma ogni volta riprende a giocare e se li sente male di nuovo e i genitori chiedono una seconda opinione l'eco il test cardiocoronale è negativo ha qualche strasistro ma poca roba fa l'eco la coronaria sinistra si vede bene non si trova la coronaria destra dove starà sta coronaria destra allora cerca ricerca prova riprova conoscendo l'anatomia compare questa rubetta dietro la orta dice ma sarà la coronaria destra effettivamente era la coronaria destra vedete è una coronaria unica tronco comune circonflessa discendente anteriore la coronaria destra che è molto sottile estremamente sottile passa dietro la orta sta in parte dentro l'arteria e finisce praticamente molto prima del tempo e questo è l'ultimo così pure i maratoneti anziani hanno la loro parte abbiamo imparato col tempo che tali anomalie possono rimanere silenti per anni quindi avete capito che le anomalie sono pericolose nei giovani sono pericolose nei giovani e quelle più pericolose sono proprio quelle dei giovani però abbiamo imparato anche che possono rimanere per tanto tempo silenziose Peter Maravich chi è che gioca a basket alzi la mano c'è uno che gioca a basket qua dentro ecco meno male detto Pistol Pete perché era uno dei più grandi tiratori da tre che siano ricordati nella storia dell'NBA si è fatto 650 partite in NBA è morta a 41 anni dopo una partita amichevole per un'origine anomale della coronaria sinistra allora arrivano pure i master questo è un ex campione di box che vuole diventare maratoneta master ce lo manda il medico dello sport che dice ma sotto sivellamento del tratto ST aritmie ventricolari complesse da sforzo effettivamente un pochino l'ST sotto sivella ma non è una cosa clamorosa però di aritmie complesse da sforzo ce ne ha parecchie anche perché sono polimorfe e anche delle coppie facciamo un test cardiopolmonare che voi giovani dovete imparare a sapere cos'è test cardiopolmonare si fa col consumo d'ossigeno la soglia anaerobica e a un certo punto il consumo d'ossigeno si appiattisce il tratto è molto precoce cioè vuol dire che il cuore non ce la fa più tanto a pompare vuol dire che fa fatica a dare ossigeno e la prima cosa che ti viene in mente in uno dei 58 anni è che abbia le placche di colesterolo nelle arterie abbia un'ischemia da aterosclerosi ed è vero effettivamente ce l'ha un po' di placchette sulla discendente anteriore ma non sono placche ostruttive cioè perché dovrebbe avere l'ischemia bene è tutto chiaro quindi ha una aterosclerosi coronarica non struttiva è un amico cardiologo a voce gli ha detto che non è così grave ha delle placchette potrebbe fare le gare peccato che la sua coronaria destra nasce a sinistra in alto nella orta dovrebbe nascere qui e nasce quassù ha un decorso intramurale ed è estremamente sottile per finire una cosa sola che casomai se qualcuno mi fa una domanda in discussione ne parliamo ricordatevi che esiste anche il ponte miocardico questo era un vecchissimo film molto bello forse Maria potrà ricordare io sicuramente me lo ricordo uno sguardo dal ponte con un attore dell'epoca si chiamava Raffo Vallure e il ponte miocardico è un'altra cosa importante che dovete conoscere perché è frequente ma raramente nella sua frequenza può dare un'ischemia da sforzo che cosa vuol dire il ponte miocardico vuol dire che la coronaria anziché decorrere sul muscolo cardiaco sopra il muscolo cardiaco si infina nel muscolo e poi riesce e quando il cuore si contrae violentemente questa coronaria si strozza io mi fermo qui perché se qualcuno vuole c'è qualche domanda anche se è una lettura magistrale vi rispondo volentieri paolo grazie non sguardo dal ponte è un qualche cosa raffallone insomma sguardo dal ponte è view from the bridge però questo è l'originale americano e io ci ho aggiunto maiocardial perché maiocardial bridge avete ascoltato quelle che sono delle cose a cui il cardiologo ma anche il medico dello sport spesso non va a pensare davanti a delle alterazioni modeste mi sembra che tutti i casi clinici o morivano improvvisamente oppure c'erano delle alterazioni insospettabili per cui alla fine uno diciamo grazie anche ai potenti mezzi dell'Università Cattolica del Salve Cuore ai potenti mezzi della voglia di studiare l'ultima notizia che non vi ho dato che la do e te la do anche a te siamo chiaramente raccogliendo la casistica arriveremo entro la fine dell'anno a otto dico otto ragazzi con origine enorme delle coronarie operati che sono tornati a giocare a livello agonistico certificato li ho fatto io dopo una serie di protocolli molto particolari sono totalmente sintomatici a parte il primo caso che è 17 anni che ha un follow up di 17 anni gli altri almeno tutti quanti hanno un follow up di due anni e non hanno avuto più disturbi e addirittura si sono fatti promotori di un'iniziativa di cercare di insegnare ai giovani cardiologi i genitori di questi ragazzi di insegnare come si fa la diagnosi di anomalia coronarica questa è la prima cosa la seconda cosa che vi devo dire perché ci tengo che di tutte le persone che ho incontrato quello che a cui sono più debitore è il professor Alessandro Figiola perché quando gli raccontai questa cosa Alessandro Figiola è un cardiochirurgo in pensione da tempo ma continua a lavorare sempre e gli raccontai questa cosa fu l'unico che mi disse ma sai che questa cosa è veramente interessante io non la sapevo ma tu me dico come scusa Alessandro tu fai operi fallò operi le trasposizioni dei grossi vasi le vedete le anomalie coronariche perché qualcuno di questi ce l'hanno sì però non ci siamo mai posti il problema di quelli che fanno sport e hanno le anomalie coronariche bene vi posso dare le ultime notizie sono arrivati ad operarne 104 sportivi e vi racconto la storia più bella che mi ha raccontato vi porto via un minuto una mattina a colazione a un congresso facevamo colazione io e lui e mi ha detto senti Paolo sai che hai proprio ragione e dico perché mi dici questo Sandro beh senti ti racconto che è successo questo ieri anzi due giorni fa una ragazzina a San Donato milanese ha perso la corriera per tornare a casa ha perso la corriera per tornare a casa era l'ultima corriera che la riportava a un paesino dell'Interland milanese e ha cominciato a correre come una pazza ha cominciato a correre l'autista l'ha vista nello specchietto e ha detto poverina questa adesso come ci torna a casa si è fermata si è fermata con l'autobus e l'ha aspettata la ragazza è arrivata di corsa affannatissima perché non era un'atleta era una ragazza un'atletante così che vanno a scuola 16 anni e salì a sull'altro e ha detto guardi la ringrazio proprio altrimenti boom secca per terra arresto cardiaco si rendono conto che è un arresto cardiaco chiamano l'ambulanza che ci mette due minuti perché era l'ospedale di San Donato la fermata e l'autobus erano a 100 metri la caricano la defibrillano la portano in rianimazione e gli fanno una coronagrafia d'urgenza che c'era il professor Frigiola il giorno dopo la operano e adesso si è laureata ecco questo è più che è sufficiente a dirvi la passione che bisogna metterci in queste cose io credo di essere debitore a poche persone ma lui sicuramente si io insisto comunque che tu hai avuto dei validi ascoltatori nelle varie istituzioni ci di Frigiola perché ovviamente andare a pensare di operare di andare a fare questa chirurgia estetica della coronaria è sicuramente una cosa da cardiochirurgo pediatrico forse non molti sì sono quasi tutti i cardiochirurghi pediatrici che hanno questa sensibilità però siccome ho seguito negli anni da quando tu portavi in giro l'ecopardiografia un po' come quando noi portavamo in giro gli aghi da sforzo e dice che ce li inventavamo e non c'era molto altro per poter andare a provare fino a quando poi hai cominciato a dire i radiologi ci cominciano a fare le tac ci cominciano a dare la conferma di agnosi cioè è un percorso di progresso un percorso di progresso che puoi fare se qualcuno li ascolta questo adesso non so se c'è Ernesto di Cesare quando io sono arrivata all'Aquila questo è un altro aneddoto e si parlava di cardiologia ritmogena a Padova già in quegli anni se ne parlava e qui c'è l'Ernesto di Cesare che è un cardiologo nato cardiologo e poi diventato radiologo gli gli stico ma quanta gente ti arriva con il sospetto di cardiologia ritmogena al ventricolo destro dicevo ne facciamo un sacco poi qui l'ecopardiografia è molto meno diffusa della risonanza perché insomma sono aspetti regionali della cultura cardiologica e di fatto andammo a rivedere tutti i soggetti che erano arrivati per sospetto di cardiologia ritmogena del ventricolo destro tutti ovviamente avevano delle eritmie nessuno più di tanto è andato a cercare il ventricolo destro del collega cardiografia e abbiamo diciamo fatto una una specie di di classificazione sulla diciamo sulla probabilità di malattia inserendo tre elementi che davano una cardiopatia improbabile e una cardiopatia improbabile insomma sulla base solamente del reperto della risonanza magnetica diciamo come quelli conosciuti e quelli riconosciuti dalla position paper dell'epoca insomma veniva fuori che praticamente il numero dei soggetti che c'aveva realmente la cardiopatia erano bassissimi e quella più quella che c'aveva proprio tutti quanti gli elementi che non gliene mancavano anche uno era la donna di 82 anni quindi voglio dire e questo cosa lo riportammo mi ricordo a Marelleva mi moderava il mitico professor Tiene insomma che apprezzo molto perché all'epoca la risonanza non è che la cosa voglio dire come dire devi avere gli interlecuzioni questo è come devi avere il cardiogenetista insomma che devi ascoltare perché altrimenti l'intuizione poi alla fine dice ma che stai a di come si dice a Roma insomma ma che stai a di diceva Alberto Sorti e con questo piccolo se ci sono delle domande da parte dei più giovani Presidente c'è pure un altro lì diamo la parola al giovane beh io darei la parola prima al Presidente diamo la parola al Presidente dammi retta che il Presidente ti può servire vedi volevo rispettare la gioventù solo per un commento perché il Professor Zeppilli fra tanti meriti anche l'unico riesce a spaventarmi perché se c'è proprio l'incubo sul campo è questo delle anomalie congenite di origine delle coronarie ha fatto capire tantissime cose però a me ha fatto capire una cosa volevo magari un sobrale commento su questo di valorizzare il colloquio con il paziente perché devo dire per lo meno a me personalmente lo seguo da tantissimi anni ha fatto cambiare anche l'approccio nei confronti di sintomi che possono sembrare apparentemente banali come il dolore toracico da sforzo che è un sintomo che nel bambino nell'adolescente viene quasi sempre banalizzato qui ci ha fatto vedere dei quadri clinici che prima di avere quello che purtroppo hanno avuto per fortuna molti si sono salvati avevano parlato di sé clinicamente e sono stati ascoltati da qualcuno che ha saputo interpretare questi casi quindi torniamo ancora una volta al fatto che uno screening fatto bene ci consente di identificare tante cose e quindi facciamolo sempre meglio grazie Luigi una cosa importante visto che qui ci sono molti giovani una cosa particolare io ci sto studiando da tempo più o meno ho capito perché una cosa particolare è importantissima è che molte volte molte volte un numero di giovani di questo genere che ha anomalie coronariche non ha dolore toracico ma ha degli equivalenti cioè sente un senso di oppressione si sente sudare freddo sente che sta per svenire ma non sviene e uno di questi l'abbiamo individuato l'abbiamo individuato perché sono le storie che ti insegnano perché io mi ricordo che il medico che me l'ha mandato che è un medico di una scuola di serie A questo giocava nella primavera di una scuola di serie A il medico che me l'ha mandato mi disse una cosa che vi consegno mi hanno detto che è svenuto sul campo mi hanno detto che non ha niente un grande ospedale di una grande regione di una grande città mi hanno detto che non è niente ma io non ci credo io dico perché non ci credi non vi dico il nome dice io non ho mai visto un calciatore giovane capitano della squadra uscire al settantesimo perché si sente male ha detto ma quante volte è successo dice no l'ultima volta è svenuto e quindi hanno preso e hanno portato via ma dice lui era già la seconda o terza partita che chiedeva il cambio quindi ricordatevi se un giovane calciatore o chiunque esso sia esce dal campo perché si sente male qualcosa ci deve avere magari non ha un'origine nuova della coronaria magari ha semplicemente mangiato male o ha l'influenza o come è successo nel periodo c'è avuto il covid e c'è pure la miocardite perché lasciate perdere quello che c'è sui giornali noi dei miocarditi da covid ne abbiamo viste un discreto numero in giovani spesso trascurate perché che fa che fareste voi che fareste voi c'è avuto il covid appena siete negativi al tampone andate a giocare io quando ero giovane sono andato di nascosto di mia madre con la febbre a 39 a giocare una partita tipo al lavoro e il giorno dopo mi è venuta la varicella però mia madre aveva scoperto quando sono tornata a casa durante la partita con la febbre a 39 non so quante taggipirine ero quasi svenuto però sono andato a giocare allora che succede? succede che dobbiamo stare attenti a queste cose che nella stragrande maggioranza dei casi non c'è nulla però se queste cose si ripetono allora un po' più di attenzione ci vuole veloce dubbio c'è una domanda? eh ora devi fare la domanda eh mi raccomando eh buongiorno e allora molti dei casi che ci ha presentato ci sono stati prima delle sincopi e poi la diagnosi di origine anomala e immagino che sia possibile che che non ci siano degli episodi sincopici precedenti ma direttamente ci possa essere arresto cardiaco e volevo chiedere se è possibile una diagnosi di origine anomala precedentemente a episodi del genere ecco questa è una domanda molto intelligente questa è una domanda molto intelligente il ragazzino che si è arrestato sul campo a Napoli ma ce ne sono anche altri casi non avevano mai avuto un sintomo prima quindi queste patologie sono d'alto rischio sono d'alto rischio proprio perché l'arresto cardiaco può essere la prima manifestazione della malattia io non sono andato lì a indagare però se il ragazzino avesse avuto dei sintomi e magari un po' l'avesse trascurati però da quello che mi hanno raccontato il professor Sarupi lui non aveva mai avuto disturbi però a noi è capitato gente ma mica uno che non ha nessun disturbo è stato scoperto casualmente come è stato scoperto casualmente gli ultimi due che abbiamo scoperto sono una ragazza di calcio professionista e un ragazzo di calcio professionista perché qui c'è da riflettere perché l'ecocardiografia nei professionisti è obbligatoria e quindi noi facendo l'ecocardiografia andando di routine dico bene Elena di routine la scoprì proprio salvo andando di routine a guardare dove stanno le coronarie riusciamo a far diagnosi anche nei soggetti asintomatici c'è una domanda che tu mi potresti porre o anche l'auditorio perché non lo facciamo a tutti e la mia risposta è non possiamo farlo a tutti perché qui entriamo nel meccanismo facciamo l'ecocardiografia obbligatorio a tutti prima domanda no seconda domanda perché no perché nessuno guarda le coronarie o pochissimi quindi possiamo pensare secondo perché sarebbe un carico di lavoro per il servizio sanitario pazzesco fare l'eco a tutti terzo il giorno che tutti i giovani cardiologi avranno imparato a guardare le coronarie allora potrei ripensarsi ma quel giorno probabilmente starò in bicicletta sul lungomare di Ostia facendo però gli scongiuri riguardando sempre l'incidenza di morte improvvisa nei ciclisti buongiorno per lontano potremmo ottenere un'altra o una direzione sui punti miocardi perché sui punti miocardi ci hai dato questo flash ci sono un'altra metà relazione ma non si può fare non si può fare perché è un altro capitolo che non ha a che però l'ultimo caso ve lo posso far vedere l'ultimo caso ve lo posso far vedere aspetta questi sono gli anziani questo l'abbiamo pubblicato vi faccio vedere l'ultimo caso che è il più bello di tutti se spegne la luce finalmente primavera ha fatto qualcosa stamattina i cardiologi dovranno anche riconsiderare alterazioni ST da sforzo in atleti giovani asintomatici questo è l'ultimo della allora questo ragazzo a 20 anni è un calciatore pressionista asintomatico ha delle anomalie della riprovalizzazione alla visita di tonetà cioè la prova sforzo più che altro si vedono nelle derivazioni inferiori 2 e 3 avf si vede molto bene qualche cosina anche nel borgordiale non clamorose ma c'è là ha un eco normale ha le coronarie perfettamente normali questa è la coronaria destra e questa è la coronaria sinistra che stanno esattamente nel posto dove devono stare la coronaria destra sta nel seno di valzalva destra e la coronaria sinistra sta nel seno di valzalva sinistro ma il professore che sarei io che studia ha un sospetto andando più avanti nella coronaria sinistra discendente anteriore gli viene il sospetto che abbia un bridge cioè che la coronaria si infili dentro il muscolo come al solito quando l'ho detto mi hanno detto che vedevo le travegcole e invece no è vero perché lui ha un ponte miocardico non clamoroso ma molto evidente questa attacca fatta dal professor Andrini vedete che la coronaria qui è bella grossa c'ha i suoi rami poi si diventa sottile e poi diventa di nuovo un po' più grossa la coronagrafia conferma che ha un ponte vedete qui come la coronaria si strozza entra la coronaria nel muscolo si strozza poi riesce e va bene facciamo uno test funzionale con la dobutamina che è un inotropo per voi giovani aumenta la contrattività del cuore e l'IFR che un indice particolare tende a dimostrare che c'è ischemia soggetto all'ST che è sottosivella e anche oppressione precordiale sei mesi dopo sei mesi dopo che sei mesi dopo il ponte miocardico non c'è più si vedono bene anche i flussi nelle diagonali qui vedete che bel colore rosso c'ha questa coronaria e si prende anche il flusso nella coronaria qui la dottoressa Cavarretta vorrà sapere come ma quello che vi colpisce è che dopo l'intervento di debridging cosa ha fatto il chirurgo il chirurgo molto bravo molto bravo veramente molto bravo a cuore battente ha scollato la coronaria ha tolto il pezzettino di muscolo che c'era sopra vedete che la coronaria ha ripreso fiato il calibro della coronaria si è raddoppiato questo è un caso molto particolare ne abbiamo anche altri però ci insegna passare perché sono sono voglio dire poi passa il messaggio che tu i bridge li devi utilizzare no li devo operare il bridge ti dico solo questa era l'ultima diapositiva che ci sono punti e punti quelli così forse è meglio che li aggiustiamo un pochetto quelli così ci possiamo andare con la macchina è finito da cui si dimostra che quando si va avanti con le tasse diventa poco sintetici abbiamo sforato di mezz'ora beh comunque valsa sicuramente la pena anche sforare allora adesso abbiamo un coffee break che è diventato un brunch che è previsto per moderatori relatori medici specializzanti gli studenti per ovvi motivi di numerosità non è possibile il brunch coffee break è ci diamo 20 minuti quindi cerchiamo di stare qui per l'una meno un quarto è al primo piano sulla terrazza al primo piano quindi seguite l'OSSES per andare velocemente però tutti gli iscritti esclusi gli studenti è il primo piano allora dato i tempi molto stretti invitiamo tutti a prendere posto anche perché c'è il professor Corrado che tassativamente per impegni concomitanti deve iniziare la sua lettura alle 13.30 quindi noi abbiamo dei tempi molto molto stretti però non vogliamo limitare questa parte che è una parte veramente molto interessante noi teniamo come avete visto anche nelle presentazioni che sono state fatte fino adesso l'attenzione al mondo della pratica clinica dei casi clinici e quindi è con tantissimo piacere che abbiamo con il professor Romano condiviso questa scelta di invitare tra i relatori dei casi clinici i nostri masterizzati loro sono diventati master in cardiologia dello sport qui all'Aquila in un percorso difficile di un anno ancora in epoca Covid con incontri salti soltanto in maniera telematica ma ce l'abbiamo fatta il percorso formativo è stato un percorso stimolante per loro ma anche per noi hanno avuto dei maestri molti avete sentito di parlare oggi quindi è stato veramente un percorso molto molto stimolante ed entusiasmante lascio la parola al mio comodicatore se voleva introdurre lui la sessione grazie abbiamo fatto questa scelta quindi è una sessione che testimonia un po' il lavoro fatto nel master quello che sarà fatto dai colleghi che stanno svolgendo il master quest'anno quest'anno diamo una decina di minuti ciascuno per esporre un po' il frutto del loro lavoro e poi abbiamo i commenti degli esperti che come avete potuto apprezzare nella prima parte sono non solo esperti direi molto esperti quindi do la prima la parola per primo al dottor Zeffrino Palamà il caso clinico e l'ambiente clinico è quello dell'elettrofisiologia mappaggio elettronatomico della gli angi della stratificazione delle cardiomiopatie prego Zeffrino grazie buongiorno a tutti vi ringrazio ovviamente per tutto quello che abbiamo fatto e facciamo insomma come cardiologia dello sport cercherò di essere anche breve parliamo appunto di mappaggio elettronatomico nelle cardiomiopatie parte il caso parte dalla mia esperienza durante la frequenza della parte pratica del master dello scorso anno io lavoro a Taranto quindi ho frequentato nel centro di medicina dello sport di Taranto ho incontrato e ho imparato anche a conoscere i diversi atleti anche con le diverse caratteristiche psicologiche psichiche questo è un atleta di 38 anni atleta sportivo agonista facente parte del rowing club di Taranto quindi un'attività di endurance ad alto impegno cardiovascolare e sono andato a recuperare un tracciato del 2015 adesso ve lo spiegherò quindi 10 ore a settimana di allenamento in mare è un'idenietà che veniva concessa nel 2015 quindi 6 anni prima dell'evento di quando l'abbiamo visto quindi a 32 anni con un semplice step test con questo elettrocardiogramma che veniva risultato normale veniva riflettato normale in realtà ha un BBD che non è proprio così tipico non si riesce a recuperare nella storia se avesse effettuato o meno un ecocardiogramma c'è stato poi il covid il paziente aveva avuto problemi familiari non si era allenato o meglio si era allenato ma non aveva fatto l'idoneità arriviamo al 2021 beh al 2021 mettiamo rifacciamo l'ECG e troviamo questa bella sorpresa un blocco di branca destro assolutamente atipico anche con una tendenza all'emiblocco posteriore sinistro quindi un ECG di base francamente patologico ma anche un'extrasissolia ventricolare monomorfa molto particolare in cadenza bigemina quindi si decide seduta stante di effettuare subito un ecocardiogramma ecocardiogramma che mostra un'effe depressa intorno al 35% e anche un ventricolo destro non brillante andiamo avanti il paziente viene ricoverato immediatamente nella struttura in cui lavoro BESPCR troponina tutto negativo decidiamo di sottoporlo immediatamente vista la disfunzione ventricolare sinistra a una coronarografia risultata normale impostiamo quindi una terapia per lo scompenso cardiaco bisoporlo 2,5 sacubili balsartan 24-26 non titolabile ulteriormente per pressione bassa e del carrenato di potassio da 50 mg il problema è che questo paziente mostra un quadro aritmico abbastanza instabile perché mostra 25.000 extrasistoli al giorno con tachicardie ventricolari non sostenute viene fatta una cosa di cui non concordo praticamente mai che è quello di fare il carico di amiodarone ma è anche un modo per prendere del tempo carico di amiodarone e V le aritmie persistono ovviamente il percorso diagnostico deve assolutamente andare avanti deve andare avanti ci organizziamo per effettuare la risonanza cardiaca in un centro tra l'altro fuori dalla struttura nel quale lavoro il paziente arriva in risonanza ma ha un attacco di panico decide quindi in nessun modo di sottoporsi alla risonanza magnetica cardiaca tra l'altro risonanza che come ben sapete necessita anche della collaborazione del paziente per una corretta esecuzione quindi desistiamo siamo costretti a tornarcene indietro in ambulanza ARTIM dopo un ARTIM decidiamo di sottoporre il paziente quindi a una manogra invasiva cioè sottoporre il paziente a uno studio elettrofisiologico intracavitario con un mappaggio elettroanatomico blanda sedazione accesso venoso utilizziamo un sistema che ci permette anche di mappare e qui non voglio entrare in tecnicismi ma di mappare in maniera molto dettagliata il tessuto miocardico con un catetere particolare ed effettuiamo la mappa di voltaggio del ventricolo destro innanzitutto la mappa bipolare e lo spiego per chi non è del campo solitamente le mappe bipolari ci danno un'espressione della qualità del tessuto quindi attraverso la misurazione del voltaggio punto punto raccolto dal sistema di mappaggio noi siamo in grado di definire qual è il tessuto sano e qual è il tessuto malato con un codice colore questo è il ventricolo destro con la regione di afflusso e poi di afflusso quello che vedete in viola è un tessuto sano quindi normalmente tutto il tessuto dovrebbe avere il codice colore viola cioè dovrebbe essere sano ma questo è un tessuto che ha questo aspetto ghepardizzato cioè un aspetto con colore rosso e grigio cioè di tessuto malato con dei voltaggi molto bassi tra l'altro effettuando anche una mappa unipolare che quindi guarda dal singolo elettrodo all'elettrodo di riferimento quindi un campo più largo la mappa unipolare ci mostra che è anche il tessuto al di fuori del cuore particolarmente malato specie sulla regione anteriore del tratto di efflusso che è una delle regioni sospette e tipiche anche della bio della cardiomiopatia ritmogio di cui parleremo mentre effettuando la mappa sia unipolare che bipolare del ventricolo sinistro come possiamo vedere il codice colore era tutto sommato uniforme tutto sommato viola quindi il tessuto del ventricolo sinistro era elettricamente sano abbiamo poi fatto anche una manovra terapeutica e questo ne avevamo discusso cioè quella di cercare di eliminare il focus dell'aritmia attraverso un mappaggio dell'aritmia ventricolare che veniva trattata attraverso una serie di erogazioni tra la regione posterosettale del ventricolo destro è la regione della cuspide coronaria sinistra e della cuspide coronarica sinistra questo è l'ECG uscito di sala il paziente continua ovviamente ad avere un ECG di base anomalo ma lo abbiamo tra virgolette pulito dalle aritmie e questo è l'ecocardiogramma sette giorni dopo l'ablazione cioè avendo eliminato il trigger delle aritmie abbiamo almeno recuperato otto punti di frazione di iniezione del ventricolo sinistro e anche tre punti di funzionalità del ventricolo destro questa è una due camera abbiamo poi effettuato un ECG alter di controllo senza miodarone siamo scesi a 600 extrasistoli ventricolari polimorfe e quindi dopo aver discusso e quindi dopo un'osservazione di una decina di giorni abbiamo deciso di dimettere il paziente con una diagnosi che è ancora una zona grigia come ne parlavamo prima perché di fatto non l'abbiamo data una diagnosi ablazione di terchicardia ventricolare non sostenuta in disfunzione ventricolare sinistra esiti miocarditici punto interrogativo cardiomiopatia ritmogena coronari indenni all'esame contrasto grafico dimesso in beta boccante con metaprololo carreonato di potassio ed saccupri di valsaltano e qualcuno qui potrebbe obiettare e perché non avete impiantato un paziente del genere beh devo dire che anche se avessimo considerato il paziente con una diagnosi certa di cardiomiopatia ritmogena della quale non eravamo sicuri all'epoca siamo a cavallo tra una classe 2A e una classe 2B perché tutto sommato il paziente non aveva mai sincopato aveva sì una disfunzione ventricolare ma avevamo un'effe in salita quindi ci stavamo spostando verso una una classe di evidenze nella quale l'ICD may be considered ma non era assolutamente da considerare come prima istanza e tra l'altro il paziente poi ci ha sorpreso perché 90 giorni dalla dimissione si è sottoposto però alla risonanza magnetica cardiaca è riuscito a farlo probabilmente dopo un po' di training autogeno completo recupero della frazione di aiezione del ventricolo sinistro ma discinesia dei segmenti medi della parete libera del ventricolo destro e piccole ma diffuse aree di delete enhancement subepicardico a livello della parete libera del ventricolo destro e del setto anteriore medio basale e quindi tutto sommato il paziente ci ha fatto la diagnosi ci ha fatto la diagnosi però l'EFE ha completamente recuperato quindi tutto sommato la decisione di non impiantare almeno all'epoca al momento il defibrillatore è stata probabilmente confortata dal fatto che l'EFE è ancora in salita il paziente però ci ha fatto la classica domanda lo sport lo sport assolutamente no questo perché sappiamo che la cardiomiopatia ritmogena è la cardiopatia che ha più correlazione tra progressione fenotipica e continuare l'attività fisica strenua e è questo il follow up di stagione perché è proprio un alter che il paziente mi ha portato il 4 ottobre che ha messo il 4 ottobre del 2022 e devo dire che tutto sommato siamo soddisfatti perché continua ad esserci solo una sporadica extrasistolia ventricolare con solo tre coppie l'unica cosa che non avevamo fatto all'epoca è che abbiamo deciso di fare nel follow up di stagione anche alla luce di quello che come società italiana di cardiologia e dello sport ci diciamo è quello di fare una ricerca dei geni mirata proprio alla ricerca dei geni per la cardiomiopatia ritmogena e della quale siamo in attesa ovviamente dei risultati quindi concludiamo facendo qualche piccola riflessione uno l'ECG di base non era già normale nel 2015 probabilmente questo paziente non doveva scappare e avere un'idoneità solo con uno step test ma avrebbe meritato almeno un oltere un ecocardiogramma fatto per bene da notare l'evoluzione elettrocardiografica nei sei anni e quindi ricordiamo sempre che i pazienti vanno visti anche nel tempo e quando c'è un ECG anomalo probabilmente vanno visti anche i pregressi perché l'ECG è progredito da un BBD atipico a un BBD più EPS e questo non è un segno positivo il mappaggio elettroanatomico ci ha dato un indirizzo sulla diagnosi non eravamo certi sicuramente ne abbiamo migliorato l'outcome perché abbiamo eliminato il focus aritmogeno la risonanza è stata solo successiva ci ha confermato la diagnosi sulla prevenzione del rischio di morte improvvisa siamo in una zona grigia abbiamo deciso ancora di proseguire il follow up e vedremo vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie Zefferino anche per ricordare le due origini con questa bellissima diapositiva e Zefferino tra l'altro è un oltre a essere un nostro masterizzato e anche un diarie della società italiana di cardiologia dello sport a questo punto invito per una breve ma esauriente trattazione al palco il dottor De Masi De Luca di Maglie un altro dei nostri masterizzati che ci presenterà un altro caso clinico qual'è il file a te Gabriele grazie buongiorno a tutti ringrazio il professor Scharra e il professor Romano per il cortese invito questo caso clinico che esporrò viene strapolato da una popolazione di pazienti nell'ambito di un lavoro svolto proprio in ottica del master appena conseguito in cardiologia dello sport una popolazione di pazienti atleti che venivano da una recente infezione da SARS-CoV-2 e che venivano studiati nell'ambito del protocollo del return to play implementato anche da un'indagine ecocardiografica a tappeto a tutti gli atleti anche con l'analisi specul tracking della rilevazione del global longitudinal strain e porterò un caso clinico all'interno di questa popolazione il caso è quello di un atleta agonista di 34 anni un ciclista nel settembre del 2021 presenta una infezione da SARS-CoV-2 paucisintomatica o moderatamente sintomatica febbre per 48 ore tosse insistente per circa 7 giorni e poi una negativizzazione dopo circa 21 giorni nell'ottobre del 2021 dopo un mese viene la nostra osservazione per il protocollo Retour to Play ovvero quel protocollo di indagini strumentali che servono per far reintegrare il nostro atleta alla pratica agonistica il paziente si presenta sintomatico riferiva solo saltuario cardiopalmo l'obiettività nulla da segnalare l'elettrocardiogramma adesso lo vedremo è sovrapponibile agli elettrocardiogrammi eseguiti durante i periodici controlli per l'idoneità alla pratica agonistica presentava un'asse simile a quello dei precedenti elettrocardiogrammi e la presenza di un unico evento ectopico ventricolare il test da sforzo ovvero il cicloergometro un brus modificato non mostrava anomalie particolari solo rari bev come si identificavano nella fase di riposo senza alterazioni particolari l'oltre ECG di questo paziente mostrava numerose extrasistoli ventricolari prevalentemente di due morfologie con una isolata tripletta anche in questo caso siamo andati a dividenziare negli elettrocardiogrammi precedenti e nei test ergometrici precedenti del nostro atleta e non vi era menzione di eventi ventricolari nella sua storia di decennali periodici controlli per idoneità sportiva abbiamo effettuato un'analisi di questo paziente ecocardiografico era noto un falso tendine ma in realtà la sua funzione contrattile era perfetta non vi erano di sinergie segmentarie e notavamo un GLS sensibilmente ridotto sappiamo bene come vi sia una netta differenza nel post covid in una popolazione confrontata con chi non ha avuto il covid in cui si ha una sensibile variazione del parametro GLS vedete da una parte 19.17 più o meno per i pazienti nel post covid del valore di GLS confrontati con la popolazione generale dove se andiamo poi a suddividere i pazienti con il GLS di sotto di 16 vedete che la maggior parte dei pazienti erano pazienti che venivano da una recente infezione da covid quindi una correlazione stretta tra la riduzione del parametro GLS e la recente infezione da covid questo probabilmente può essere spiegato da un danno sistemico un meccanismo infiammatorio sistemico sul muscolo cardiaco questi sono i dati del professore Sabbasso che ha mostrato come la maggior parte dei pazienti vi fosse un infiltrato un infocitario tipico delle infezioni infiammazioni sistemiche diffuse come può succedere in qualsiasi tipo di altro stato infiammatorio infettivo ma vi sono anche delle come ben sappiamo tanti lavori che hanno dimostrato come vi sia un danno diretto del coronavirus nei confronti delle cellule miocardi che danno che è espresso fenotipicamente in maniera differente a seconda dell'espressione più o meno presente dal recettore ACE in alcuni pazienti rispetto ad altri pazienti quindi il nostro paziente è un atleta agonista di 34 anni un ciclista con una recente infezione a covid-19 paucisintomatica che presentava una ritmia extrasistorica ventricolare possiamo dire complessa dove non vi era in anamnesi la menzione di eventi ventricolari in periodici controlli annuali che il paziente osservava con un ecocardiogramma che se ci limitiamo all'analisi standard non presentava anomalie di rilievo ma con un globo a longitudina strain ridotto e quindi di fronte a una situazione del genere i casi diciamo importanti della medicina dello sport e della cardiologia dello sport sappiamo bene come i miocarditi possono essere dietro l'angolo ed essere spesso in molti casi sia nella popolazione generale che negli atleti tra le cause della morte improvvisa in varie statistiche e registri questo è uno che è stato già citato italiano anche nel registro statunitense dove non è un fenomeno raro quello della genesi della morte improvvisa attribuita alle miocarditi il nostro paziente è stato studiato con la risonanza magnetica che ha mostrato una lesione miocarditica nella regione laterale medio apicale probabilmente alla base della genesi di quelle aritmie complesse ventricolari e di quel GLS tendenzialmente ridotto questo registro mi ha molto colpito e lo correlo con questo caso clinico un registro di giovani studenti negli Stati Uniti tantissimi giovani circa 9.000 e di questi giovani 2.800 erano positivi all'infezione della Covid avevano avuto una recente infezione della Covid e di questi 1.900 erano stati studiati con una risonanza magnetica che cosa brevemente hanno dimostrato gli autori che a seconda della strategia che veniva messa in atto per valutare questi pazienti nella parte sinistra osserviamo una strategia più soft nella parte centrale e quindi una strategia che oltre alla valutazione clinica ha anche le indagini strumentali di primo livello come possono essere il nostro protocollo retro to play e nella parte destra risonanza magnetica a tappello vedete che a seconda delle strategie che venivano messe in atto conservativa clinica conservativa più analisi strumentali di primo livello risonanza magnetica la percentuale di miocardite che veniva riscontrata era completamente differente 0,31% se adottavamo un meccanismo di valutazione conservativa 1,1% se ci aggiungevamo esami di primo livello e 2,3% sempre la stessa popolazione se la screenavamo con una risonanza magnetica a tappeto quindi probabilmente il concetto della miocardite subclinica anche in pazienti giovani e paucisintomatici non è qualcosa di effimero di poco conto e se abbiamo di fronte questo è un altro caso clinico che magari può essere abbastanza eclatante per esempio la presenza di foglietti pericardici spestiti la presenza di un versamento pericardico o di una ritmia ventricolare complessa durante la prova da sforzo ci può far indirizzare la risonanza magnetica in maniera molto più semplice abbiamo poi invece delle situazioni come questa in cui abbiamo tutto sommato un giovane atleta di 19 anni con una presentazione pausi sintomatica dove abbiamo 1200 extrasistoli sotto sforzo non vi sono eventi aritmici un ecocardiogramma completamente normale e un GLS di 16% perché questo giovane atleta di 19 anni deve avere un GLS di 16% se noi ci fermiamo alle valutazioni standard sfido chiunque ad andare a portare questo paziente a svolgere la risonanza magnetica probabilmente questo parametro ci ha spinto in maniera un po' più efficace a svolgere la risonanza magnetica che ha mostrato una piccolissima lesione a livello laterale medio e ne ha dato prova della volontà del nostro operato anche una rivalutazione a distanza di 6 mesi dove il GLS si è completamente normalizzato dalla nostra esperienza di queste valutazioni che vengono da un calderone di una popolazione di circa 100 pazienti abbiamo valutato come questi due parametri cioè gli eventi ventricolari che magari prima non erano stati si erano espressi fenotipicamente e il parametro GLS possono essere degli elementi predittivi per cercare di implementare quelli che sono il nostro appamentario strumentale per cercare di andare a indirizzare i nostri pazienti a chiedere una risonanza ed eventualmente evidenziare i fenomeni biocarditici silenti vi ringrazio grazie passiamo alla terza presentazione il dottor Venditti l'argomento è simile ma come vedete molto di attualità quelli legati alle infezioni da covid e le possibili biocarditi gli raccomando il tempo poi invito già gli esperti a preparare mentalmente un commento che faremo questi commenti finali a chiusura di questa sessione prego Gorinda grazie a tutti grazie al professore per l'invito anche io vi presento un lavoro che abbiamo fatto nell'ambito del master con la nostra unità operativa ci siamo basati per poter nello studio sostanzialmente per capire per andare a valutare quegli atleti agonisti che hanno avuto un'infezione asintomatica o pausisintomatica da SARS-CoV-2 che è la stragrande maggioranza degli atleti che venivano comunque sia da noi talvolta anche con un po' scocciati passatemi francesismo di dover rifare eventualmente questi esami e perché abbiamo fatto questo? Perché purtroppo come letteratura c'è poco non si sa bene su queste persone che ha avuto un Covid senza asinti o con pochi sintomi se possono avere una qualche problematica o meno noi abbiamo scelto anche questo argomento perché? Perché se andiamo a vedere i dati del i dati instat nel mondo a gennaio 2022 sono stati coinvolti circa 318 milioni di persone e di questi l'80% proprio in modo asintomatico o pausisintomatico quindi parliamo di circa 254 milioni quindi ci siamo chiesti ma c'è un rischio oppure no? C'è il rischio che sviluppano delle aritnie oppure no? Il Covid può avere eventualmente un tropismo per una coronaria oppure no? In definitiva c'è un fattore di rischio cardiovascolare abbiamo arruolato 135 atleti agonisti con un'infezione asintomatica o pausisintomatica che sono venuti nel nostro centro chi sia per fare la prima certificazione chi per fare il return to play di questi erano 107 sotto i 40 anni 28 sopra i 40 e divisi in due corti quelli senza sintomi e quelli con sintomi studiati queste persone che avevano avuto un tempo di guarigione Covid medio a 22,9 settimane quindi in quello che chiamano il long Covid chiaramente abbiamo escluso chi ha avuto un Covid grave e anche quelle persone che prima del Covid avevano già avuto delle problematiche extrasistoliche sono stati chiaramente valutati con il protocollo chiaramente in essere della FMSI che cosa abbiamo chiaramente visto in questi atleti che allora da un punto di vista extrasistolico ventricolare abbiamo visto sia il riscontro di aritemi semplici come ad esempio dei battiti ectopici ventricolari però che abbiamo messo una regola che devono essere almeno due battiti ectopici in 6 secondi a un ECG normale oppure almeno 10 battiti in un minuto a un ECG porter e abbiamo visto dei battiti ectopici ventricolari delle coppie ventricolari una tagliardia ventricolare ed un ritmo idioventricolare accelerato se siamo andati chiaramente a vedere in entrambe le corti non abbiamo avuto per le singole aritemie dei dati statisticamente significativi però se andiamo a valutare però questa incidenza delle nostre aritemie che abbiamo visto all'interno del campione abbiamo visto che nella nostra popolazione l'8,14% aveva avuto chiaramente questo tipo di sviluppo il 6,66% a livello maschile e 1,48% nelle donne andando poi ultimamente a vedere all'interno delle due corti che cosa abbiamo visto che chi aveva avuto un Covid con un po' di sintomi quindi pausi sintomatico effettivamente aveva avuto più eventi chiaramente aritmici e anche quelli chiaramente più gravi quindi che nel nostro lavoro sono state le coppie ventricolari e le tachicardie ventricolari non sostenute abbiamo poi cercato di vedere un'origine delle varie aritemie proprio per cercare di andare a vedere se ci fosse una qualche correlazione purtroppo non siamo riusciti a farlo per tutti quanti le aritemie che abbiamo visto perché abbiamo avuto un problema con il device quindi non abbiamo sempre avuto un'oltre a 12 derivazioni e da quello visto si è visto che il covid reato da questi nostri pochi dati non aveva nessun tropismo particolare in conclusione abbiamo avuto quindi questo limite da un punto di vista della strumentazione quindi per il nostro potete che purtroppo quella 12 non è stato sempre pronto non abbiamo avuto una correlazione di dati ematochimici perché un paziente ha avuto un covid asintomatico sviluppa una aritemia ventricolare e un altro invece no qui mancavano magari fare una correlazione con anticorpi antispica IgG e IgM specifici e quant'altro però qualche dato è emerso che è interessante perché il nostro 8,14% è congruo con dei lavori in letteratura in cui si vede che a livello internazionale nell'8,9% di pazienti o meglio di atleti che hanno avuto un'infezione asintomatica o pacisintomatica sviluppa chiaramente delle problematiche aritmiche e se prendiamo quel dato che vi ho detto all'inizio vuol dire che sono oltre 20 milioni di persone che possono chiaramente sviluppare questo tipo di problematiche quindi è giusto chiaramente fare dei controlli anche in questo caso maschi più colpiti rispetto alle donne congruo con quello che sappiamo dall'ISS che i maschi sono colpiti tre volte di più e anche una maggior severità clinica e anche il fatto che il nostro 8,14% che l'abbiamo avuto con come io ho detto in atleti che abbiamo valutato con un long covid è congruo perché l'OMS ci dice che il 10% degli atleti può sviluppare delle problematiche a 12 settimane dopo e questo è stato un nostro caso che abbiamo veramente valutato è una fortissima atleta di 45 anni professionista che è venuta nella nostra VOC a fare chiaramente il red un tuple aveva avuto un covid tre settimane prima ha detto di aver avuto sostanzialmente un raffreddore spossata stanchezza agli atti inferiori aveva soltanto fatto una classica terapia con fans prima e a 12 dopo e lei è venuta da noi dice sto bene ho ripreso ad allenare ma ancora ho le gambe stanche era questa la sua sintomatologia a livello anamnestico niente di particolare padre con ipertensione lieve allergia della mente a polveri che trattava con cortisonico al bisogno dice che è sempre stata bene in tutte quante le varie visite agonistiche in passato soltanto un riscontro di bradicardia che ci ha sottrinato nega farmaci droghe fumo e quant'altro visita medico sportivo in india anamnestica tranquillamente normale un piccolo chiaramente soffio a livello apico mesocardico il polmone normale visitiamo anche le gambe per vedere se ci fosse qualche problema io mi occupo anche di questo tipo di problematiche osse articolari non c'era praticamente nulla non ha fatto da noi la prima idoneità infatti il redone ci facciamo portare la vecchia certificazione la tetaridonia ha fatto un test sul treadmill ha fatto oltre 160 battiti quindi perfettamente normale nessun tipo di aritmie riscontrate viene da me gli faccio veramente un ICG noto subito questo importante bradigardia qua siamo a 35 36 c'è un'alterazione a livello V1 V2 V3 alzo comunque sia come il mio solito fare in questi casi anche al secondo spazio intercostale non ha scato nulla troviamo un'extasistore iniziale faccio un test da sforzo al cibergometro stiamo verso l'acme fa sostanzialmente un'extasistore interrompiamo a 155 battiti quindi all'80% perché dice proprio che le gambe non vanno non mi baso sull'85% ma se un atleta che va io cerco di portarlo fin quando un atleta può chiaramente andare per essere tanto più coerente con il suo sforzo anche in gara la mettiamo al riposo e nel recupero mi compare questo bigeminismo chiaramente venticolare riparlo di nuovo con la paziente sottolineando se avrebbe avuto mai problematiche aritmiche e la paziente comunque sia ribadisce che è la prima volta in assoluto che veniva chiaramente fuori un problema del genere chiaramente sospendo la paziente per fare degli ulteriori accertamenti faccio fare un ecocardiogramma che sostanzialmente era normale aveva un ventricolo a me veniva intorno a 5,075,1 un'alterata disfunzione piastolica di primo tipo che ci può stare in questa atleta di altissimo livello ventricolo destro con completamente limitava una TAPSE 2.1 quindi normocinetico una lieve insufficienza chiedo anche di fare delle analisi del sangue non appare chiaramente nulla da un punto di vista sull'emocromo indici infiammatori normali il dosaggio ormonale anche normale quindi vi faccio fare un orter l'orter esce praticamente se non vogliamo parlare 16 batti ectopici quindi nulla l'unico dato era che escono polimorfi rifa un igiemenismo e correlati con lo sforzo fisico a questo punto decidiamo di fare due cose però lei è una tre molto importante questo primo veramente riscontro c'era questa fatigabilità aveva comunque si è il copio ce la fai a chiedere in un minuto diciamo o ti fermi o fai un RM per vedere leggi non posso fermarmi facciamo un RM RM ne fa due perché la prima riesce a farla solo senza contrasto e il cardeco dice dobbiamo farla anche con il contrasto dice che non c'è praticamente nulla a questo punto quindi che fare è stato un cuore di atleta isolato il covid ha avuto un ruolo probabilmente entrambe chiaramente le cose stare quindi il messaggio da dire che il cuore di atleta c'è il covid potrebbe dare in questo problema ritmo adesso faremo il controllo e vediamo se persiste l'exasistoria oppure no grazie 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 anche per essere stati così precisi e così anche eventuali nei tempi allora chiamo in causa qui l'amico forse conviene chiedere Fabrizio Ricci vieni Fabrizio vieni intanto a tavolo con noi per una breve ma interessante discussione su questi casi clinici buongiorno a tutti grazie dell'invito a Luigi grazie Silvio e complimenti ai colleghi masterizzandi devo dire che l'imaging multimodale è al centro dei nostri terdiagnostici e questo sicuramente mi fa piacere mi occupo di risonanza magnetica in particolare ho notato che almeno nel primo o nel secondo caso la risonanza poteva essere in qualche modo dirimente o è stata in qualche modo utile però ecco volevo discutere anche con voi di quanto sia importante in termini di diagnosi ottenere quelle che sono davvero immagini accurate e credo che è un tema da dibattere mi dispiace che non c'è anche il professor di Cesare con il quale spesso ci incrociamo e ribattiamo sull'importanza di questo tema cioè di quanto debba essere accurato l'imaging della scar sappiamo che l'atenancement oggi è all'interno di numerose flowchart diagnostiche per cui è importante che davvero l'imaging sia accurato e nel caso in uno dei casi che abbiamo visto ecco lì dove c'era quell'immagine che si riferiva ad una possibile scar del ventricolo destro ecco che qualche dubbio può sorgere questo perché il ventricolo destro chiaramente ha uno spessore molto ridotto sono circa 2-3 mm e lì è molto difficile valutare quello che è il deposito del gadolinio sono soggetti che spesso al termine di un esame che se diventa piuttosto lungo fanno fatica a mantenere delle apnee adeguate e quindi questo spesso può essere anche forviante importante ad esempio nel caso del ventricolo destro che è una non infrequente causa di referral per la risonanza magnetica ad esempio fare attenzione a quelli che sono gli spessori di fetta del ventricolo di acquisizione questo può drammaticamente cambiare quello che è il rate di call di late enhancement oppure no questo è un punto sul quale mi piace ribattere come anche oggi saranno sempre più disponibili gli algoritmi che tendono a correggere quella che è l'immagine spesso abbiamo distorsioni che sono secondarie a quelle che sono proprio le apnee che non riescono ad essere completate dal paziente importante è che ci siano degli algoritmi di correzione di immagine che in qualche modo stimano quella che è un'immagine finale sintetica molto più accurata ecco su questo punto batterei parecchio quindi è importante per il cardiologo per il medico dello sport che si trovano di fronte a queste interpretazioni prendere confidenza anche con la qualità delle immagini saper riconoscere gli artefatti come dicevo agli specializzanti di Chiedi che sono qui con me oggi e quindi questo è un punto altro punto importante è questa pandemia nella pandemia di miocarditi ecco che quel lavoro bellissimo di Giamma Cardiology forse però era limitato dal fatto di non avere una corte ad esempio di pazienti con altri tipi di virosi non c'è una corte ad esempio di pazienti con progressa influenza non sappiamo qual è davvero il burden di esiti di miocardite e quindi un problema che mi viene in mente è quante miocarditi noi stiamo chiamando nel retranoplay che sono in realtà esiti di possibili eventi anche passati quindi l'imaging dell'edema ecco un secondo punto è importante perché ci consente di stadiare quindi correlare evento clinico con quella che poi è davvero l'esigenza di interpretare fare una diagnosi puntuale e quindi capire a che punto siamo della malattia se una miocardite è convalescente se è un esito finale e stabilizzato quindi questi due punti anche il GLS ci può aiutare però attenzione che nel post-covid magari siamo anche di fronte a pazienti con il cosiddetto green chart quindi vengono fuori da disidratazione periodi di dietet training chiaramente forzato anche se limitati che possono impattare nel precarico e quindi sappiamo che il GLS comunque è un parametro che ci aiuta ma non è del tutto precarico indipendente grazie le mie osservazioni grazie Fabrizio hai sollevato dei punti importantissimi poi invitiamo chi vuole di voi a prendere la parola a dare un commento intanto che magari uno di voi viene al palco intanto colgo la palla al bazzo perché è un altro esempio di quello che più volte stiamo ripetendo oggi avete sentito l'interazione fra cardiologo e genetista oggi fra cardiologo e radiologo in questo momento cioè l'aitmia in tutti questi casi non è un qualcosa di esterno al quadro clinico del paziente ma l'aitmia ci può guidare cioè da dove viene l'aitmia viene dalla parete posterolaterale del ventricolo sinistro viene dalla parete libera del ventricolo destro cioè una cosa è che abbiamo un carico di aritmia sotto sforzo che viene dalla parete libera del ventricolo destro e forse il radiologo se gli andiamo a dire guarda cercami bene dove io sospetto che ci sia una malattia può avere anche un occhio più attento uno cerca quello che trova quello che riesce a cercare ovviamente quindi sicuramente sono dei vasi comunicanti che si devono parlare sì io mi sento chiamato in causa per il discorso del GDS che nel nostro centro di cardiologia e medicina dello sport usiamo molto e quindi quando si hanno delle popolazioni abbastanza importanti numericamente non dico le popolazioni del professore seppilli ma comunque abbiamo una buona mole di pazienti allora iniziamo ad avere un pochettino anche di dimestichezza sul correlare diversi aspetti nessuno vuole diciamo etichettare il GDS come il parametro che dà la svolta però messo in un contesto di diversi parametri tra cui la litimia extrasistolica ventricolare che prima non c'era e il GDS può essere quel qualcosa in più che ci può dare magari in delle zone grigie un orientamento verso una forma più conservativa nel liter diagnostico oppure un po' più incisiva e gli studi lo dimostrano nel post-covid rispetto alla popolazione generale il GDS si modifica per tanti motivi anche per il lavoro dell'abbasso che ha mostrato come ci sia una infezione sistemica un'infiammazione sistemica che coinvolge la struttura e la funzionalità cardiaca l'altro determinante è che in questi pazienti che adesso noi stiamo vedendo a distanza di 6 mesi il GDS si normalizza è vero che riprendono l'attività quindi cambiano tutto un insieme di funzioni fisiologiche ma di pari passo della ripresa contrattile si ha quindi noi vediamo spesso che si ha questo miglioramento anche di questo parametro che ripeto non deve essere inteso come un parametro che da solo può dare chissà quale informazione ma nell'ambito ripeto di un contesto multiparametrico può essere anche importante grazie abbiamo ancora qualche minuto qualche commento dagli altri esperti il professor Zeppilli il professor Estapenko allora penso che il professor Sciata voleva fare un buonissimo commento a Zeffaino al dottor Palamà su una cosa che ci condividi perché poi ne parliamo spesso anzi quasi quotidianamente al telefono di questi aspetti sul fatto che mentre abbiamo oggi e su questo dobbiamo ragionare secondo me anche in futuro abbiamo dei mezzi che ci consentono in buona in buona percentuale di identificare queste patologie abbiamo una penuria di dati in prevenzione primaria avete visto i punti interrogativi cioè quando abbiamo scoperto una scala idiopatica del ventricolo sinistro in un paziente che non ha avuto un evento con un arresto cardiaco che cosa dobbiamo fare per proteggerlo è un libro aperto è tutto da scrivere noi percepiamo che questi pazienti hanno un elevato rischio ritmico lo abbiamo dimostrato alcuni in particolare ma in quale fetta di questi pazienti si è indicato mettere un defibrillatore in prevenzione primaria è completamente aperto è argomento che deve essere discusso e studiato approfonditamente prego Zeffaino levo un tuo commento visto che ne abbiamo parlato nel caso la sensazione che ho che quel paziente che ha 39 anni è poco più grande di me prima o poi lo impianterò e spero di impiantarlo prima e non vederlo poi questo perché sto cercando delle risposte sto cercando una risposta dalla genetica e poi un'eventuale evoluzione aritmica probabilmente mi spingerà a essere un pochino più protettivo aggressivo devo dire che col seno del poi perché poi qui sono passati da quando l'ho messo sul tavolo e sono passati ormai dieci mesi col seno del poi probabilmente gli avrei fatto un'inducibilità ventricolare all'epoca e non è detto che al primo sintomo la prima presincope e i primi vertigini non lo rimette sul tavolo per cercare qualcosa per poi proteggerlo in sicurezza di contro non possiamo impiantare tutti quelli che passano senza motivo anche perché come sappiamo bene gli impianti non sono a rischio zero e anche su questo sul valore prospettico dell'inducibilità in questi contesti è più una cosa che facciamo a sensazione ma senza un supporto di letteratura a sostegno questo dimostra quanto ci sia quanto quello che prospettiamo oggi è una finestra aperta a chi vorrà fare ricerca in questo campo in futuro c'è tanto ancora da scoprire grazie grazie per questa finestra aperta sul master andiamo avanti con l'ultima parte della giornata ecco si è collegato il professor Corrado il professor Corrado è il professore ordinario di malattie dell'apparato cardioscolare dell'Università di Padova responsabile del centro regionale specializzato per le cardiopatie cardiopatia ritmogene erido familiari è stato presidente della società italiana della cardiopatia dello sport ed è soprattutto un grande esperto della materia di cui gli abbiamo chiesto di parlare la cardiopatia ritmogena una storia italiana una storia che parte da lontano che lo ha visto assolutamente protagonista e lo testimoniano le sue pubblicazioni non sto qui a citare i numeri delle pubblicazioni dell'Impact Factor che sono altissimi lo saluto e lo ringrazio per aver accettato di partecipare al nostro convegno è la lettura di chiusura quindi chiudiamo sicuramente completando in bellezza tante cose belle che abbiamo ascoltato oggi ti saluto con la parte di Luigi Sciarra che è qui che ha organizzato il convegno di Maria Penco che è la coordinatrice del corso di Master di Cagliologia dello Sport e ti do volentieri la parola e ascoltiamo la tua lettura grazie ancora Corrado non ti sentiamo bene mi sentite mi sentite sì molto bene bene allora un grazie a Silvio Luigi e a Maria per questo grandissimo invito per questa lettura sulla cardiopatia aritmogena del ventricolo destro tra parentesi come vedremo una storia italiana quasi 35 anni fa il nostro gruppo il gruppo di Padova per primo descrisse che una malattia che colpiva caratteristicamente distinzionamente il ventricolo destro rappresentava una causa leader di morte improvvisa nel giovane e nell'atleta come vedete le immagini istologiche parlano chiaramente di una malattia caratterizzata da una perdita del muscolo della perdita del ventricolo destro sostituita dal tessuto fibrodiposo oggigiorno noi sappiamo che questa malattia è una cardiomiopatia geneticamente determinata caratterizzata dal punto di vista fenotipico della presenza di una cicatrice fibrodiposa che colpisce il ventricolo destro ma come vedremo non solo dal punto di vista genetico la cardiomiopatia ritmogena è caratterizzata da alterazioni da un difetto dei geni che codificano per le proteine che costituiscono i desmosomi che sono delle strutture specializzate che rendono ragione della aderenza dei miociti tra di loro quindi sono delle strutture diciamo di adesione meccanica sostanzialmente anche se hanno poi una funzione di signale biologico che è altrettanto importante in accordo con quella che è la teoria meccanica una volta questi desmosomi geneticamente difettosi predispongono a una rottura di queste cerniere intercellulari del miocardio e conseguentemente a un distacco dei miociti i quali a loro volta vanno incontro una volta staccati a un processo di degenerazione e necrosi con successiva sostituzione fibrodiposa tutto questo avviene e viene favorito da condizioni che aumentano lo stress parietale del ventrico destro come le condizioni per esempio di attività sportiva intensa e per questo che questa cardiopatia aritmogena rappresenta diciamo uno del diciamo lo sport lo sport rappresenta uno dei fattori forse il fattore ambientale più importante che favorisce l'espressione fenotipica promuove l'espressione fenotipica della malattia ne accelera la progressione e poi ovviamente può aggravare il substrato e provocare aritmia di energi dipendenti nel corso dell'attività fisica che possono portare anche ad arresto cardiaco a morte improvvisa qual è il profilo clinico del paziente con il fenotipo originario della malattia cioè la cardiopatia aritmogena del ventricolo destro come tutti sapete la malattia si manifesta elettrogradericamente con alterazioni della riportazione ventricolare invertita nelle derivazioni che esplorano il ventricolo destro da 1 a 4 ma anche oltre un allargamento del cuoreste probabilmente nella parte terminale questo che noi definiamo terminal activation delay quindi un ritardo di attivazione terminale la presenza di onde epsilon alla fine del QRS tra QRS e segmento ST o aritmia con morfologia tipo blocco di blanca sinistra che appunto ne venota l'origine del ventricolo destro e molto importante il rimodellamento a carico del ventricolo destro che appare dilatato globalmente disfunzionante quindi con una disfunzione sistorica complessiva ma ancora più importante ancora più caratteristica distintiva è la presenza di alterazioni della cinetica segmentaria come alterazioni come acinesia discinesia e bulging del ventricolo destro che come dire sono particolarmente specifiche per questa malattia la sostituzione fibrodiposa di cui abbiamo parlato può essere dimostrata anche in vivo mediante la biopsia endomiocardica nell'ultimo decennio ci sono state una serie di importanti informazioni per quanto riguarda diciamo il fenotipo della malattia e studi di patologia cardiovascolare studi di correlazione genotipo-fenotipo e soprattutto l'impiego sempre più frequente della risonanza magnetica-cardiaca con mezzo di contrasto hanno dimostrato che il ventricolo sinistro è frequentemente coinvolto dalla malattia e quindi vedete come il termine cardiomiopatia aritmogena ha progressivamente sostituito quello di cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro perché questo termine cardiomiopatia aritmogena è un termine più comprensible più ampio e meglio diciamo in grado di descrivere quello che è lo spettro fenotipico della malattia che appare più ampio rispetto alle descrizioni originarie in cui la malattia colpiva esclusivamente il ventricolo destro perché il fenotipo include anche questo spettro fenotipico varianti sinistre come varianti biventricolari e varianti che colpiscono prevalentemente il ventricolo sinistro dette anche cardiomiopatia aritmogena del ventricolo sinistro infatti attualmente noi definiamo la cardiomiopatia aritmogena come una malattia geneticamente determinata del muscolo cardiaco quindi una cardiomiopatia caratterizzata dal punto di vista patologico dalla sostituzione fibrodiposa del miocardio sia del ventricolo destro che del ventricolo sinistro e dal punto di vista clinico per una presentazione con artimi ventricolari che possono essere anche così gravi da portare ad arresto cardiaco a morte improvvisa la classificazione fenotipica prevede il fenotipo originario con prevalente o esclusivo interessamento del ventricolo destro diciamo il fenotipo biventricolare con interessamento di entrambi i ventricoli e il fenotipo sinistro detto anche cardiomiopatia aritmogena del ventricolo sinistro è curioso come vent'anni fa vedete la rivista art invitò il nostro gruppo a scrivere un review article sulla cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro per quella che era la sezione education in art che stava nascendo vent'anni dopo la stessa rivista ci ha invitato a scrivere un editoriale scusate un review article sempre per la stessa sezione education in art in questo caso però sulla cardiomiopatia aritmogena del ventricolo sinistro che è la variante emergente fenotipica emergente della malattia che pone problemi di gestione di diagnosi di gestione dei pazienti effetti qual è il profilo clinico della cardiomiopatia aritmogena del ventricolo sinistro cioè quando la malattia colpisce il ventricolo sinistro invece che il destro ecco vediamo che dal punto di vista elettrocardiografico molto spesso siamo in grado di mostrare dei bassi voltaggi nelle derivazioni periferiche in ciascuna delle derivazioni periferiche la presenza di onde T invertite in sede laterale precordiale sinistra ma anche inferiore a livello diciamo delle derivazioni periferiche aritmia con morfologia blocco di branca destro perché in questo caso originano dal ventricolo sinistro e molto interessante è questo rimodellamento del tutto particolare del ventricolo sinistro che è un ventricolo sinistro definito che noi definiamo ipokinetic non dilated cioè un ventricolo relativamente piccolo con frazione lievemente ridotta ma la cosa più importante è che la risonanza magnetica con mezzo di contrasto queste alterazioni morfo funzionali sono in relazione a un'ampia componente cicatriziale e noi ovviamente dimostriamo evidenziamo mediante la tecnica dell'edrico di un enhancement che corrisponde esattamente alla fibrologia sostitutiva che noi possiamo documentare a livello istologico come in questo caso vedete che interessa la porzione più esterna della parete cioè il versante subepicardico e quindi ovviamente di natura non ischemica esistono dei geni che sono più frequentemente coinvolti nella genesi delle forme sinistre quando ovviamente difettosi che sono la desmoplachina per quanto riguarda i geni desmosomiali ma anche altri geni non desmosomiali come il fosforo ambano o la filinamina C questi geni sono più spesso associati a forme left side a differenza invece della placofilina C e altri geni desmosomiali che invece colpiscono o meglio sono associati alla forma destra variante destra questo è un ciclista di 39 anni deceduto improvvisamente allo screening alla visita dell'edonità medico-sportiva presentava vedete non aveva storia familiare di morte improvvisa o di cardiopatia era sintomatica però presentava vedete queste aritimie ventricolari con morfologia blocco di branca destro e asse superiore in questo caso anche in coppie questo era l'elettrocardiogramma caratterizzato da bassi lotaggi nelle derivazioni periferiche mentre l'ecocardiogramma era normale la risonanza magnetica cardiaca chiesta appunto per le aritmie mostrava la presenza di una cicatrice subepicardica non ischemica del ventricolo sinistro in sede inferolaterale che a quel tempo veniva considerata come una miocardite guarita questo atleta come vi dicevo è morto improvvisamente durante una gara e l'analisi istologica del miocardio ventricolare sinistro post mortem ha dimostrato la presenza dell'elettro di tessuto fibroso cicatriziale nella regione subepicarica del ventricolo sinistro esattamente in corrispondenza del ledo dell'inemansment visto alla risonanza magnetica cardiaca la cosa interessante è che in questa vittima di morto improvvisa l'analisi genetico molecolare post mortem ha dimostrato la presenza di una doppia mutazione a carico della desmogreina e della desmocollina che sono i geni che codificano per i desmosomi quindi per la cardiomiopatia aritmogena come dire tutto questo questa cicatrice che ovviamente sembrava una post miocardica di fatto è una cicatrice cardiomiopatica diciamo lo studio morfo funzionale strutturale di antirisionanza magnetica cardiaca e anche clinico è stato esteso a rimanenti membri familiari ed è stato dimostrato che la cardiomiopatia etimogena era di natura familiare interessava anche altri membri familiari questo invece è il caso del calciatore Morosini che tutti conoscete morto improvvisamente durante una gara e questo era il suo elettrocalogramma diciamo durante la visita medico sportiva vedete come c'era una tendenza ai bassi voltaggi ma di fatto l'elettrogramma veniva considerato normale e l'autopsia con l'analisi istologica del mio cardio ventricolo sinistro ancora una volta vedete dimostrato la presenza di questa cicatrice subepicantica non ischemica del ventricolo sinistro e per quanto riguarda il ventricolo destro la presenza anche di foci di sostituzione fibrodiposa molto segmentaria e quindi era una forma diciamo left dominant con un interessamento solistologico del ventricolo verso una forma biventricolare anche in questo caso quindi una cicatrice nel contesto di un'accademia epitiatomagina biventricolare l'allargamento dei confini diciamo dell'espressione fenotipica della malattia ha portato ovviamente a richiesto un adattamento un aggiornamento di quelli che sono i criteri diagnostici per questa malattia perché se noi consideriamo il criterio del 2010 scusate nel 1994 i primi criteri diagnostici e i successivi diciamo revisionati nel 2010 noi vediamo che entrambi questi score system erano stati disegnati per la diagnosi della malattia del ventricolo destro mentre vediamo adesso ovviamente che c'è un coinvolgimento del ventricolo sinistro e quindi vedete come questa report diciamo di esperti internazionali pubblicato nel 2019 su European Art Journal che ha cercato di fare una revisione critica di quella che era la performance dei criteri diagnostici del 2010 ha dimostrato come la maggiore limitazione ovviamente di questi criteri era appunto la mancanza di criteri specifici per la diagnosi delle forme diciamo left-sided left-dominant per le che interessano il ventricolo sinistro e strettamente collegato a questo la mancanza tra i criteri dei reperti di caratterizzazione di tisutare mediante risonanza mediatrica cardiaca che peraltro sono determinanti ai fini della dimostrazione del coinvolgimento del ventricolo sinistro che invece molto spesso si presenta nonostante la presenza di cicatrice normale dal punto di vista morfo funzionale quindi eco-normale ma risonanza patologica per la presenza di gadolinio nel 2020 diciamo questa analisi critica della performance dei criteri diagnostici nel 2010 ha portato all'elaborazione di criteri aggiornati che sono appunto definiti criteri di Padova non perché siano diciamo come dire esclusivamente usati dai cardiologi di Padova ma semplicemente perché sono nati a Padova ma sono stati poi revisionati e condivisi come potete vedere da un panel di esperti internazionali e qual è la differenza sostanziale rispetto agli scorsi stami precedenti che i criteri di Padova non potevano che ovviamente fornire dei criteri diagnostici non solo per il ventricolo destro ma anche per la malattia del ventricolo sinistro fornendo per ciascuna categoria di questi criteri diagnostici queste alterazioni morfo funzionali strutturali elettrocardiografiche aritmi e così via dei criteri specifici per la camera interessata e come vi dicevo la cosa importante è stata l'introduzione dei reperti di caratterizzazione di situazione mediante risonanza magnetica cardiaca che per quanto riguarda la diagnosi di cardiomepatia ritmogena del ventricolo sinistro quindi il fenotipo sinistro diventano particolarmente importanti e sono un criterio maggiore ovviamente come sentivo precedentemente è estremamente importante che la caratterizzazione tessutale sia molto accurata infatti vedete come si parla di una conferma in due proiezioni ortogonali della cicatrice in modo da non creare dei falsi positivi e delle diagnosi delle misdiagnosis questo è un esempio che mi piace far vedere perché dimostra come i criteri di Padova cioè i nuovi criteri fanno la differenza per quanto riguarda l'evidenza la diagnosi di forme sinistra vedete questo è un atleta con questo elettrochilogramma che presenta solo bassi voltaggi nelle derivazioni periferiche non ci sono alterazioni della riproduzione ventricolare evidenti in sede precordiale non ci sono disturbi di conduzione il cuorese è stretto non è evidente una dilatazione importante una disfunzione importante del ventricolo sinistro e del ventricolo destro e quindi questo non viene intercettato questo fenotipo dai criteri del 2010 che erano criteri per il ventricolo destro viceversa in accordo ai criteri di Padova questo atleta ha una forma di ventricolare definitiva che si basa sulla presenza di bassi voltaggi del QRS la acinesia regionale a carico del ventricolo destro e la ipocinesia regionale del ventricolo sinistro ma soprattutto vedete la presenza di gadolinio biventricolare come vedete in questa short axis vedete queste immagini di segnale di intensità aumentata sia a carico della regione subepicale che al ventricolo sinistro ma soprattutto vedete anche a carico del ventricolo destro quindi una forma biventricolare una volta dimostrato che il fenotipo soddisfa i criteri diagnostici è importante stabilire la variante fenotipica e cioè se la malattia ha una forma dominante destra biventricolare o dominante sinistra e questo avviene ovviamente sulla base della dimostrazione dei vari criteri molto importante è che in accordo ai criteri di Padova qualsiasi diagnosi di variante fenotipica della malattia deve presentare almeno un criterio maggiore o minore morfo funzionale o strutturale questo è perché abbiamo a che fare con una malattia con una cardiomepatia strutturale non con una canalopatia e quindi non è sufficiente avere una mutazione genetica una variante genetica e un'alterazione elettrochilografica ma dobbiamo anche dimostrare che la malattia quando è espressa dal punto di vista fenotipico in maniera completa deve presentare anche delle interazioni morfo funzionali e strutturali poi come dire la diagnosi di destra di ventricolare o sinistra avverrà sulla base dei criteri diciamo la relativa percentuale di criteri per ventricolare destro e sinistra nel particolare nello specifico fenotipo terzo step è quello della caratterizzazione elciologica cioè dell'identificazione della causa di questo fenotipo di cardiomepatia ritimogena e a questo proposito è determinante il test genetico molecolare associato anche con lo screening clinico familiare diciamo dei membri familiari del proband lo screening quindi genetico molecolare clinico ci permette di identificare una serie di situazioni quella in cui la malattia è una malattia una cardiomepatia in relazione a un'alterazione genetica desmosomiale in cui la malattia è legata a mutazioni di geni non desmosomiali ma sempre specifici per la malattia e una forma in cui diciamo familiare però senza identificazione di un'alterazione genetica nota e quindi cosiddetta gene elusive se invece diciamo sia il test genetico molecolare che lo screening familiare sono negativi noi abbiamo a che fare con delle forme diciamo con delle fenocopie cioè delle varianti acquisite della malattia che sono in grado di riprodurre il fenotipo genetico della malattia con le quali dobbiamo come dire che dobbiamo differenziare fare una diagnosi differenziale con le forme genetiche ma si tratta effettivamente di una diagnosi differenziale o più correttamente dobbiamo parlare di una identificazione di varianti fenotipiche perché il cosiddetto report internazionale del 2019 ha proposto una classificazione ziologica della cardiomiopatia aritmogena che si basava sul principio sulla dimostrazione che il fenotipo della cardiomiopatia aritmogena che è caratterizzato da una componente fibrotica miocardica importante prominent e della propensione a sviluppare dell'aritmia ventricolare questa è una malattia che meglio sarebbe definita come scarring piuttosto che aritmogena perché primariamente è cicatriziale secondariamente aritmogena dunque questo fenotipo è condiviso da malattie di ziologia diversa cioè abbiamo sia delle forme genetiche desmosomiali che probabilmente rendono la giunta del 40-50% ma abbiamo delle forme genetiche non desmosomiali e soprattutto abbiamo delle forme acquisite molto spesso di natura infiammatoria come diciamo post-miocarditica o sarcoidotica e così via quindi come dire questa è una visione più ampia e ziologica in cui anche le cicatrici post-miocarditiche possono essere lette interpretate come forme di cardiomiopatia aritmogena cicatriziale se lo diamo acquisita e al pari diciamo delle forme genetiche e questo sono delle immagini molto suggestive a questo proposito perché guardate queste sono immagini di risonanza magnetica post-contrasto e analisi istologiche della parete del ventricolo sinistro in malattie diverse la prima si riferisce vedete a una distrofia muscolare A e B la seconda C D a una cicatrice post-miocarditica e la terza è F a una cicatrice cardiomiopatica in relazione al difetto della desmoplachina non siamo in grado di distinguerle né dal punto di vista dell'imaging né dal punto di vista istologico e quindi come dire questo è un dato che ovviamente supporta il concetto che abbiamo a che fare con un fenotipo omogeneo unico che è condiviso da etiologie diverse la vera diagnosi differenziale della cardiomiopatia ritmogena del ventricolo sinistro è verso cosa? verso la cardiomiopatia dilatativa perché attenzione la cardiomiopatia dilatativa non è una scara in cardiomiopati cioè non è una cardiomiopatia caratterizzata da necrosi miocitaria e da sostituzione cicatriziale la cardiomiopatia dilatativa è il risultato di un deficit di un'alterazione della contrattilità dei miociti che risultano integri dal punto di vista strutturale ecco vedete questo è un caso di cardiomiopatia dilatativa vedete che è andato in conto al trapianto ECG blocco di blanca sinistro completo risonanza magnetica cardia che mostra un ventricolo sinistro molto dilatato con disfunzioni sistoliche importanti qui non evidente perché ovviamente l'immagine è un frame fermo e vedete come la componente cicatriziale minima pecci cioè sicuramente la disfunzione dilatazione ventricolare sinistra non è conseguente alla cicatrice la piccola cicatrice è un epifenomeno e anche istologicamente vedete il mio cuore è spiantato si dimostra che la fibrosi è intestiziale mentre i miociti sono assolutamente preservati diversa è la situazione della cardiomiopatia aritmogena del ventricolo sinistro sempre un caso dato in conto al trapianto bassi voltaggi nelle derivazioni periferiche e poi guardate il ventricolo è relativamente piccolo la disfunzione istolica e lieve ma c'è una componente ring-like come la definiamo adesso diciamo semi-circonferenziale o quasi-circonferenziale di cicatrice non ischemica che interessa il sub-epicardio e poi istologicamente come abbiamo fatto vedere anche in precedenza della presenza di fibrosi miocardica nello stato più esterno della parete che va a sostituire i miociti rispetto alla cardiomiopatia dilatativa la fibrosi miocardica nella cardiomiopatia aritmogena che colpisce il ventricolo sinistro è caratterizzata prima di tutto da una lecolizzazione che colpisce prevalentemente la parete libera specialmente nelle regioni inferolaterali e il versante sub-epicardico rispetto alla dilatativa che più spesso colpisce il setto e la regione medio-murale o medio-miocardica ma soprattutto la differenza sta nella quantità perché come dicevo prima la cardiomiopatia etimogena è una scala in cardiomiopati con percentuali di sostituzione della massa miocardica che arrivano al 25-30% laddove la cardiomiopatia dilatativa non supera il 10-11% questo è un altro esempio guardate una cardiomiopatia dilatativa con dilatazione ventricolare sinistra e disfunzione sistolica importante severa e guardate ancora una volta come la cardiomiopatia nelle sequenze post-contrasto ci sono dei piccoli foci diciamo pecci di fibrosi sicuramente diciamo non causa della disfunzione e della dilatazione ventricolare sinistra in altri termini questi focolai di fibrosi sono certo non in relazione a quella che è la disfunzione sistolica del ventricolo sinistro laddove invece nella cardiomiopatia etimogena del ventricolo sinistro con ventricolo ipokinetic non dilatid vedete una ampia componente cicatriziare che in questo caso è sì la causa della disfunzione sistolica bene e questo concetto può essere come dire chiaramente tradotto in termini matematici in termini statistici quando mettiamo in evidenza come vedete vi è una correlazione diretta tra entità dell'ebiodine enhancement della filosi miocardica e severità della disfunzione sistolica tanto più importante la componente di gadolinio tanto più bassa è la funzione sistolica per la cardiomiopatia etimogena del ventricolo sinistro mentre per quanto riguarda la cardiomiopatia dilatativa vedete che non esiste nessun tipo di relazione tra cicatrice e disfunzione sistolica del ventricolo sinistro la maggior parte delle forme di cardiomiopatia etimogena del ventricolo sinistro rientrano in quella che viene appunto definita ipokinetic non dilatidico e caromaiopati e non certo tra la cardiomiopatia dilatativa che è una malattia che è completamente diversa dal punto di vista patobiologico l'ultimo aspetto velocissimamente riguarda la stratificazione del rischio e l'indicazione del defibrillatore impiantabile del paziente di cardiomiopatia etimogena nel ventricolo destro ovviamente l'indicazione è condizionata da una curata stratificazione del rischio che identifica i pazienti che devono essere trattati e qual è la migliore terapia per questi pazienti che non è solo il defibrillatore ma è anche la modificazione dello stile di vita per esempio la restrizione dell'attività sportiva l'impiego di beta bloccanti che non solo proteggono l'aritmia di energetico dipendenti ma anche riducono lo stress parietale che abbiamo visto essere un fattore che può promuovere e aggravare la malattia l'abellazione trascatetere per le forme con tachicardia ventricolare sostenuta e poi il defibrillatore che è l'unica terapia che si è dimostrata in grado di prevenire la morte improvvisa mediante la interruzione di aritmie pericolose per la vita voi sapete che esiste sia la variante intracavitaria o intravenosa scusate intravascolare come si suol dire e a fronte di questa sempre più frequente diventa diciamo impiantiamo invece dei fibrillatori sottocutanei che specialmente in un giovane sono dei fibrillatori che diciamo sarebbero del preferire proprio perché sono caratterizzati da un follow up pressoché privo da quelle che sono le complicanze legate al catetere quindi la lead failure la stratificazione del rischio si basa sulla presenza ovviamente di fattori rischio più o meno pesanti noi identifichiamo una categoria ad alto rischio con l'incidenza di eventi pericolosi per la vita arresto cardiaco e morte improvvisa maggiore del 10% sono quelli che hanno già avuto degli eventi aritmici di prevenzione secondaria qui il defibrillatore va impiantato e per contro ci sono invece dei pazienti con diagnosi della malattia ma senza fattori di rischio abduro gli alti gincari con l'incidenza di morte improvvisa inferiore a 1% per anno per i quali il defibrillatore non è indicato e poi in una situazione di rischio intermedio con pazienti con fattori di rischio maggiori per i quali l'indicazione del defibrillatore è 2A e specialmente in questo caso si tratta di pazienti con tecchia di ventricola non sostenuta disfunzione del ventricolo destro sinistro o di entrambi i ventricoli moderata e quindi in questo caso vedete l'indicazione è 2A mentre l'indicazione è 2B per i pazienti che hanno sfattori di rischio ma considerati minori vi ringrazio per l'attenzione grazie 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 veramente Domenico ci scusiamo anche per il ritardo con cui abbiamo fatto il collegamento grazie veramente perché ci hai dato un panorama del tutto completo su una malattia importante ci hai anche insegnato come le conoscenze progrediscono ci sorprendono e le tecniche moderne ci aiutano molto nella diagnosi oggi abbiamo parlato in questo convegno molto di genetica e di risonanza applicata in particolare alla cardiologia dello sport e la storia della cardiomopetia ritmogena soprattutto nella sua valutazione della sua espressione del ventricolo sinistro nelle differenziazioni diagnostiche con la cardiomopetia di radiativa è un esempio di quanto possono essere utili queste metodiche se ben indicate ben utilizzate so che hai un impegno tra pochi minuti devo scappare esatto ti ringrazio ancora per l'attenzione ti ringrazio veramente ti ringraziamo veramente con un nuovo applauso grazie a presto grazie ancora siamo arrivati grazie domenico siamo arrivati alla conclusione l'ultimo momento prima dei ringraziamenti invito a parte gli studenti tutti gli altri colleghi adesso compilarlo non soltanto i medici che hanno bisogno del legge che hanno bisogno insomma che è necessario per l'ECM ma anche gli specializzanti e i dottorandi perché questo evento è tra i primi che l'università dell'Aquila come provider ECM ha fornito e quindi anche un ritorno dal punto di vista della capacità formativa ci interessa quindi vi invito a rimanere quei dieci minuti in più per la compilazione dei questionari anche gli specializzanti di L'Aquila di Chieti e i dottorandi penso che sia stata una bella giornata una bella mattinata interessante ringrazio un attimo solo studenti ringrazio veramente tutti di cuore anche a nome degli altri organizzatori del professor Sciarra dalla professoressa Penco ringrazio veramente per la partecipazione e sono certo che questo sarà solo uno dei primi eventi fatti come provider ECM dell'Università dell'Aquila e fatti come ambito della cardiologia e della cardiologia dello sport si è ricominciati a vederci in presenza è stato un evento frequentato per la presenza e mi auguro di averne altrettanti ancora in presenza in quest'anno e nell'anno prossimo e ancora in futuro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti